Ragazzi, si fa? Si fa o non si fa? 3... 2... 1... Dai con questo hype train, che è questo livello 3! Buon poveriggio a tutti amici e videospettatori e benvenuti in questa leggendaria live di Diamante Lucente Perla Splendenti! Se non vedete chiara è perché qui accanto a me sta finendo di esportare la recensione che esce oggi pomeriggio E let's go! No, 1% di hype train! È il no possibile! Si che si va avanti, livello 4! Ragazzi! Che bella festa! Che bella festa quest'oggi! Che vivremo tutti insieme! No, non c'è l'opening ragazzi, no, la sigla! La sigla no, ma magari se va avanti in maniera insomma sentita la live con Michele Facciamo lì la sigla E no, ora qui la sigla non si può mettere Questa è... è stato sempre un contenuto senza sigla Ragazzi, quel che faremo oggi Doppio gameplay Li vedrete entrambi Poi vediamo se farveli anche sentire entrambi Nel senso che a un certo punto proviamo a disattivare la musica di Chiara E a fare in modo che... Tra l'altro aspettate, eh Metto la camera specchiata, mi turba il fatto che siamo al contrario Ehm... Propriet... no, trasforma Dov'è? Trasforma Ehm... ruo... no Capovolgi orizzontalmente Ecco, molto meglio Dicevo ragazzi, scusatemi Ehm... Chiara accanto a me, esatto, è un momento mistico di ricordi Stavo spiegando che giocheremo il gioco in doppio gameplay Chiara a un certo punto proverà a abbassare la musica Tenendo però il sound font Sta venivando per la pizza Il sound font per... Diciamo i suoni Senza però sentire la musica Vediamo se sono compatibili Vediamo se si riescono a tenere entrambi attivi Senza che diano fastidio Altrimenti si sentirà solo il mio audio Ragazzi Oggi sarà una grande festa lunghissima Perché andiamo avanti da adesso fino a quando non mi viene sonno Quindi io vi direi che almeno le 3-4 di notte le facciamo in serenità Grazie Simone91 delle sub in regalo Faremo tante cose Se state giocando diamante e perla Giocatelo insieme a noi Questo è il consiglio Perché faremo sfide tra di noi Io vi sfiderò ogni tot Metterò un codice Poi Avremo anche la possibilità Di esplorare insieme i grandi sotterranei E qui lo dico Amici miei Qui lo dico Tutti i sub potranno partecipare all'attività dei grandi sotterranei Che dovremo però improvvisare al momento con una password Perché non sappiamo ancora Come funzionerà Le attività online Sono state aperte oggi Ma faremo una sfida Team Sidonia contro Chiara a tempo Quindi un gruppo di Team Sidonia Verranno con me nei grandi sotterranei Con una password Un gruppo di Team Chiara con un'altra Andranno nei loro sotterranei di merda E faremo la sfida Chi cattura entro X tempo più Pokémon Ma contemporaneamente anche Chi scava più Billy Quindi ragazzi Se volete giocare con noi È una figata Mettetevi di impegno Non portate di alga Per catturare i Pokémon Dovete essere al pari nostro Se no vi clicchiamo Però Sarà molto figo Insomma Io ho già iniziato Vi aspetto a sabbia fine Bella lì Poi ovviamente Se avete già finito il gioco Perché l'avete speedrunnato stanotte Mettetevi dei Pokémon livello 20 Mettete dei Pokémon al nostro livello Così che Non si sbilanci tutto Quindi I sotterranei online Ne ho mai provati Spero semplicemente Che non crashino Troppo spesso Questo perché ragazzi Il primo giorno Di online Come tutti i videogiochi Il primo giorno di online Ci sono Dei momenti di incertezze E questo ci si può fare poco Uscirà anche la recensione Su Evriai Tra circa un'oretta E Sempre oggi Eh ora vedo Che c'è stato qualche problema Nell'online Ma ragazzi è normale Vediamo come va Io Tanto abbiamo 12 ore 13 ore 14 ore Quei che saranno Quindi non vi preoccupate Insomma cercheremo Di fare le sessioni Quanto più lunghe E soprattutto funzionali possibile Dicevo Se giochi così tanto Poi con Michele che si fa Ragazzi E se ricomincia con Michele Cioè con Michele si fa da capo Non è che Io voglio finire Tra oggi Domani E dopo domani Io voglio finirlo Ma lo finiamo raga Perché servono 30 ore Oggi facciamo almeno metà gioco Secondo me oggi Arriviamo almeno alla quarta palestra Forse di più Comunque dicevo Sì sì Michele Anche domani Si andrà nei grandi sotterranei Lo faremo dopo domani Non vi preoccupate Giochiamo sempre nei grandi sotterranei Intanto 85% Del live train A livello 4 Quindi 15% Per sfondarle Andare a livello 5 Per questo Day 1 Di diamante lucente Per la splendente Lasciate che in questa introduzione Che non può che essere lunga Che non può che essere lunga Come tutte le introduzioni E intanto che scaldate i motori Io vi guidi Ok In quello che sarà proprio l'obiettivo Chiave Della run Di oggi Domani Dopodomani Insomma Della riscoperta Che faremo Di diamante lucente Per la splendente O l'anima XD Con Chiara Allora Ecco Chiara Che ha portato anche il cibo Ma il cibo facciamo dopo Non ti preoccupare Ragazzi Un per cento Del livello 4 Bravissimi Quindi Come funzionerà la storia Faremo tutto il gameplay Non ci Diletteremo In opere di completismo Quindi Per capirci Non faremo Le gare Il super gare show In tutte le difficoltà O non faremo Tutti quanti Lo sblocco E tutti i bolli O la cattura Dell'intero Dex Disponibile Nelle grandi palude Ma Ci concentreremo Ovviamente Sulla storia Vi dico Subito Avendolo già giocato Non è una blind La mia Perché l'ho recensito La recensione esce tra poco Sia in formato video Che non Ve le spammiamo entrambe Poi durante la diretta Quando sono pronte Il tempo che Chiara Vada a esportare il video Perché veramente Credo un minuto Manca per esportare il video Di montaggio Così esce alle 3 Praticamente preciso A meno che ovviamente YouTube non faccia il porco Detto questo Livello 5 Intanto il live train E si gode ragazzi Grazie Sì Abbasso la musica Ecco qua Abbassata Anche se poi non è la musica di gioco Questa è una musica presa da YouTube Quindi poi vediamo Io spero che chiaramente Tutti quanti coloro Che siano titubanti Sull'acquisto Scelgano di salire Sul carro Del videogioco Vedendo il nostro streaming Per giocare insieme Chiaramente come sempre Secondo me questi streaming Servono in un senso E nell'altro Nel senso che guideranno Il vostro acquisto O meno se non è ancora Stato effettuato Io vi dico Riassumendo Ok Vi faccio un riassunto Della recensione Che uscirà Ma veramente rapida Level design di Sinnoh Piporittissimo Level design di Sinnoh È il migliore di Pokémon E me l'ero scordato È incredibile Come cazzo è fatta Sinnoh Graficamente parlando Il gioco è una mina E Spada e Scudo Li prende proprio a cazzotti Nei denti La difficoltà del gioco È molto accessibile E l'art style Non mi fa impazzire Questo è il riassunto Della recensione Quindi bene alcune cose Meno bene altre Come sempre Il voto poi Lo scoprirete Nel corso del tempo C'è da dire Guardate Credete Chiara in blind Ah aspettate Aspettate Questa cosa è importante Io non sono blind Chiara sì Chiara in blind Le musiche sono incredibili Le musiche Sono state Non Modificate nei sound font Ma riarrangiate Alcune hanno delle percussioni Precedentemente assenti Hanno fatto un lavorone Con le colonne sonore Dicevo Il condivide esperienza Non è disattivabile Dicevo Chiara in blind Quindi non fate spoiler Non fate spoiler Perché Chiara in blind Mi raccomando ragazzi Mi raccomando Longevità Una delle caratteristiche Più vincenti di questo titolo Questo titolo è enorme Nel senso che C'è tutto il postgame Diamante e perla Non quello di platino Ma quello di diamante e perla Che c'era in principio Ma c'è anche roba nuova Vi dico che Con questa roba nuova Mi è dispiaciuto Non avere il parcolotta Ma le ore di gioco Da spendere in postgame Non mancano Rispetto alle ultime Tre uscite di Pokémon Mainline Questo gioco ha Quattro volte il postgame Degli altri Quindi La longevità È top Difficile dire Se il LCA Si è promossa o bocciata Venice Doomed Ne parliamo magari Durante il corso Del gameplay Diciamo che Ve l'ho detto Dipende da chi è stata L'idea di fare Gli allenatori Quella testona Che sapete Che non li ho graditi Forse qui Sarebbe La vera software house Da promuovere È Game Freak Per l'idea Che ha avuto nel 2006 Perché Le idee avute nel 2006 Rimangono L'aspetto vincente Di questi remake La base alla quale Si appigliano Ostrogoto 90 Allora Fedenelli Ti rispondo subito Un motivo per il quale Giocarlo l'ho trovato Si chiamano Grandi Sotterranei Lo leggerete nella recensione Lo vedrete nel video Vi parlo un anno Dei Grandi Sotterranei Perché Ci sono stato tipo 7 ore Dentro Di 30 ore Che ci ho messo A finire il gioco Sono una droga Questi Grandi Sotterranei Mi dovrete fermare Durante la live Perché altrimenti Ci sto Per tutto il resto Della live Non devo Ma sono veramente Incredibili Sono veramente divertenti Sono pieni di attività Da fare E secondo me Multiplayer Fanno scappare Dalle risate Però La recensione C'è tra un'oretta Però ecco Chiaramente È È la mia opinione Quindi poi bisognerà vedere Come vi trovate voi Con i Grandi Sotterranei Sono grandissimi Sì Grandi Sotterranei Sono enormi Sono un'altra mappa Di Sinnoh Però con dentro Degli antri Delle caverne Tanti Pokémon Diversi Che si aggiornano Medaglia dopo medaglia Finendo il gioco Poi Uff Io ho catturato Bulbasaur Nei Grandi Sotterranei Alla fine del gioco Nella recensione Pensate un po' E tra l'altro Per il modo in cui Ve lo farò Vivere Godere I Grandi Sotterranei Saranno Ehm Tuccio Non sono cazzate La storia è uguale Ragazzi Come Rispondo Al 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 Commento Forse Secondo me Un po' sgarbato Sì ok Ma a parte le cazzate La storia No ragazzi Un gioco si valuta In primis anche per il gioco Non è una cazzata I Grandi Sotterranei Sono una parte fondamentale Del Del gioco Esattamente come L'artstyle Esattamente come la grafica Esattamente come gli FPS Che rimangono solidi Esattamente come il level design Come i dungeon Non è che le cazzate E poi c'è la storia La storia è uguale La storia è uguale Ma Ci sono Dei Momenti Dei dialoghini Dei segretini Che ci faranno discutere In live Come vi dicevo Il focus di questa diretta Sarà parlare Di quei momenti Di Quei frangenti Nei quali Effettivamente Subodoreremo 30 FPS Stabilissimi Graniteci Per chi chiede degli FPS Fermi immobili Dicevo In particolare A un certo punto Arriveremo A una boss fight Segreta Spero Non la spoilerate Ragazzi Venite bannati Perché voglio Farla scoprire Con lo stesso Gaso Con cui l'ho scoperta io C'è una boss fight Segreta E quella boss fight Segreta Mi ha fatto pensare Forse Su Leggende Pokémon Arceus Parleranno Di una cosa Magari Non è così Potrebbe anche Essere Esatto Dario Moccia Potrebbe anche Essere Una roba Come dire Solo Fino a se stessa Però mi sembra strano Per un motivo Che non sto a spiegarvi Ora perché se no Va a spoiler Quindi ci arriviamo Per me il teaser A leggende Pokémon Arceus Sapete che ogni gioco Ha un teaser Quasi sempre Per il gioco successivo Secondo me Quello lì è il teaser Di diamante Eh sì Vabbè il cazzo Di leggende Pokémon Arceus Ho mandato a Ferdi In chat tra l'altro I link Da spammare In chat su Facebook Da spammare qui con il bot Se volete acquistare Diamante Lucente Per la splendente E magari raggiungerci Sia in physical Che ovviamente In digitale Ma lì non c'è bisogno di link Basta Li shop Allora Credo che Chiara Abbia quasi finito Io Ok sta per mettere la musica Quindi ci siamo quasi Ah Altra cosa Molto importante ma Mentre mangio Uno stick di pollo Non c'è uno sconto Purtroppo ragazzi Sappiate che ho provato In tutti i modi A farvelo avere Questo sconto Ma purtroppo Non ce n'è la possibilità Tranquillo Serdi Non ti preoccupare Con calma È uno stick di pollo Di Domino Spitz Non ho pranzato Allora Chiara giocherà il gioco In inglese Chiara giocherà il gioco In inglese Chiara Ma sì assolutamente No Perché non volevo chiamarmi No Non c'è niente Selezione della lingua Ok Chiara lo giocherà in inglese Perché voglio controllare Alcuni dialoghi Vi dico subito Che nella biblioteca di Canalipoli Non ricordavo un dialogo E a un certo punto Mi ha preso un colpo Ma Un dettaglio di quel dialogo Che devo assolutamente Vedere in inglese Perché non l'ho visto In inglese Mi farà propendere Verso il farvi una supposizione O no Ferdi sa Anche per le mosse Tu le sai in inglese E lei no Devo giocarlo io in inglese No raga Giocare il gioco con l'au Però è vero Hai ragione Ferdi Se no poi Chiara Giustamente Ma tanto io le mosse Non le sa neanche in italiano Chiara dice Le mosse non le sa neanche in italiano No no Vabbè Vabbè Se no lo gioco io veramente In inglese Però Vabbè Vabbè Mo ci pensiamo Mo ci pensiamo ragazzi Mo ci pensiamo Mo appena Chiara Appena Chiara Esporta Capiamo Dicevo quindi Nella biblioteca di Canalipoli C'è Una parte che è proprio nuova Eh si C'è una parte nuova Acquoripoli Ci sarà da fare un discorso Su una roba Molto importante Che poi voglio Scoprire con Michele Come andrà Quindi aspettatevi Oggi sicuramente Ci fermiamo Acquoripoli Cioè non ci fermiamo Nel senso che chiudiamo Oggi Acquoripoli A un certo punto Ci stiamo 40 anni Perché c'è una roba Acquoripoli Particolarissima Che non so Se avrà Al solito ragazzi Non spoiler C'è la gente Che non ha giocato Cazzo Quindi non spoilerate Se l'avete già visto Se l'avete Non lo dite Andiamo in chiesa A vedere una cosa Nella chiesa Non lo dite ragazzi Che cosa c'è E Discuteremo se Potrebbe o meno Avere Un senso Ok C'è una cosa C'è un elemento particolare Secondo me Ni Ma Le lastre hanno ancora Le descrizioni Sì assolutamente C'è anche il nano furtivo E Quella roba è pazzissima Allora Secondo me ni Secondo me anche quello È un teaserino Ma ci arriviamo Perché Ferdi Mi fai un favore Mi prendi Un'immagine La carichi su Mega Di quella cosa lì Che andremo a vedere Nei remake Ma nell'originale Ci servirà per fare Delle comparison A un certo punto Prenderemo La screen Full screen Proprio Del gioco Quindi faremo Questo schermo Diventerà uno schermo gigantesco Uno solo dei due E Faremo un confronto Con il gioco originale E capiremo delle cose Quindi Io sto per mangiarmi GameStop Preordino la fisica Oggi il mio ordine risulta 700 km da casa mia Ragazzi mi dispiace Purtroppo Insomma Siamo comunque in scia di covid E quindi non è semplice Anche se è vero Che queste cose succedevano pure prima Niente niente Tu esporta Non ti preoccupare Tra l'altro È assurdo Che Questo è Tutto oggi L'unico gioco pokemon Con una chiesa Guarda Solseleby Ne parleremo Il fatto che ci sia una chiesa E cosa rappresenti Quella chiesa Mi hai convinto a comprarli Ma traffo Manco ho cominciato Beh sono contento Allora Il fatto che ci sia una chiesa Non voglio anticipare Certe discussioni Che faremo oggi Ma il fatto che ci sia una chiesa È importantissimo Perché fino al Mio rigiocare Diamante perla Non ricordavo Che vi fossero testimonianze Di un culto particolarmente forte Accetto che per la stato di Evopoli A Sinno Ma in realtà c'è una chiesa Che in 3D è stata resa In modo particolare Con un'immagine specifica La vedrete E ci farà riflettere Su degli elementi Che non possono essere casuali E che verranno ripresi In Leggende pokemon arkeos Diamante lucente Perla splendente Story wise È Un'anticamera Di leggende pokemon arkeos Palese Ci sono certe cose Che tu le leggi e fai Ah cazzo Chissà come la renderanno In leggende pokemon arkeos In particolare Alcuni dialoghi di Evopoli Nei quali Eh ma la chiesa qui ragazzi Rispetto a altri giochi È proprio La chiesa di Quel tipo Di culto C'è salivan Esatto Entriamo Mi perdonerete ragazzi Se è temporeggio Ma voglio aspettare Che Chiara esporti Gamefic Gamefic potrà anche Fare giochi Ma noi continueremo A comprare lo stesso Perché ci vogliamo Male fisico Ragazzi Siamo così No vabbè No A parte che non è Gamefreak Anche questa ILCA Lo vedrete I giochi sono Chiaramente Promossi Un gioco Non promosso È un gioco Che prende 5 Quindi è promosso Il titolo È promosso Chiaramente Non possiamo aspettarci Una valutazione Una valutazione Che è Simile a un gioco Mainline Come Spade Scudo Anche solo Per il fatto Che c'è Lo difendo sempre Questo Elemento Della creazione Di giochi Pokémon E lo faccio Ancora una volta In introduzione Grazie Boboro Che sia buona Per il quarto mese Grazie a Murroro Ragazzi Se non vi ringrazio Tutti Vi chiedo scusa Ma oggi sarà Difficilissimo Siete troppi Quando si crea Una nuova generazione Si devono creare Nuove regioni Nuove locali C'è uno studio Proprio della terraformazione Dell'architettura Delle città C'è uno studio Dei nuovi personaggi C'è uno studio Dell'antagonista Della sua psicologia C'è uno studio Dei Pokémon Ragazzi Anche questo È qualcosa Che va tenuto di conto Grazie Ferdi Anche E quindi Quello concorre Alla valutazione Si dà per scontato È un po' come Quando Chiara Fa bene il montaggio Quando Chiara Fa bene il montaggio Nessuno si rende conto Che è un montaggio Fatto bene Comunque pochi Se ne rendono conto Perché semplicemente Funziona Ok Se i personaggi Facessero schifo Nessuno farebbe poi Fanart Su Lagurno Su Azzurra Salcazzo Nessuno farebbe fanart Su Grimmsnarl Su Potrebbero fare schifo I Pokémon Potrebbero fare schifo I personaggi Invece non lo fanno Quindi Quindi Ci sono Intanto ragazzi Mando adesso Un vocale A Giuseppe Arace Perché sono in live Ma giustamente Mi sto cercando Per una roba Quel tipo di lavoro Lì Purtroppo Non è stato possibile Apprezzarlo qui Perché chiaramente Non c'è un lavoro Di creazione Inedita E quindi è chiaro Che concorre Nella valutazione Il quanto hai fatto Partendo dal presupposto Che non c'era Un lavoro Di inventiva Da fare Ecco perché Vi dico che Secondo me Nei remake Tranne che per remake Veramente eccezionali Che rivedono il concetto Del gioco Comunque lo attualizzano In maniera devastante Siamo sotto Le valutazioni Di un gioco mainline A meno che il gioco mainline In questo non sia buggato O comunque non funzionale Non funzionante Un attimo solo Amici Io oggi sarò pieno di input E vi chiedo scusa Ecco Scusatemi 0 su 10 La calcolatrice Non funziona Assolutamente Chiedo a Chiara A che punto è? A che punto sei? 20 secondi Di video Mancano ragazzi Mancano 20 secondi Di video A proposito Cosa ne pensi Del famoso dipinto Che dovrebbe Teaserare Non a Gen Penso che la teaseri In realtà Penso che la teaseri Non sto scherzando Perché mi sono rotto il cazzo Di non pensare Che i dipinti Non teasino un cazzo Perché l'ultima volta Che l'ho fatto Teasavano Galar Io credo Che ci possa essere Un teaser A due nuovi leggendari In questo gioco Ve lo giuro Non sto scherzando Eh ora lo vedrete Tanto si vede In un botto di case E non è niente Non ricorda nulla Non si può entrare In quel dipinto Tanto al massimo Ci sbagliamo E non sono due leggendari Però Secondo me È un dipinto Molto specifico È stranamente specifico E Boh Vedremo È un dipinto strano È un dipinto strano Che non so se Era già presente Dentro i giochi originali Quindi vedrete Non è una notte stellata E basta Ci sono due creature dentro Dobbiamo solo controllare Se esistono i giochi originali Ma non credo Perché non potevano Per motivi tecnici Replicare la risoluzione Vedo che Chiara È in export Quindi sta per arrivare ragazzi 10 secondi e partiamo Se vuoi corro Si Ferdi Grazie Così Vi do la conferma definitiva Se non c'è nei giochi Vuol dire che l'hanno aggiunto apposta E allora Se ne parla Se ne parlerà anche abbastanza a lungo Saido ti vedo inaspettatamente contento Ragazzi Al di là di tutto Sono contento Perché viviamo questa esperienza insieme È super divertente Giocare insieme a Pokémon in live Che cazzo Io ho messo il sub goal a 4000 Oggi ovviamente Perché Non vedo l'ora Ho messo il sub goal a 4000 E si gode È stato creato con la Dark Souls Grazie Jupros Delle sub di regalo Grazie mille Ci si Mus? No No Devo mettere i video aggiunti I video aggiunti Ah ok Allora ancora non ci siamo Ragazzi Ancora qualche minuto di pausa Vi chiedo scusa Ma dobbiamo esportare il video Per fare in modo che esca La recensione oggi Sai È un mese Che cerco di dirti Della chiesa di Cuoripoli Ma mi ignori Come si fa con le ex E oggi non ti ignoro Però è perché Tanto l'avremmo visto Nel diamante lucente Per la splendente Intanto rispondo alle vostre domande Sul gioco Ok Mentre Chiara Inserisce questi ultimi video Allora La faction è tanto rotta? Sì La faction è uno dei motivi Per i quali Il gioco è fin troppo accessibile Cioè non è che accessibile Fin troppo facile Questo è il giusto In Nuzlocke con Michele Diventerà difficile Ma il gioco è Semplice È molto semplice È molto Proprio rilassato Da fare Fin troppo Bello che in un canale rinomato per Pokémon Anche quando si gioca a Pokémon Ormai si parla più di Dark Souls Vabbè ormai si parla di tutto ragazzi Abbiamo fatto Resident Evil Dark Souls Io voglio che ci sia questa contaminazione Qui di Dark Souls Perché di là da Michele Da martedì ci sarà la contaminazione Pokémon Guardate che ci sono Non so quante persone Che ci hanno conosciuto con Dark Souls Sono qui oggi Ma tante persone in fiera Sono venute da me dicendomi Non conoscevo Pokémon Ti ho conosciuto con Dark Souls Ma siccome mi è piaciuto Quello che avete fatto Sono andato a vedere i video di Pokémon E ora sono gasatissimo Per la lore dei Pokémon Quindi è bello Che tante persone abbiano scoperto la lore E ora non sono più in blind Perché hanno visto i nostri video E dovranno insomma Star zitte nella chat di Sabaccumartedì Io qui grazie a Firenze Ne vedo diversi Vedi? Ehm Qui insomma Ci saranno tante cose da discutere ragazzi A livello di lore Non vi preoccupate Se pensate che siccome la storia è uguale Non parleremo di lore Il cazzo C'è un botto di roba Tra cui appunto questo dipinto Che non vedo l'ora di vedere Io credo che il dipinto lo vedremo Nella prima città O nella prima o nella seconda Ma ragazzi Veramente rapida la situa Ehm Quattordici mesi insieme Ragazzi grazie Grazie a tutti Delle sub A profusione Che stanno arrivando Io ti ho conosciuto tramite Sabaccum E sul rimpianto Pog Pensare alle live di Platine Tempi di Siena Bei tempi E in realtà Qui insomma Si parlerà anche di quelle Hai trovato i video? Eh? Trovato i video Tutto a posto? Sto mettendo il primo di te E fantastico Davide scrive Franci sono uno dei tanti Che si aspettava molto di più Da questi remake Ma ho preso diamante E ci sto giocando adesso E risentire le vecchie musiche Mi hai fatto strappare un sorriso Ora con questo dipinto Mi hai fatto venire il pifo duro Io aspetto di sentire Ferdi Cosa ci dice Fra riesce a dirci una casa Dove hai trovato questo quadro? Boh La Raga Facciamo così Facciamo il check in live Appena lo troviamo Ma guardate E' pieno Questo dipinto E' spammato dappertutto E' un dipinto Con due creature Il mare E' quello che diceva Ferdi Perché i colori Ma a meno che non esista Quel quadro nel mondo reale Ehm Una critichina alle hitbox Degli ostacoli Tipo alberi staccionate E un continuo scontro E corse che si bloccano Guardate Le hitbox sono un po' bislacche Sono d'accordo con Davide E non solo Il movimento otta direzionale In una mappa Studiata in quattro direzioni Non è sempre agevole Più volte Lo vedrete anche Dalle catture che ho fatto Nel senso Le acquisizioni grafiche Per la recensione Corre a un certo punto Tud E mi fermo Perché non riesco a muovermi bene Otta direzionalmente In un magari Spazio stretto Che non prevedeva Originariamente Quel movimento otta direzionale Ragazzi Pochi minuti Il tempo che Chiara Finisca di mettere i video E pigia il tasto export Night Chameleon Scrive Appena comprato Pokémon Di avanti recente Tra poco si parte In bocca al luco Ma tanto Tra poco si parte Tutti Non vi preoccupate Tanto è anche presto Quindi Un'altra cosa Un'altra cosa Vi confermo Che Ho avuto la sensazione Che in diamante e perla Ma in realtà Non è una sensazione È una certezza In diamante e perla Cyrus Fancy Che sia i Pokémon Di Alga Palchia Ad aver creato l'universo Questa cosa ci farà Parlare un botto Perché Si è perso In un qualche momento E non possono averlo Ignorato qui Per poi magari Retconnarlo tra due mesi Si è perso In qualche momento Il collegamento Con Arceus Il Dio Creatore Cosa è successo? E Quando è arrivata L'ignominia di Ghiratina? Saranno tutte domande Che ci faremo Però obiettivamente Quando arriviamo a Coripoli Ci dobbiamo fare Questo tipo Di domanda Quando si è perso Il collegamento Tra il mondo Pokémon E Dio Arceus? Quando siamo passati A una centralità Di Di Alga e Palchia E addirittura Una loro fusione Nella statua di Evopoli Sono Elementi Da super discutere Lo si scoprirà In leggende Sicuramente sì Ma secondo me Qui viene tisato In qualche modo Parleremo Della statua di Evopoli Porco il cazzo Se parliamo Della statua di Evopoli Altra cosa che ti chiedo Ferdi Della statua di Evopoli La pixel art Della statua Solo io ricordo In un quadro Un trailer Che ricordava Venezia Non so se è lo stesso Di cui parlo io Ma ti dico Che C'è un quadro Che a me sembra Che abbia due creature Che abbia due creature dentro Poi insieme Magari vedremo Perché l'ho visto In recensione Quindi non ho approfondito Non ho googlato Se è un quadro Che esiste realmente In real life Però l'ho visto E ho pensato È lo stesso Ok L'ho visto e ho pensato Ma quelle sono due creature Ma che creature sono? E E Allora poi ne parliamo E quando lo troviamo Ne parliamo Vuole musiche? Ok La recensione di EvryEye Esce alle 3 Ragazzi esce alle 3 La recensione di EvryEye Insieme più o meno al video Dico più o meno Perché esportandolo adesso Secondo me YouTube Non farà il bravissimo Se facesse il bravo Uscirebbe tra 5 minuti Perché noi con la 1 gigabit Ci mettiamo un secondo A caricarlo Però non Non so quanto farà il bravo Comunque vi aggiorniamo A un certo punto Chiara si staccherà da qui Sto zitto un attimo Perché Chiara sta sentendo La musica Dicevo Chiara si staccherà un attimo Per fare la pubblicazione Ma lì sono veramente 2 minuti Contate almeno le 16 Quei tempi di YouTube Speriamo di no Inizia a breve ragazzi Il tempo che Chiara Si sieda fisicamente qui E si può cominciare Ma teorizzerai nel video recensione Come in live? No ragazzi no Non teorizzerò nel video recensione Nel video recensione È una recensione Quindi Anzi Reduco al minimo I discorsi sulla storia Il quadro Esiste davvero Ed è di Monet Esiste davvero? Controllo Se esiste davvero niente Allora non è un teaser Della nona gen Vediamo un po' No O almeno Non lo sto trovando Mi passi uno screen Conosco bene Monet No Non Non Ho cercato Blue Painting Monet E non lo trovo Magari Night Painting Monet La testellata No Non c'è tra niente E non è Monet E Van Gogh No Per ora Non vedo il quadro Che ho visto Ma magari Non lo sto googlando Bene io Eh ragazzi Vi assicuro Che c'è un quadro strano Tanto la facciamo insieme La ricerca Siamo 4.000 persone Starry Night È un'altra cosa Non è Starry Night Ragazzi Lo conosco Starry Night Non è Starry Night È qualcos'altro E sembra avere due creature Sopra Dato che è facile Posso usare 12 Pokémon Alternandoli Per non rovinarmi Le esperienze di gioco Certo però È un po' fastidioso Secondo me Far ruotare i Pokémon Continuamente Bella l'Olanda Assolutamente Finalmente Mo ne puoi posare Tranquillo Ho avuto la collab Con Pokémon Ok Cerco quello del lago Aspettate Un po' No 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 Ragazzi È un quadro È diverso Vero Steve Non spoilerare Ragazzi Però non spoilerate Il quadro Perché se no Adesso cominciamo A parlare del quadro E ce lo spoileriamo No 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 Per favore Non scrivete Che cosa c'è dentro Il quadro Please Grazie De Fustolandia Che è regata Se no ci roviniamo Il momento Secondo me Sono dei Pokémon Però non scriviamo Che cos'è Così non roviniamo Il momento Ai ragazzi Per quando Insomma Lo troveremo Acqua in bocca Bravi Acqua in bocca Credo che Chiara Sia l'ultima musica Da inserire Sì è così Quindi veramente Ragazzi Questione di secondi Non potendo assistere Tutta la live Come si fa a recuperare Tutte le teorie Fare un video dopo Credo di sì Qualora ci siano cose interessanti No tranquillo Stephen Fang Tranquillo Però vi chiedo Di non dirlo Se non roviniamo L'esperienza Ai ragazzi Che non lo conoscono E vogliono giocare Insieme a noi Ragazzi Faccio un attimo Di silenzio Ora corro Fra L'ho trovato Ferdi L'hai trovato Nel gioco originale O non ho capito Ne approfitto Ne approfitto Notte sterrata Sul rodano No 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 L'ho visto Oh chiara Oh chiara Chiara c'è ragazzi Stiamo esportando Ce l'abbiamo fatta Sono struccata Letteralmente La mia volontà Ok Chiara non ha giocato No ragazzi Io non ho mai fatto segreto Di aver cominciato a giocare a Pokémon Con la sesta Il mio primo gioco Giocato dall'inizio alla fine È stato X E immaginatevi Tra l'altro La mia introduzione Al mondo Pokémon Con lui che mi diceva No Pokémon devi giocarlo Perché ovviamente Era fresco di quinta gen Quindi poteva sapere Una sega Che poi dopo Bianco e nero 2 Sarebbero usciti X e Y E mi aveva fatto Una testa tanta Con No ma Guarda che Pokémon È un gioco bellissimo Con una trama incredibile Con Un cattivo Della madonna Con dei colpi Di scena assurdi Quindi va E fatto un botto E poi ho giocato a X Prego Vado a fare il preparo Vado sì Arrivo Ciao Mi è arrivato Una pizza Con peperoni Che le avevo prese effettivamente Ma poi pollo E cipolle Sì sì infatti Scammato Quelli di Domino's Pizza di Piazza Durante Fanno sempre tanti Non so di che piazza Sia questo Domino's Pizza Sia una roba Pollo Cipolla E peperoni Una roba strana E l'avevo presa Senza mozzarella E credo Spero lo sia In realtà mi arriva Forse solo mozzarella Senza pomodoro Comunque una pizza Un'altra cosa In realtà fa cagare Però Ho fame No no E ogni tanto E ogni tanto Gli dovrei dare un occhio Ora ci vuole un attimo Di fortuna Sì perché abbiamo Un harddisk Che ha dei problemi E quindi ogni tanto Gli piglia male Si stacca E fallisce gli export Ma Vai Io andrei con l'italiano E tu con l'inglese Ma sei in tempo A cambiare idea Ora Va bene Va bene Nessun problema Vado Posso avere lo schermo lì Assolutamente C'è già in realtà Perfetto Vai Ok Che disincavo Aspetta Datemi un attimo Momento De cinco Cinco De mayo Sì sì Mi sta piacendo Ok Ora va Posto Si comincia ragazzi Ciao Felice di conoscerti Ti do il benvenuto Nel mondo Dei pokemon Il mio nome È Rowan Ma per tutti Sono il professore pokemon Questo mondo È abitato da creature Chiamate pokemon Volevo Seminare un attimo Evitare di avere le luci di natale Dietro Dietro Sì Noi esseri umani Viviamo Fianco a fianco Con i nostri amici pokemon Molto più sintetico Davvero A volte Sono per noi compagni di gioco A volte Preziosi collaboratori Come Ferdi Ferdi è un pokemon Alcuni Alcuni Fanno squadra con i pokemon Per sfidare altre persone Stabilendo con essi Un profondo legame Anche marcolino Secondo me è un po' Un po' Sbaglia sempre Cosa faccio io Io mi dedico alla ricerca Sui pokemon Per saperne Sempre di più su di loro Ma adesso Parlami un po' Di te Ok Allora Io Dovrei prenderlo biondo Per cambiare Ma non lo farò Perché questa sarà Tipo la mia partita main Come ti chiami E va fatto ragazzi Mi sa Mi sa che va fatto Raga Mi sa che va fatto È il ritorno di Checco No Questo Checco Quale altro Checco esiste? Nessuno Solo questo Checco Lacrime virili Ai Shed Ho avuto un flash Proprio di io Che mi chiamo Checco Sul Nintendo DS Ragazzi Per chi non lo sapesse È stato il mio nome Quando avevo 14 anni Quanti cazzo Ne avevo nel 2006 Ne avevo 13 Ma L'ho giocato Qualche anno dopo Quindi ne avrò avuti 14-15 Checco eh Vaffanculo Si spegne il gioco Checco no dai È proprio un bel nome Ragazzi Muddini Ce l'avete il comando Nel caso ce l'aveste Se volete acquistare Pokémon Diamante lucente Perla splendente Lì E questo invece è un tuo amico Giusto? Come si chiama? Io Barry Il suo nome in inglese Il suo nome in inglese È Nessuno di questi Per qualche motivo Com'è che si Sempre Barry Credo Credo si chiami sempre Barry Sì È sempre Barry Perché Perché non c'è come nome C'è come nome Tra l'altro Guardate i nomi Barry Gary Marcus Tu sei Marzio Che sarà stato il cugino Il localizzatore Dice vabbè Uno ci mette Marzio Barry Io ho Clint Ralph Lewis E Tommy No no Io lo chiamo Barry Però se volete rinominare Quello di Chiara Se vuoi fartelo rinominare Dimmi te Perché? Vuoi fartelo rinominare Lo vuoi Canon Legit Barry Io lo voglio Barry Proprio Ma anche io scusa Non ho capito Barry però Quanto parli esclusivi di diamanti Io che ho perla Ho quelli di Chiara Ah Quindi non è questione Della lingua inglese Ma Ci sono i nomi Esclusivi Ma che Cazzo Vabbè Ma allora scegliamo Uno dei nomi esclusivi Va bene Di questi io Andrei con Ralf O con Tommy Ma no Ma è palesemente Tommy Per me è palesemente Un Ralf Ma guardalo Ma perché Ralf E non Tommy Paul No Paul no XD Lo so che hai detto Paul Ma era una battuta Troppo bella Da fare Non lo chiamerò Paul Vai chiamalo Paul Però Spero Paul No Paul 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 Vai va bene Paul È un po' Paul è Non è proprio Paul Phoenix Ante però Hai Clint tutta la vita No ragazzi Sì sì Paul è il tuo amico Vabbè È lui Bene Checco È arrivato il grande momento La tua personalissima avventura Sta per cominciare Nel corso del viaggio Incontrerai moltissime persone E tantissimi Pokémon Farai sicuramente Tante nuove scoperte E imparerai qualcosa Anche su te stesso E adesso vai Tuffati nel meraviglioso mondo Dei Pochimon I Pokémon Malgrado gli sforzi Il team di esplorazione Non ha potuto avvistare Il rarissimo Pokémon cromatico Il Geridos rosso Non è apparso al cospetto Dell'ormai Delosissimo team E con questa notizia Si conclude Alla ricerca Nonostante i grossi sforzi Del team di esplorazione Il Pokémon raro Dal colore insolito È riuscito a sfuggire Alla cattura Che mi pare fosse una sfumatura Che non c'era in italiano E il Geridos rosso Di cui si parla Non è apparso Essendo molto Fuggente Al team Come si traduce Il Grespo Che ha perso le speranze Disperato Scusate Ho schippato il E questo finisce il Il report Speciale Ricerca del Geridos rosso Un reportage di GiubiloTV Sulla rete nazionale Alla prossima Stessa ora Stesso canale Aspettate che fa il bebo Maremma e sete Mi fa venire la pizza Let's go Allora raga Movimento Ottadirezionale In questo momento Addirittura senza scarpe da corsa A breve le otterremo È strano all'inizio A me ha fatto strano Chiara è la prima volta Credo che adesso Muove per benino Il personaggio A me ha fatto un po' strano All'inizio Muovermi ottadirezionalmente Vedete che fa Di piccoli scattini Ho mille ore Su Animal Crossing Tutto normale Eh Io non giocando Spesso a questi giochi È però Animal Crossing È in griglia Ma ti muovi In maniera Completamente libera Quindi per me Non è niente di strano Hai ragione Qua non guardi niente? Non c'è molto lì Ok Cioè se vuoi Puoi accendere la tv Ma non c'è molto Cioè te lo dico Che non c'è molto Allora Chiara vive nell'ottomila Con Animal Crossing Che cosa? Barry è venuto a cercarti poco fa Non so che cosa volesse Ma ha detto che era un'emergenza Guardate Ve lo faccio vedere per sicurezza Torno su Che succede? La grafica è sopra Vero? Penso di sì Io penso di no Eh non è caso Controlla Guardate Se non sbaglio qui nel pc C'è qualcosa Tipo una roba Sui Pokémon Informazione di base sui Pokémon Nel nostro mondo Le persone vivono a fianco a fianco Con i Pokémon Le persone che li fanno lottare Sono detti allenatori di Pokémon Questa è l'unica informazione che c'è Possiamo accendere la tv Ma è spenta Qui c'è una Nintendo Switch È una console di ultima generazione E qui il dettaglio Di cui parlamo Anche all'interno Del Primo videoanalisi Di Diamante Lucente Per la Splendente Sulla carta da parati A zig zag Che in realtà Canonicizza un problema grafico Del Nintendo DS Molto bello Ora meglio? Eh se Non tornavano i bordi Ah Il sorry Il sorratan Ok Allora Nel frigorifero c'è il dolce preferito Della mamma La cucina è pulitissima Ci si può specchiare nel pavimento Ah vogliamo provare a sentire Apriamo un attimo le opzioni Che tanto facciamo la roba da Chad Allora Velocità del testo Veloce Cambia cornice Io la metto tipo 5 Rosa Animazioni Si Veloce Si Non sostituire Invia automatico i box Si Oddio no In realtà no Dai soprannomi Si Giroscopio Usa Salvataggio automatico No Visualizza soprannomi Si Musica Tu metti a zero Tantissimo E vediamo Se effettivamente Bello questo Il 18 era molto bello Ma Dicevo Ma quante sono Metti la musica a zero Che proviamo Ragazzi dateci un feedback A mettere l'audio di Chiara Basso basso Solo come effetti sonori Così manteniamo L'audio di entrambi Se invece Vi rincoglionisce Ce lo dite A mutarlo Siamo sempre in tempo Metti set Non ti fa cambiare Pokémon Intraturno Automatico Box Si si assolutamente Ma il soprannome Non usare il giroscopio Non usare il giroscopio Ma si ma anche in via i box Automatico va bene Autosave No io l'ho messo no Ok Fai vedere il nickname Va bene E qui background music Togli tutto Ok Adesso ti attivo l'audio Vai Ok Si esci Diteci se vi da fastidio Secondo me no Ma non so neanche se si sente È basso Lo alzo se vuoi Ah no perché forse Non si sente in monitoraggio Non è monitorato In questo momento Tutto ok 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 perfetto Allora ve lo lascio Lo lascio così Vai Non si senta Impossibile che non si senta Io lo vedo arrivare qui Sai quanto è impaziente Il tuo amico Barry È sparito prima che potessi Chiedergli di cosa si trattasse A me invece ha detto Di non andare All'erba in alto Ah ok Forse perché stavi uscendo Mi sono avvicinato alla porta Bene Eccoci giunti alla proclamazione Del vincitore Si aggiudica la performance Migliore della gara di Akume Di livello normale Gioco Con un Pokémon brillantissimo Per oggi è tutto Alla prossima Io uscirei Ah si Checco Non andare nell'erba alta I Pokémon selvatici Potrebbero attaccarti Se avessi un Pokémon Non sarebbe un problema Ma per adesso Fai attenzione Ce l'ha fatta? Ok se ce la sta facendo Ragazzi L'export sta andando In effetti Un po' basso è Ma lo vogliamo che sia basso Se tutti e due I sound font O meglio Sound effect Arrivano allo stesso livello Secondo me vi da fastidio La tecnologia moderna È incredibile Si può giocare con persone In tutto il mondo Senza fili Vediamo se Nella prima città C'è Il quadro Eh ma tattora Sblocchiamo la corsa Non c'è il quadro Qui per ora Hai sentito la novità? Quel professore Che studia i Pokémon È ritornato Nella sua città Dicono che sia stato via Per ben quattro anni Chissà se ha trovato Qualche Pokémon particolare In tutto quel tempo Quindi Rowan Per chi non se lo ricordasse Io Io non me lo ricordavo Rowan è appena tornato A Sinnoh Non è sempre stato qua Quello di Chiara È davvero appena percettibile Va bene Alzato Adesso è al massimo Che co Voglio un Pokémon carino Allora Sono anche io Sì Adesso si sentono tutti e due E io non sono d'accordo Però con metterli a pari Fidatevi Allora Da dove Non si sa Potrebbe essere anche da canto Visto che Sono molto amici con Oak Oppure Joto Potrebbe anche essere Oppure ancora Potrebbe essere stato con Platan Perché sappiamo che Platan era allievo Di Rowan Due foglie Fresca e libera Allora Barry di qua Andiamo prima di qua È vero che a volte I Pokémon selvatici Attaccano le persone Ma è anche vero Che spesso fanno amicizia Con la gente Yeah Stai andando di nuovo da Barry Vero? Siete proprio inseparabili Voi due Ragazzi qui Momento Settefiori Salve a tutti Qui è Serenella In diretta Con gli ultimi aggiornamenti Meteo Qui sulla riva Dalla Gorguzia Si sta abbattendo Una bufera di neve I più intrepidi di voi Potrebbero decidere Di affrontare le intemperie Nella speranza Di trovare qualche Pokémon raro Vi consiglio di vestirvi pesanti E di non addormentarvi In mezzo alla bufera Un gran consiglio Per oggi è tutto Dalla vostra Serenella Ci vediamo Alla prossima Bentornati alla scienza Dei Pokémon Oggi esamineremo Un Pokémon selvatico Direttamente sul campo Ho giusto avvistato Un Abra selvatico Fa proprio il caso nostro Io ho un cadabra Tu hai un cadabra? È l'Or Io Abra e tu cadabra Sbaglio a con sé Uno strumento Andiamo a dare un'occhiata Da vicino Ehi tu mi fai guardare Un attimo cosa hai lì? Vediamo un po' Ai che dolor Mi ha graffiato il dito Pensavo stessi dicendo Ma porca miseria Ma poco male Per la ricerca questo è altro Ora sappiamo che è possibile Incontrare Abra selvatici Che hanno con sé Aspetta voglio Credo sia vischio punta No Come fai a pungerti Con un cucchiaio Zia Vabbè Cucchiaio Dai Grazie mille Abra E rieccoti il tuo cucchiaino Che Abra usa Per attività illecide Credo Per questo si punge Aia Povero me Mi ha graffiato di nuovo Ma come fai a graffiarti Con un cucchiaio? Beh Forse Forse ha graffiato Abra lei C'è un killer Che ne ha fatto Una missione Forse Sì Kill with a spoon Forse è Abra che ha graffiato lei Dai È Abra che ha graffiato lei Penso proprio di sì Ecco qua Momento Sette fiori I pokemon vanno trattati con i guanti Impara come fare Alla scuola per allenatori Centro pokemon Sempre al tuo fianco In ogni avventura La felicità È un po' che crona il polso Questa fatta da Albano Let's go Che cosa avevi te? Sempre stesse? All'incirca Non proprio Tanto loro vedono Quindi Se poi invece c'è roba figa Mi fermi Oh Arrivo Eh però no Questo è un chiaro Guardate però Il fascino Della localizzazione Tood Ok ci sta Perché Tood Non è Un'onomatopea Italiana Quindi viene scambiata Con Poom Mi fa ridere però Pensare che Mentre in inglese Abbiamo utilizzato Gli asterischini Che fanno parte Del linguaggio di internet In italiano Si sia utilizzata Una traduzione Un pochino più bambinesca Con tanti punti esclamativi Pum È particolare Grazie Grants Dei dieci argomenti Il regalo Gentilissimo Grazie mille Grazie a tutti Grants Del sette fiori Franco Ma che succede Oh sei tu Checco Io sto andando al lago Vieni anche tu Dai e sbrigati Oh Checco Se arrivi tardi Ti faccio una bella multa Da un milione Di poche dollari Oh no Ho dimenticato una cosa 30 fps ragazzi Sì Sempre 30 fps Entriamo a Berryovoli Direi No sign of quadri Centro Pokémon Sempre al tuo fianco In ogni avventura Ciao Checco Stai cercando Berry? È uscito un attimo E poi è tornato di corsa Non sta mai fermo Quel ragazzo Non capisco da chi Abbia preso Beh il padre non c'è Sai chi è il padre? No È un personaggio Che è stato integrato Nel parcolotta Di Platino È meglio che prenda la borsa Significa che ha la Switch Con un Joy-Con attaccato E uno no No È l'altro che ha attaccato Il Come si chiama Burst Band Come cavolo si chiama lui Vabbè comunque sì Ma sì uno no È Berry Speciale ragazzi Andiamo al lago Ti aspetto giù in strada Se arrivi tardi Ti rifilo una multa salatissima Di 10 milioni Di poche dollari Allora Vi dico Vi do un dettaglio tecnico Nelle stanze più piccoline La reflection Che vedete a terra È abbastanza dettagliata In altri momenti Sarà estremamente segretata E low res Perché altrimenti Il gioco lagherebbe In realtà Va benissimo che lo faccia Meglio questo Che laghi il gioco Vuoi controllare Se c'è qualcosa Forse nel suo PC Devo farmi cazzi di merito Sì dai Guardiamo Regola numero 1 Dell'avventura Con X Si apre il menu principale Regola numero 2 Puoi salvare i progressi di gioco Con salva Non sai nient'altro Si fogga È uno sbirro Bene Quel ragazzo è uscito Come un razzo Come sempre Immagino che ormai Sia sul percorso 201 Non sta mai fermo Non capisco da chi abbia preso Dal Se ho visto In italiano mettono gli zeri Mentre scrivono million In Grazie a David Bells Della sub In inglese scrivono million Ciao Checco Stai cercando Barry L'ho appena visto Che scappava in tutta fretta Ma non penso Che stia andando lontano Perché non provi a raggiungerlo Trovato il quadro Bravi non spoiler E mi raccomando Ehi hai visto anche tu Il servizio in tv Alla ricerca del Geridos rosso La misteriosa apparizione Del furibondo Pokémon in un lago Che se vogliamo Potremmo leggerlo Come la volontà Di fare poi remake Di Argold e SoulSilver Che seguirono In quel medesimo Arco generazionale Ecco perché Quella trasmissione Mi ha fatto pensare È probabile che ci sia Un Pokémon come quello Anche nel nostro lago Spoiler Sì Però non è proprio Geridos Quindi ho deciso Andremo a cercare quel Pokémon Andiamo a Berroboli Intanto salutiamo Midnight Stagionando Animal Crossing Mi si è collegata Ce l'ho fra gli amici E è venuto fuori Che si è collegata Ricorda cosa ti ha detto la mamma Ricordi cosa ha detto la mamma Mi raccomando Checco Non andare nell'erba alta O i Pokémon selvatici Potrebbero attaccarti Se avessi un Pokémon Non sarebbe un problema Ma per adesso fai attenzione Volevo farvi vedere questo prompt Grazie Tici della sub Grazie mille ragazzi Oggi il gol è 4k sub Lontano perché 6.000 Però abbiamo già fatto 216 Guarda abbiamo cominciato Benissimo Allago andiamo a cercare Il Geridos rossa Che succede? Professore Non c'è niente di strano Neanche dall'altra parte Grazie Grants Delle sub in regalo Grazie mille Forse mi sono sbagliato Sembra che sia cambiato qualcosa Rispetto a prima Ma non importa Abbiamo comunque visto il lago Facciamo che è sufficiente così Lo sinda Andiamo Professore è stato via per ben 4 anni Di questo è un altro elemento Che non ricordavo È stato via per 4 anni In questi 4 anni passati O in una regione O in più regioni Avrà fatto degli studi Se proprio Grazie Ticci della sub Se proprio Volessimo essere Precisi In teoria Nonostante Chimchar Tartwig E Piplap Si trovino Nelle squadre Di alcuni allenatori Selbatici Per motivi di gameplay In realtà Siccome selvaticamente parlando Li trovi solo qua E lui li ha in una valigia Potremmo quasi provare a dire Che non sono autottoni di sinno In realtà non è vero Perché in leggende Pokémon Arceus Ci sono Ad Isui Ma magari ci sono estintili Si sono spostati Ritorna come discorso Lui ce l'ha in una valigetta E non li troviamo selvatici Però Appunto Nel Poi Nelle squadre degli allenatori Si trovano Però Credo che quello sia un motivo Fortemente legato Al gameplay Perché Nei giochi Dobbiamo finire il Pokédex Di sinno Per avere quello nazionale Quindi devi vedere tutti gli starter Anche quelli che non sono Né il tuo Né quello di Barry 78 78% Ragazzi Stiamo andando Io intanto mangio un po' di cornicione E' avvenito Di essere tornato a sinno C'è solo una cosa che posso dire Ci sono molti Pokémon rari Nella regione di sinno E questo dovrebbe tornarci Molto utile Ai fini Della nostra ricerca Uguale praticamente Sì Scusate Lasciateci passare Per favore Che burbero Scusate Siamo un po' di fretta Molto più sbrigativo In inglese Cioè Semplicemente Sorry folks Via Embe Embe Che facevano Che facevano Che facevano quei due Checco Andiamo a vedere Cosa c'è Comunque è bellissimo Perché in quarta generazione Per chi non lo ricordava Gli starter si rubano Ehm Ebbè è così Cioè li rubiamo Non è che ce li danno C'è un rito No 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 Ha lasciato una valigetta in terra E li rubiamo Dalla valigetta Ah Dei pokemon Ma Ma che succede Guarda sono delle pokeball C'è anche il passaporto Secondo me Di Una camicia Un asciugamanino Sempre per asciugarsi il sudorino E Delle ricerche Si fogli Si Scegli un pokemon Per lottare Allora hai deciso quale vuoi Si Pokemon fogliolina Tartwig Il pokemon Scimpanzè Chimchar Oppure Il pokemon Pinguino Piplup Lo vado L'inverso è quello No frano Dai Io I'm gonna go for the chad choice Soltanto perché io prendo Piplup Tu Adesso non ci sfidiamo Beh si è vero I'm gonna go for the chad choice Io prendo Piplup Perché mi fanno paura le scimmie Sento la mandibola Che si inspessisce Mentre Bagiagi Bagiagi Ah 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 È la mandibola Che si inspessisce Sono a disagio No Pound Guardate ragazzi Ma pound è pound Quella famosa È libra È libra Sì sì Allora raga Abbiamo La scelta Di Guardate quanto cazzo È chad tartwig Da una parte abbiamo Uno starter Che ha pound O ruggito Dall'altra Azione O ritirata Se ne va Che vuol dire di tipo acqua Ritirata È ritirata di tipo acqua Perché è tipica Delle tartarughe Che Si infilano Nella shell Però a che serve Avere un tipo Per una mossa di status Per una mossa come ritirata Niente Cioè Oddio Non mi viene in mente Se ci sia Una combo Con altre mosse Che tiene conto Del tipo Ma non credo Cioè non essendo Essendo solo una roba È tipo teleport No? Sì 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 No ritirata È un boost In difesa Vabbè però comunque Che serve Sì però Non senso Ok Cosa fa pound 40 Grogule è ruggito Ok allora pound Eh ragazzi I'm gonna go for the Chub choice Ovviamente Sei un po' de sink Aspetta che te lo metto in sink Ma poi li possiamo rinominare Vero? Aspetta Qual è il tuo questo? Ok aspetta Anche piplac Lo riconosce bastanti Anche devo capire Perché sei desincata Ma credo perché Banalmente abbiamo fatto Un botto di cazzi Allora Perché lo sento Leggermente Desincronizzato Il suo Aspettate Proprietà Canale Perché ti dispiace Per piplac Ferdi? Usa Il fin Modalità Connessione audio Embedded In realtà Non dà particolari Moda Tipica delle tartarughe Nell'animazione Un'ostrica Tra l'altro Sapete che non so Perché Desincato Datemi un secondo Che cerco di capire Sì assolutamente Disattivato Monitola l'audio Invia all'uscita No Faccio disattivato E poi Poi faccio Proprietà audio Avanzate E di nuovo Inviamo all'uscita Andiamo un po' Grazie Dei grant Ragazzi Durante questo Tentativo di Prima azienda Sono stati donati Nuova la community Ho provato a scrivere Proprio con l'account Dei grant Non è che non è buona È un troiaio Ok va bene Apprezzo Ma non è che non è buona È un po' un troiaio Nel senso che è piena di roba Che non c'entra niente Ma io condivido volentieri Ti ringrazio Ditemi se è in sync adesso L'audio di Chiara Credo di sì Perché ho fatto Il famoso slog relog E il tuo tartuig È stato davvero sconvolgente Ma il mio cincial È stato più in gamba Per ora ne pagano Di qualcun altro Non avevamo scelto Abbiamo dovuto prendermi in prestito Speriamo che non sia un problema Allora Oh la valigetta Avete Scusatemi eh Rubato con successo Tutti i miei possedimenti Tra poco Esce il video Circa per le 15.45 direi Allora È quasi sciarrato ragazzi È l'84 Quindi è il grado Dello cerro Mini insight Per voi che state seguendo Questo programma Sciarra All'84% Quindi anziché dare Un Un reale feed Sì tu vedi 85% Per 10 minuti Poi finisci Invece di sapere effettivamente Come sta andando lo share Grazie Julian A questo bug grafico Purtroppo Programma è Final Cut Pro X Per chi te lo chiede Oh la valigetta Il professore si sarebbe infuriato Se l'avessi persa Mentre non ha nessun problema Con il fatto che tu abbia Trafugato due dei tre Pokémon Al suo interno Eh ma Per caso avete lottato Con questi Pokémon Loro con le Pokémon in tasca Oh no E adesso cosa dirà il professore Questa non ci voleva Uff vabbè Intanto questa la prendo io Lei non si prende la responsabilità Di prendere l'aria furtiva Ma che aveva quella Checco non so cosa ti stia succedendo Ma andiamocene da qui Il mio Pokémon Mio Barry Barry Vero ladro Versione Bugs Bunny Il nostro Pokémon Il mio Pokémon ha subito danni durante la lotta Se venissimo attaccati da un altro Pokémon Potremmo trovarci nei guai Madonna Madonna Cosa? Eh Un po' di zigzaghino È sciarrato È sciarrato ragazzi Siamo in upload Tu vai pure avanti Lo so che dobbiamo restituire quei Pokémon Non sono nostri Ma prima volevo passare un altro po' di tempo Con questo tipetto Vero ladro Allora Cazzo è multitasking Nooo Cosa? Non mi faccio tutto Nooo Non mi faccio un friciccio Ah ho mangiato un po' di pollo Anche te l'avrai mangiato E infatti sto giocando con le altre dita Ho solo questo spot Ah Mio tu Sto giocando con le altre Va bene va bene Vai vai Ehm Dove sono? Ma mi confonde un botto Perché continuo a guardare Mi faccio notare un attimo Questo dettaglio Si può accorrere? No ancora no Tra poco Mi faccio notare questo dettaglio Quando vai addosso a un modello Diciamo di un allenatore che ti segue Ovviamente succede questo Perché per farti passare Lui si teletrasporta tra mille virgolette dietro Sorprendentemente non succede con i Pokémon al seguito Che invece ti bodybloccano Lo ho visto Spero che aggiornino Perché non ha senso che lo facciano loro E non i Pokémon Eh più che altro questa sembra proprio una cosa programmata Avendo in mente Che non deve No i Pokémon che ti seguono Cioè per quale motivo tu dovresti programmare Questo tipo di reazione del modello Nel momento in cui C'è un movimento simile da parte del giocatore Solo nell'ottica di poi estenderlo al Pokémon Sì sì infatti infatti Ma io quando ho visto questa cosa ho pensato Bravi Quindi i Pokémon fanno così Ehm Ehi sono quelli di prima Sbaglio o quel vecchio ci osserva Is that old guy staring at us? I'm gonna call the police Lucinda mi ha detto che avete preso i nostri Pokémon Fatemi vedere per favore Mmm Tartwig e Chimchar Mmm Capisco Ok Lucinda Io torno al laboratorio Ma i Pokémon? Ehm sì professore mi aspetti Sì sì lui è talmente rincoglionito Che ha detto Ah sì le hanno rubato Che cosa stavo facendo? Lucinda vieni con me Dovreste venire al nostro laboratorio più tardi Sapete per compilare la denuncia Ci vediamo Che chadro one Sì sì Perché tutta quella agitazione? Perdonami mi trovo Se era arrabbiato poteva semplicemente dirci qualcosa Sgridarci E poi non voleva riavere i Pokémon Anche Barry sorpreso Dai Checco andiamo a casa anche noi Allora Qua sta Apploodando Apploodando Bella E io ti direi Vuoi una birra Voglio una birra Ma proprio Fortemente Che succede? Non ci posso credere Per fortuna che a te e Barry Non è successo niente Il professore di cui parli È sicuramente Rowan di Sabbiafine È molto conosciuto per i suoi studi sui Pokémon Ma dicono che faccia un po' paura Eh? Dove è Sabbiafine? È qui accanto Forse è il caso che tu vada da lui a Sabbiafine Checco Devi spiegargli perché hai dovuto usare il suo Pokémon Non preoccuparti capirà di sicuro A proposito Mettiti queste Checco Per la tua gioia Alleluia È stato anticipato il momento della cessione delle scarpe da corsa Andare a Sabbiafine Sembra una vera e propria avventura, no? Fortunatamente con le scarpe da corsa Potrai raggiungere i luoghi lontani più velocemente Ok, diamo un'occhiata alle istruzioni Inclina fino in fondo lo stick sinistro Per correre più velocemente Vi do un dietro le quinte E io ho continuato comunque a tenere premuto B Per tutto il gameplay Cioè io non riesco a togliermi L'idea che per correre devi tenere premuto B E quindi continuo a tenere premuto B Ma come funziona che l'animo al prossimo? Mettiti le scarpe da corsa E parti all'avventura Che emozione Ma in realtà non serve perché Se inclini poco cammini Guardate Se inclini tanto corri Però per me Questo Cioè non esiste Che io non prema B per correre Anche io premo sempre B Oh, finalmente No, no, no Ma bisogna premerlo B Anche se so che non serve a niente Cioè bisogna premerlo Il movimento ovviamente otto direzionale diventa più comodo Quando si comincia a correre Questo ve lo dico Allora La scelta Chad è vedere prima che troviamo qua il lago Te lo dico Ok Si trovano gli stessi Pokémon che nel percorso Però è la scelta Chad Abbiamo delle Pokémon dietro? No Quindi? Vabbè niente Guardiamo che cosa c'è E lo ammazziamo Ok Budeo! Ti farò tutti i versi Budeo! Comencevamo una birra Gagigi Gagioggi e Bagigi Gagioggi e Budeo Ma cazzo ma è al 4? Ragazzi il Nazlock avrei perso probabilmente Perché è al 4? È fortissimo Dovrebbe essere al 2 Il mio è al 3 Ragazzi questa sarà una battaglia difficile Il Nazlock avrei già perso Ritirata Può fare ritirata Budeo! Già i Pokémon in graphic Amo li faccio Si con calma ragazzi Con calma Ora facciamo uscire il video per cortesia Poi dopo mettiamo i Pokémon in graphic Fabio Fazio Budeo Si è Fabio Fazio Era il Pokémon di Platino Aia! Io praticamente gli toglierò un PS Perché mi ha fatto 47 ruggiti Anche a me Ma porca puttana ragazzi Dai! Ma ci metterò Cos'è il topo? Se con le azioni Ah ok Ragazzi Sarà veramente le stall fight Questo è il problema di chi prende Tartwig Non glielo ho trovato Anche di un livello più basso Però Budeo! Il mio era al 3 Ah ok Pardon Vai Ok Ok Il caricamento A che è dato È in un Ok Ed è Godopoli Arriva di nuovo il ruggito Siamo a meno 6 raga Il titolo Diamante Recensione diamante lucente Per la splendente Ragazzi Prima o poi Ce la faccio Non vi preoccupate Eh ma noi siamo belli bulki Vinciamo noi questa volta Vada lì Ci siamo ragazzi Ci siamo È E hit Hit che io Yes Ah ragazzi Altra cosa Adesso È una roba Inaspettata Tutti i pokemon Morendo Hanno dei versi diversi Prima erano semplicemente Il loro verso rallentato Ora molti hanno proprio Dei versi nuovi Riregistrati O comunque Modificati talmente Tanto da sembrare nuovi Ogni volta che muoiono Ce ne sono alcuni Che sembrano un po' satanici Tipo Magikarp Quando muore Mi fa impressione Io mi piaccia La coppia Sì sempre No Fogliane Guardiamo le nature Grazie Sì fa No 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 È buono È buono Bello bulko Buono buono Buonissimo Il mio Il mio Abbassa l'attacco E tira su una difesa speciale Oddio scusate Ho pigiato una cosa Che non dovevo pigiare Com'è il mio Il tuo è Nel senso che Il tuo è un'attacco speciale Quindi abbassa comunque La cosa giusta È buono Sono buoni entrambi Abbiamo preso i bulki Ok Cioè sicuramente Non sono malvagi Ok Let's go I pokemon selvatici Si nascondono nell'erba alta E saltano fuori All'improvviso Quindi se vuoi lottare Contro pokemon selvatici Vai nelle zone erbose Se invece vuoi evitarli Stai larga dall'erba alta Tira è sopra Sì È buono Bajigi Bajoggi Ho beccato Un altro biduf Io non credo Starly Io non credo Che Starly Abbia mosse volante Già al tempo Ragazzi Veramente la scelta C'ha di Tartu Sei debole a tutto Ok Let's go Arriva il ruggio Grittato Hai grittato Si Minchia Già stai sculando Però Sono già nel giallo Ma tu l'hai curato? Hai cure? Non hai cure No Ma ora muore Puoi andare a casa della mamma Se muore è finito il gioco Basta Io non sono mai morto Non ho mai perso Nella campagna La recensione Cosa vinco se muoio? In generale Prima della fine Non lo so Posso vincere qualcosa Sì Big Mac Va bene Se i tuoi pokemon Sono stanchi Cioè se hanno pochi ps Ti conviene andare a casa A riposare Bene Ma è qui ragazzi Facciamo un attimo La strada del Jimmy Jol Ma Empolion È fisico speciale È speciale In teoria È Empolion Caricato la grafica Oggi sardo Sono mega Ferdi Io Non so come farei Senza di te Bagiggi Bagioggi Qui abbiamo un altro Bagiggi Bagioggi Ma a livello 6 Sto facendo un conto Azione 40 Fogliame Dovrebbe essere sempre 40 Ma stab 60 Resistita 30 Combiene Combiene azione Dove hai un chrome Che non è qui Che io ne ho anche Con 4 livelli sopra Dio Delle madonna Mega E mixed come tutta la quarta gen Ok Sì Inferno È un bellissimo Mixed Che si usava Mixed Anche in competitive E Infatti impara Nastiplot Anche se Una delle Migliorie più grandi Che ci sono state Al set Di chimchar E dagli Da subito Cresci pugno È molto utile E ci snutellavo In avventura principale Ma proprio tanto Super snutellavo Eh baciggi Bagioggi Però Sì Poi Budeo Cioè esplora risorse In questo schermo Poi lo sposti Così almeno Sì sì C'è a farlo Allora Ma io riendrei di azione Ragazzi Ok Bidoof Prende tweet Che io ho Finalmente Ora ne ho Non più Te l'hai rimesso Sì 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 Ma tanto sto premendo A Cioè so che cosa Sto Allora In teoria Si Si dovrebbe poter fare Così Da immagine Esatto Proprietà Sfoglia Esatto Bellissimo Sì sì No è una cazzata Praticamente da fare Vai Bella Pog E ragazzi Abbiamo gli starter Grazie Ferdici No è velocissimo Se Ferdici aiuta così Non ci vuole un cazzo Thank you Quanto sono cute Questi disegni Da quel dislivello Tu cosa dici Da quel dislivello Ma io voglio parlare Con questo tizio La seconda volta Che mi interrompono Bagigi Baggioghi Ma ho tipo 5 PS Ma io davvero Ma non potevi andare Dalla mamma Ma sarei comunque Passata nell'erba Fai fuga Oh se no Watergang lo ammazzi Dai Bagigi Baggioghi Non te lo tiene E invece Sì ma cosa ti fa Vai fai di nuovo Bagigi Baggioghi Noi abbiamo Fogliame Ragazzi Che è Ma è al bavagliolo Sì è al bavagliolo 40 Si ricordavo bene Attacca il bersaglio Con le foglie Se non sbaglio È stata introdotta Grazie a Antonio Della sub È stata introdotta Con Rowlet Vero Rowlet ha introdotto Questa mossa fogliame Dove siamo di qua Di sopra devi andare Perché È perché Dovevi andare avanti Dovevi andare a sabbia fine Non devi andare giù Vuoi andare a curarti No 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 Giù è casa Giù è casa Devi andare a sabbia fine Praticamente Siccome Rowan Non è un tuo vicino di casa Ma uno studioso punto Vive nella città accanto Conveniently Che hai trovato? Io non faccio altri Altri scontri Perché sono grindo Io esco no infatti Da quel disilivello Puoi solo scegliere È la scorciatoia Per due foglie Scegliere È stata introdotta Grazie a Antonio Sì assolutamente È stata introdotta No grazie a Raulet Il condivide esperienze È fisso Eccoti qua Ok Sei tu? Sì sei tu Oh ecco Ti vieni con me Il professore ci sta aspettando Bagigi bagioggi Eccolo Questo è il nostro laboratorio Pieno di pavimenti riflettenti Andiamo Pum Toad Più di classe Toad Ma ma che succede? Ah sei tu che ecco Quel vecchio signore Non è che faccia paura Ma è proprio strano Comunque non importa Io me ne vado Ci vediamo Lui va via con la refurt Senza proprio Se ne fotte Barry è un ladro di merda Vabbè Ma che Ma che aveva? Il tuo amico sembrava parecchio impaziente Vabbè entriamo Tutti ignorano Il furto avvenuto ai danni Dell'anziano Professor Rowan Guardate che bel riflessio Eccoti Finalmente Ti chiami Checco Giusto? Fammi vedere di nuovo Il Pokémon Ah bene Questo Pokémon Sembra felice Va bene Sai cosa? Te lo regalo Quell'esemplare Di Tartwig È tutto tuo Ora che il Pokémon È tuo Vuoi dargli un soprannome Ragazzi Tocca a voi Sia per Piplup Che per Tartwig È il vostro momento È il vostro momento Il momento di che? Ah che non elabora? Vabbè ma darglielo un po' di tempo No No è bug Buggato? Quindi Di nuovo È lo stesso video Yoel Chadwig Andrò a prendere Quella birra Ah sei andato Antifin Fantastico Piplup Ok per me Tortisio Kowalski Kevin Michelangelo No per te Michelangelo No no Io ho scelto ragazzi Ora Piplup e Barry Tortisio Piplup e Barry È molto bello Tortisio è molto carino Mi piace Bagigli e Gagioggi No Damiano Molto bello Damiano Piplup Roberta Poi i maschi Piplup Audo Buonaparte Emilio Emilio Carino Emilio Io eviterei I nomi Che sono giochi di parole Con Pplup Perché Poi qua non lo rinomini Come No In ottava gen Poi ti tiene il nickname Cikibe Ma perché? Non lo so Ma perché le piace? Impilio Cosa? Kingu Mi chiamavamo Piango Che un Pplio Avessi preso io Pplio All'epoca Avrei detto sì Ma non era mio Pplio Marzio Quindi Dario Moccia Sei intramontabile Ovvio Piango mi ispira molto Napoli Cosa? Napoli Perché? È blu Marco Massimo Sviletti Molto specifico Sicuramente Napoleon Però è molto bello Perché Napoleon De Empoleon Poi Non ti piace Penso la cosa Più basic Possibile Chiamare un Empoleon Napoleon Abbiamo un sogno Nel cuore Empol E on Empol Che è questa Qual è il sogno Ferdy Empoli Ti prego Ti prego Ti prego Ti regalo 100 sub A te Sì Accanto alla Switch OLED Indominate chi non ce l'ha una Switch OLED Io L'abbiamo provato a prendere Non c'era L'hai provato una volta Empoli Empoli ti prego Empoli Mi fa troppo ridere Empoli E lo slogan del Napoli Abbiamo un sogno nel cuore Ah Pensavo Ok ok Va bene Ha vinto Empoli Ma sto giocando in inglese Non c'è altro cazzo Empol Empol Come si dice Empoli in inglese Naples Empols Amples Amples Empoli Empoli Ti prego Ti prego Edici la Y E come piedini Empoli Vai Sì 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 Ok ok Empoli Addirittura Va bene Va bene Empoli Empoli Madonna Interessante Interessante Sei sicuro Sei davvero sicuro Che volete dire questo pronome Sì Barry mi ha raccontato Quanto è accaduto al lago Mi ha detto che hai lottato molto bene Anche se per te la la prima volta E mi pare proprio che si stia formando un certo legame fra te e quel Pokemon Tra Empoli E' per questo motivo che ho deciso di affidarti Turtisio Sono così felice che tu ami i Pokemon Ora faccio come il boss di Dark Souls e lo spacco per terra Se non fosse così dovrei Lasciamo perdere O Seiroth Passiamo alle cose importanti Vorrei che facessi qualcosa per me Mi chiamo Rowan E studio i Pokemon Il mio antenato probabilmente è l'antagonista del gioco che giocherete a due mesi Ma non farci caso Prima di tutto vorrei sapere quali specie di Pokemon No per dire Ah minchia che diverso dall'inglese Perché non sto ovviamente leggendo cosa stai guardando tu Vorrei sapere quali specie di Pokemon vivono nella regione di Sinno Per scoprirlo è necessario raccogliere dati con il Pokédex Ed è qui che entri in gioco tu Con questo Pokédex potrai raccogliere informazioni sui Pokemon di Sinno Ti va di darmi una mano? La darai anche al mio antenato a due mesi Posso? Si mettiamolo No ragazzi l'abbiamo mandato Guarda che posso stare qui per ore senza parlare Sono un tipo paziente Te lo chiederò di nuovo Checco Vorrei affidare questo Pokédex Ti prego Certo potrei usarlo per raccogliere dati sui Pokemon della regione di Sinno Vorresti farlo? Ti prego Speedrun any percent Alla terza volta titoli di coda Maratona di Norro True ending Ok si si va bene Bene ottima risposta Hai ottenuto il Pokédex Dopo una lunga contrattazione Il Pokédex è uno strumento all'avanguardia Registra automaticamente tutti i dati relativi ai Pokemon che incontri Checco viaggia per la regione E cerca di incontrare più specie di Pokemon che puoi Ne ho uno uguale anch'io Beh che sensazione hai provato camminando sul percorso 201 in compagnia del tuo Pokemon Ancora adesso che ho 60 anni sento come un brivido quando sono insieme a un Pokemon Nel nostro mondo esistono moltissimi Pokemon diversi E sono tutti lì a aspettarti per darti ognuno un brivido unico Ora vai Checco La tua fantastica avventura Sta per cominciare In questo mi piace di più Si? Che cosa? Che sfumatura c'era? No è esattamente la stessa cosa Però mi piace di più Il mio primo Pokemon è stato un esemplare di Piplup Se tu avessi scelto Piplup al lago io e te avremmo avuto lo stesso Pokemon Non che sia importante però Comunque mi chiamo Lucinda Grazie a Andros della Sub Anch'io aiuto il professore a completare il Pokédex Quindi io e te siamo sulla stessa barca Io però ho iniziato prima E ho un po' di vantaggio Spero di poterti insegnare qualcosa Comunque felice di conoscerti Checco Facciamo un po' di visitine Ma Non c'è grossa roba Controllo il PC Sullo schermo ci sono molti termini tecnici E informazioni astratte Difficili da capire Non abbiamo niente Sono il padre di Lucinda Sarò molto lieto di poter aiutare un aiutante del professore Ah scusa Sarò molto lieto di poter aiutare un aiutante del professore E' molto meglio in inglese Sono certo che di te ci si possa fidare Il professor Rowan ha inventato un nuovo Pokédex in collaborazione Eccoci qua Con un altro studioso della regione di Kanto Ok In teoria quindi potremmo ipotizzare Si è stato a Kanto Ha crea Ha coniato secondo me questo nuovo Pokédex Mi sta bene da tossire in continuazione Dicevo Ha creato questo nuovo Pokédex Che è quello regionale di diamante e perla Praticamente dopo aver studiato Con Oak Accanto a Kanto Sì 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 Eh sì Credo abbia Banalmente Fare del rifarlo da capo Esatto Credo abbia aggiornato Comunque creato il Pokédex regionale di sinno elettronico Studiandolo da Oak Conta che prima di sinno il dex contava solo i Pokémon catturati Il Pokédex da Rowan in poi ti conta anche quelli visti E quindi ecco qua In elaborazione ragazzi mi è andato attraverso qualcosa prima e sto morendo Infatti su Platino dice che Rowan torna da Kanto Ecco Ma immaginavo che effettivamente fosse appunto di Kanto Oh Checco ti farò da guida Sono un'allenatrice da parecchio tempo E sono anche l'assistente Del professore Quindi ho più esperienza di te Dai seguimi Questo edificio con il tetto rosso è il centro Pokémon Qui puoi far tornare in forza i Pokémon Che hanno subito dei danni durante la lotta Troverai un centro Pokémon in quasi tutte le città Mi sto seguendo dall'università Sono in prima fila e credo che molti di quelli dietro di me Si stiano distraendo a guardarvi In questo momento Io ragazzi sto morendo L'edificio con il tetto blu è il Pokémon Market È un negozio dove puoi comprare o vendere strumenti e rimedi Checco tu sei un allenatore alle prime armi Quindi i prodotti che potrai acquistare al momento sono limitati Non ti abbattere però A proposito Non dovresti dire alla tua famiglia che aiuterai il Rowan con il Pokédex Probabilmente dovrai viaggiare Quindi è meglio avvisare Ma prima di andare è meglio che tu rimetta in sesto i tuoi Pokémon Intanto vado anche con Chiara In questo modo ti sentirai più sicuro Ciao Ragazzi sono lo Schipperoni È il tutorial Intanto lo Sinda se ne va E noi andiamo al centro Pokémon Andiamo a far riposare la squadra ragazzi Oh fantastico Anche perché stavo morendo Mi è andata di traverso un po' di Do Pizza Mi ha devastato Ok prenderò la tua squadra di Pokémon per qualche secondo Thanks Ciao Al piano superiore dei centri Pokémon c'è il club locale Lì ti puoi divertire con i tuoi amici in mille modi diversi Parla alla simpatica ragazza al bancone E consegnale i tuoi Pokémon se stanno morendo Li curerà completamente in un batter d'occhio Vedi quel PC dal design inimitabile Quello blu Se hai dei Pokémon con te puoi usarlo liberamente Buona Aleph Mamma mia come Gino È veramente la cosa più fastidiosa È un pochino sì perché l'abbiamo detto in recensione ragazzi Lo vedete a breve Il fatto che tu sei l'unico personaggio a muoverti otta direzionalmente è strano È veramente strano È meglio salvare così non dimentico che cosa è successo finora Adesso posso fare una pausa Ah ma farei gli stessi disegni De che? Ah sì sì certo Che carini Wow i Pokémon sono veramente straordinari Se li fai lottare diventano più forti Come vorrei avere qualcuno Averne qualcuno tutto mio Sono eccezionali Ragazzi vi voglio far notare subito un dettaglio Del quale poi discuteremo in recensione Ma prima facciamo l'exploro di sabbia fine Non c'è nessuno di Word qua dentro? No Chi sei? Oh sei Checco Ehi ma tu fai quella cosa del Pokédex per il professore Wow lo fa anche mia sorella Che forte Quindi questa è casa ovviamente di Lucinda come abbiamo visto là fuori E quella è la sorella Mannaggia al cazzo La sorella Mi pare che sei andato allora Sei il professore Sei qua sotto? Sì sì Sono Vai nella casa accanto Ah e così Rowan è tornato È un uomo in gamba Studia i Pokémon Praticamente da sempre Mio figlio e mia nipote Lo stanno aiutando nelle sue ricerche Sbirciamo il PC Regola numero uno dell'avventura Questi sono i tutorial Libri sui Pokémon Ci sono due letti Perché c'è quello della sorella Oltre che quello di Lucinda E abbiamo libri a tema Pokémon Nella tv non c'è nulla di not worthy E andiamo qua accanto Cosa c'è qua accanto? Un cazzo? Un tipo che ti dice non farti ammazzare i Pokémon Cioè All'inizio mentre cerchi di farli salire di livello Dovrai portarli regolarmente nei centri Pokémon Devi andare spesso al centro Pokémon Un buon allenatore si riconosce dal fatto che non lascia mai Che i suoi Pokémon perdano tutti i PS Se vadano KO Va bene Allora Vi volevo far notare questa cosa Scendi giù La bellezza del level design di Sinnoh Sopra tutte le altre generazioni Sì E che ci dovremo continuamente annotare Cose da fare Qui abbiamo trovato un antidoto Ma C'è una parte Da Appunto surfare Quando avremo surf E questa parte da surfare Non è Un segretucciolo Non è un momento di Ok Andiamo un metro avanti E prendiamo Un Un mezzo strumento Ma sarà proprio Aprire A un nuovo percorso A nuovi allenatori A nuove situazioni Quindi insomma Vedrete Che il backtracking di Sinnoh Ci ricorda proprio Un game design di Pokémon Che fu Non c'è mai stato più niente del genere Ma neanche con bianco e nero In verità E poi vabbè Da XY in poi Figuriamoci Qui continuamente Tu devi Guardare la mappa E dire Mi annoto Che questo Che questo Vincolo Non posso effettivamente Per Proseguire adesso Da lì Però Potrò poi Imboccarlo Tra qualche tempo Quando avrò Spaccaroccia Quando avrò Scalaroccia Quando avrò Taglio Quando avrò Surf E quindi Ragazzi Vi assicuro Che questa cosa È una figata In più Ci saranno Tanti momenti A Norlondo Perché Il momento A Norlondo È quando Scopri Che una mappa In realtà È un'altra È una roba Di Dark Souls Perché Ci saranno Degli scorci Nei quali Vedremo il Monte Corona Da subito E quegli scorci Poi li raggiungeremo Dopo 20 ore di gioco E ci renderemo conto Che il Monte Corona Può affacciare Praticamente Nella mappa iniziale Del titolo È figa Sta roba Non c'è mai più stata Cioè Se pensate a Spada e Scudo La città iniziale È qui E la città finale È qui Basta Qui invece È più a spirale Cioè C'è la città iniziale qui Ma poi gira 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 Monte Corona Alla fine riesci Dalla città iniziale Quindi è figo A lei A voi L'eff Eff L'eff in chat Sì sì Allora Andiamo Torniamo dalla mamma Ok Quindi dobbiamo tornare a casa nostra Sì Biretta Biretta Oh finalmente Mi è passata Tossopoli Che bello Averti a casa Checco Stai bene E il tuo Pokémon Riposati un po' Tesoro È l'ultima a destra Grazie ragazzi Delle sub Gentilissimi Che succede Checco Wow Il professor Rowan Ti ha chiesto di fare Una cosa davvero importante Ma sì Fallo tesoro La mamma Fa il tifo per te Aspetta Ho una cosa Che potrebbe tornarti utile Checco Hai ottenuto le note di viaggio Hai messo le note di viaggio Nello strumento Da me è molto più veramente in guidebook Ok Negli strumenti base Grazie a Fallon della sub Sono delle note di viaggio Consuntale quando hai dubbio Se trovi qualcosa che tira la tua attenzione Durante la tua avventura Praticamente è un quadernino dei tutorial Ve lo faccio vedere Al loro interno potresti trovare Le risposte che cerchi Wow Un viaggio pieno d'avventure Ti invidia un po' E non sarai nemmeno solo Avrai i Pokémon a farti compagnia Come vorrei andare io Sto scherzando tesoro Ma si starò bene da sola Tu vai e vivi la tua adventure La tua mamma è molto contenta Che tu abbia la possibilità Di sperimentare cose nuove E fare nuove esperienze Però torna a trovarmi Di tanto in tanto Mi piacerebbe vedere Che Pokémon hai catturato Ecco qua le note di viaggio Qui verranno registrate Informazioni utili Per la tua avventura Puoi consultarle Accedendo alla tasca Degli strumenti base Nella borsa La borsa Scusate E' qui il mio Bernie Come? No non c'è Oh deve essere già partito Allora come faccio adesso? Si è messo a urlare Che partiva all'avventura E poi è sparito Charlie E' così impulsivo Incosciente E' così impulsivo Incosciente Volevo almeno Che prendesse questo Non si preoccupi Glielo porta a Checco Vero Checco? Checco Checco Si stava un attimo Cringiando Per il mio nome Sul serio Mi faresti un favore enorme Grazie mille Checco Ecco qua Lo potresti consigliare A Barry E consegniamo Il pacco a Barry Un pacco bomba Ciao Checco E mi raccomando Divertiti Fatemi pensare Conosco i miei Combasken Cos'è che dice qui? Noi ma boi Ci godo Ho sempre pensato Che questi giochi di parole Con i pokemon Facessero K E sono contento Che non siano Un'idea degli autori Ma dei localizzatori Perché sei contento? Perché vuol dire Che Non devo per forza Immaginarmi Masuda Lì che fa Ora ci si mette Conosco i miei Combasken Raga Raga Gioco di parole Non so Per me è quasi peggio Perché? Boh Non so Non credo che sia Il tipo di libertà Che mi piace vedere In una localizzazione Forse perché È un po' Abbassa veramente tanto Il livello Del discorso Conosco i miei Combasken Sì Lo pone su Quel livello Di ridicolo Che Non mi fa impazzire Quindi Io sono d'accordo Cioè mi dispiace Che l'interpretazione Punti verso Una chiave Più parodistica Però è una questione Di gusti Alla fine Cioè si sta Semplicemente parlando Di scelte stilistiche Non Su questo Non credo che ci sia Una posizione giusta O sbagliata Marcolino ha capito ora Che con Combasken Sta per polli A posto Marcolino Va bene Comunque si Sono d'accordo con te Quindi ecco È semplicemente Una questione di gusti Esistono tanti tipi Di humor Tanti tipi Di modi Diversi Per fare comicità E io amo I giochi di parole Più che altro Giuclo ha ragione L'ho sempre pensato anch'io Se qualcuno non conosce La terza gen Non capisce Cosa sta dicendo C'è non è neanche Un pokemon Che hai già visto E quindi dici Vabbè Comunque Grazie ancora Vabbè Ma non si deve prendere in considerazione Di tradurre letteralmente Conoscendo il mio ragazzo No no Perché è il modo Ma conosco i miei pulli Andava bene Ma è il modo in cui Suona bene in inglese In italiano Ti basta tradurlo Come conoscendolo Sì 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 Cioè non hai bisogno Di andare a Né impelagarti In una traduzione letterale Che stonerebbe Né necessariamente Andando a dire Conosco i miei pulli Sì 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 ma sono d'accordo Che tra l'altro Forse la cosa che non mi piace È che conosco i miei pulli È un'espressione Che non mi piace Sì 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 Quindi di conseguenza Anche conosco i miei combas Che non mi fa ridere Perché parte da Una locuzione Che non ti fa impazzire No è anche abbastanza Desueta Ah Checco Ti sta dimenticando Una cosa importante Scusi Testa grossa Testa grossa Importantissima Più che altro Le teste diventano sempre più grosse Nel corso della vendura Ve l'assicuro ragazzi Cyrus è solo testa Sì quel berretto Ti sta proprio bene Checco Adesso vai Bella Ciao Ma anche qua sarà surfabile Sì No ma in realtà Non c'è un cazzo qua Non è vero Però guarda Reflection Però ci sono gli alberi No reflection È tipo quando apri La fotocamera del cellulare Per sbaglio E ti guardi Da sotto E ti guardi il mentone Sì sì Da ogni medaglia Si ingrandisce la testa Io non ho trovato niente Non posso incontrare nessuno E neanche io Ci godo Ma io non volevo Però se incontri te Incontro io eh Ma io non volevo incontrare Ok bella Ok ora andiamo su E marchetto un attimo Io non l'ho fatto Non so se tu l'hai esplorato Il marchetto No cato Quando lo facevo Fammi andare a vedere Di nuovo Due elaborazioni buggate Se vedi un pokemon Che vuoi assolutamente Lancia una pokeball Non uscire mai di casa senza Un pokemon Che ha perso Tutti i suoi ps Non può più lottare Ce l'ha fatta Elaborare No raga Adesso potete vivere Sono bloccati In due adesso Allora potete vivere In diretta il nostro strago Il testimoni Che non è che ce lo inventiamo Allora cosa succede Il video deve essere elaborato Ok L'elaborazione ha un bug Che è possibile Riscontrare Cioè o meglio Ci si può accorgere Del fatto che l'elaborazione Sta avendo problemi Perché se vai Nella gestione video E apri la pagina Al Quindi l'elenco dei video Ti viene fuori Elaborazione al 100% Appena carica Accanto al titolo E poi diventa L'elaborazione Inizierà a breve La stessa stringa Di testo Passa da 100% A inizierà a breve Quello vuol dire Che è buggato Per sbaggarlo A volte funziona Ricaricare di nuovo Il video Ora ne ho due Nello stesso bug Quindi sto per uploadare Il terzo No ragazzi È devastante Guardate ve lo dico sinceramente Ci sta passando la voglia Di fare video su youtube Perché ogni settimana È una violenza psicologica Dover buttare ore di lavoro Davanti a una piattaforma Che non funziona Cioè io posso capire Che dici Vabbè Non carichi il video Ci mette un po' a lavorare Ma non che si bugga Continuamente Che Chiara deve star ferma Invece di fare altro Invece di poter Non lo so Dare un attimo un'occhiata Agli articoli dei sette fiori Fare i nickname Dele dan battle Per la settimana dopo Chiara mi deve star Ore Davanti al pc Guardando youtube Finchè non fa il bravo Che coglioni Cioè è veramente fastidioso Ma non solo Tra l'altro aspettate La soddisfazione Di non dormire Per fare le cose in tempo E uscire tardi E uscire tardi Capito E poi arrivano le battute Della gente E uscite sempre tardi Ma porca puttana Io ho dormito Dalle Tre Alle cinque e mezzo Stanotte Però Il video è pronto Il video è finito Il video è fatto Per fare tutto quello che facciamo Non c'è verso Se non finire il video Qualche ora prima Dell'effettiva pubblicazione Ma quando? No no dico Cioè per forza così Ma dovrebbe bastare L'hai finito qualche ora prima Bella No Comunque Dicevo Ragazzi Stavo dicendo una cosa Non me l'ho scordata Ah ok Guardavo ieri I nostri guadagni Della nostra società Perché chiaramente Sta per finire l'anno E quindi poi ci sarà la dichiarazione Da fare l'anno prossimo Però ci facciamo un'idea Di quanto avremo incamerato E quanto è uscito Sai quanto è il nostro guadagno Cioè in percentuale Quanto YouTube Contribuisce al nostro guadagno Ma secondo me È intorno a 1% 8% Ah Però aspetta Tutti i due canali Anche quello di ricaricamento Che fa la metà 4% Bello 4% Ragazzi Il 4 I nostri guadagni 4% Diciamo giusto Come dice Chiara Visto che il canale di ricaricamento Non conta È il 4% È fuori di testa ragazzi È fuori Non so neanche perché lo facciamo ancora Però perché mi piace Per Perché mi piace Per principio Con il No di più Claudio di più del 200% Di impegno rispetto a Twitch Ma fai tipo 400% Perché scrivere un video È lunghissimo Montarlo Girarlo Interpretarlo Molto di più In live sai Accendi e vai Cioè ci sono pochissime live Che hanno un impegno Anche solo paragonabile A un video A un singolo video Sì sì Io continuavo a chiedermi Perché non si muovesse il mio personaggio Mentre guardavo il tuo schermo Assolutamente sì Devo comprare il pokeball Sì ne ho presi 30 Io ne prenderò 10 Ci sono le primer ball Le polpolopo Praticamente sì Funziona come una vetrina Ormai il YouTube Nel senso che Ci facciamo conoscere su YouTube La gente viene qui su Twitch E qui su Twitch Monetizziamo effettivamente Tramite le vostre sub Eccetera eccetera È l'unica cosa E infatti Sferal È l'unico motivo Grazie Legolas Questa in teoria Non si può Mandare video No Per chi sta dicendo Che ne ho letto Ha letto almeno due o tre persone Che dicevano Si potrebbe mandare Non si può In realtà non si può Io ho preso No facciamo Facciamo altre Altre 10 Secondo te È possibile spostare Leggermente il microfono Assolutamente Dove vuoi Perché è esattamente Da Big Ma No no Non voglio una Pokéball Ne voglio 10 20 con questa Prima di Twitch Come campavamo Non in una casa da soli Eh infatti Eravamo banalmente A carico Prima di Twitch Campavamo Come la maggior parte Degli studenti Perché prima di Twitch Eravamo all'università Io stavo Finendo la triennale Mi stavo preparando Per fare la magistrale Senza Twitch Non ne potremmo fare un lavoro Ragazzi Molto sì Forse oggi sì Con i placement No Ho saltato il pezzo di YouTube Ho associato A prima di Twitch Ma a prima di YouTube Però anche lì YouTube Non ho mai pagato davvero Lo so Lo so che ce ne dà 20 Lucinda Ma io voglio le Pokéball Vieni su Quando hai fatto Ok Eppure ci sono Creator che con YouTube Campano e pome Come come mai E fanno video diversi Dai nostri Da 10 minuti Da 15 minuti Tutti i giorni O hanno Patreon Che però non è YouTube Ora ti mostro come si fa Guarda con attenzione Va bene? Sì sì Il tutorial della cattura Ah ok 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 Il fatto che esistano Creator che campano E come su YouTube Penso che sia molto ingenua Come domanda Perché è come dire Ma ci sono persone Che campano Giocando a calcio Perché io non campo Giocando a calcio Eppure il calcio Il livello è diverso PewDiePie è campato con YouTube Ma sono delle numeriche Completamente diverse Dalle nostre E senza arrivare Al comunque L'esempio iperbolico Del calciatore O di PewDiePie Banalmente Nel momento in cui Non stai parlando Di un canale Che pubblica Una volta Alla settimana Un video da un'ora Ma pubblica Tutti i giorni Di 4 video da 10 minuti È un algoritmo Completamente diverso Un calcolo Completamente diverso Quindi è abbastanza comprensibile Che ci possa essere Chi ci trova Sì in generale Sono d'accordo Redfudo Con il dire Che è come su YouTube E non è semplice Tant'è vero Che oggi Con Twitch Anche chi pensava Di guadagnare su YouTube In realtà Se parliamo Un Twitcher forte E un YouTuber forte Sono delle numeriche Completamente differenti Ok Cioè dove Twitch È qui YouTube è qui Peccato Visto? Non male eh? In realtà Sarebbe meglio Far diminuire I PS del Pokémon Da catturare Più di quanto Non abbia fatto io È importante Far abbassare I PS del Pokémon Il più possibile Un Pokémon In buona salute È molto difficile Da catturare Un altro modo Per rendere i Pokémon Più facili da catturare È addormentarli O causargli Altri problemi Tipo Non Mandargli in tempo La dichiarazione dei redditi Questo è quanto Per cominciare Ti darò delle Poké Pokéball Hai ottenuto Delle Pokéball No Per me era proprio Pokéball Ok Portando con te Moltissimi Pokémon Potrai viaggiare Con maggiore serenità E sarà anche Molto più divertente Andare in giro In loro compagnia Ora devo andare Ci si pogga Spero che il giorno In cui smetterete Di fare video Sarà ancora molto lontano Ma ragazzi Non smetteremo Di fare video Sicuramente Però questo è il motivo Per cui spesso Diciamo Possiamo fare video Grazie ai sub Di Twitch Maverick È vero assolutamente Quello che scrive Maverick Che il Prime Gonfia i numeri Ma vi assicuro Che nel nostro caso Per esempio Sarebbe tranquillamente Un lavoro anche senza il Prime Da quanti sub tier 1 Ci sono Che decidono Di supportare davvero Di supportare davvero il canale Ok Bidoof Sarà la nostra prima cattura Turtisio Vai Come farete a ricaricare Questa live su Youtube Con queste dichiarazioni Perché non dovremmo Ah Vediamo Anzi Ci mancherebbe Non poter parlare Di quanto disagio Causa l'elaborazione Di Youtube Ah no Mi hanno attaccato Per prima No No Non abbiamo già scelto Le squadre Budeo è stato catturato Ragazzi Ho preso Budeo Come lo chiamo? Intanto abbiamo fatto i 7 Ma te sei già un allenatore? E quello subito sopra No Non ho letto la descrizione Mannaggia il cazzo Come lo chiamiamo? Budeo? Le leggiamo tutte Ok Come mai hai deciso Di dargli 7.7? Ok C'è scritto nella recensione Ragazzi Ma che domanda è? Cioè c'è letteralmente 30.000 caratteri Qui sono 30.000 caratteri Che argomentano Perché c'è quel voto Vabbè Oh Shinx Ho trovato Shinx Eh bella roba Con prepotenza? Eh non lo so Mi ha distratto il Gisella Goober Goober? No Sì c'ha il dentone C'ha il dentone a castoro Goober Ma è lo slave È lo slave Per quello Allora Non gli faccio troppo male Voglio catturare lui Non gli faccio troppo male Ok Bagi giga joggi Con prepotenza Da prendere Assolutamente Che bello Che bello che è Shinx Shinx mi piace tantissimo Secondo me Tiene anche stalli L'azione Conk Anche malino Conk Vai Ho preso Bagi giga joggi Ok Abbiamo preso anche Starly Nome per Shinx Aspetta che leggo la descrizione Sì Allora abbiamo Si muove in grandi stormi È piccolo Ma la forza con cui sbatte le ali È sorprendente Come vogliamo Chiamarlo Intanto qui Le sue gambe Posteriori Four legs Dovrebbero essere posteriori Hanno un sistema di muscoli Che genera elettricità Il suo corpo brilla Quando è in pericolo Si accende Allora È una femmina Gagioggi Ma per me è gaga Però gagioggi Ci deve essere più Gagliardo Ci vuole Un nome bello potente Querti palese La prima ama Esatto 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 No no Voglio un nome da ama Ragazzi Ecco Così è un po' più Yu-Gi-Oh Gagioggi È un po' più Clem Priscilla Allora Giorgione Panfili Potremmo Cominciare Già A allenarlo Gagioggi In teoria Shoshan Ce la farà Gagioggi A tenerlo Sei un allenatore Di pokemon Anch'io sono allenatore I nostri sguardi Si sono incrociati Quindi c'è una sola cosa da fare Sesso Non è per lottare Saetta Scintilla Miss Benji Entra Ma lo sai che io mi ero dimenticata Che ho detto ad alcuni dei miei villager Di Animal Crossing Di darmi come soprannome Miss Benji Adesso quando mi salutano In giro per l'isola Fanno Hey Miss Benji Come va Per fare rete E qui però Gagioggi Per cavarsela La chiamiamo Shino Oh Gagioggi La potremmo chiamare Shino Effettivamente Dai va bene Va bene La chiamiamo Shino Allora Sperando porti fortuna Dai la switch è questa La count è questa Però io Shino La voglio su un'altra isola Quindi in realtà no Ok D Sieamin Secondo Eh Continua a fare Simpatico Franco Parapapapaparapap Frusce 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 Parapapapapapa Mi lagga un po' l'audio No Non abbiamo deciso Le squadre Allora And I don't know why Lo prenderò un bituffo Lo prenderò Scusatemi Non so perchè voglia fare questa roba qui ogni tanto Simpatica di perdere roba Eh no però Gaggioghi allora lo abbiamo togli Lo mettere furtissimo Ferdi io ti direi Che potremmo aggiornare Quando arriviamo a un qualche punto A un qualche punto di non so Il prossimo Checkpoint Nella storia di questo gioco Come siamo messi col video? Come lo chiamo Bidoof Lo chiamerei Buber anche io Io lo chiamerei Buber Allora Ha funzionato Mettere Il terzo video E' riuscito a fare la verifica Ma cioè aspetta Ho riuscito a fare la lavorazione Ma adesso è in verifica Ok Allora Scusatemi Stavo controllando al solito Le mille cose che succedono Durante la recensione Day 1 di Pokemon Allora Andiamo su Starly C'è il Pokeradar ragazzi Ma è endgame Al solito No come lavorazione ci siamo Allora perdonami Ci siamo? Faccio un attimo E' in verifica Stiamo Ok stiamo per pubblicare Cazzo Ragazzi Ragazzi Meno male che non siamo In Nuzlocke Mi sarei curato Se fossi Nuzlocke Però Mi ha grittato Il Bastard Vabbè ma sono Chad Sono Chad Sono Chad Sono Chad No ma Morire non muoio Al massimo muore Tartwig Ah avete fatto la scommessa Se muoio durante tutta la run La perdete Cioè non muoio Fidati E' impossibile morire In questo gioco Gajigi Gajoggi Che ha sconfitto Ricky Martin E' Dudo come Spallone E' Spallone Intanto Nella descrizione di Chiara C'era scritto che Bidoof Fa le vighe Come chiamiamo il Bidoof Di Chiara ragazzi E' Pure io Ho fatto una fatica Assurda a batterlo Bulo di Marce Bidone Ferdi Goober Un'altra volta No Povero Ferdi Osvaldo Goku Ferdi Bergoldo No Bidofra Oh Che vorrebbe dire No non mi piace La scena Perché non voglio Nenun cazzo Badafra Perché Bidofra Perché Badafra Ma è un Bidof Ah ok Allora vabbè Chiara che capisce 20 secondi dopo La battuta Allora va bene Oh Franca Dove sono i video Dove sono i video Che vuol dire Dove sono i video Ah ok Boh non lo so Nell'hard disk Sword and shield Credo sia l'artel Ok Dario Norcia Bello Norcia Si Ci dobbiamo schiamare C'è un maiale L'ha comunque capita Prima di Marcolino Sono d'accordo Non c'è il salame Norcia Non c'è il salame Sì nella recensione C'è anche il salame No no Dico nel mondo Norcia Non è come Tutti i salami Sì 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 assolutamente Per benedetto Aspetta che sto cercando Di andare avanti In tutti e due i giochi È bellissimo Per benedetto la di Norcia Oh ma cosa vedo Un allenatore Lottiamo Se io tolgo L'audio di Chiara Non cambia niente Va sempre fuori I sync Come la merda A un certo punto Perché ha ricominciato A fare sta cosa Che va progressivamente Out of sync Ma non so perché No non è il tuo audio Eh ma se io Eh ma se non mi curo Sono un cretino però Non mi sono curato Un'altra volta Vabbè Dove è Cyrus Figo Vabbè Vai da giochi Cyrus Figo L'hai già usato? Eh L'ho già usato Boh Non ho idea Forse sì Ragazzi sto giocando Due partite insieme Bravissimo Bravissimo In questo gioco Puoi fare anche questo Migliore 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 Sempre Dai Gagioghi Se la porta Non l'ho già usato Gagioghi Mi sa che se la porta A casa Gagioghi Sentite Gagioghi No ma Ferdi Non è un problema Tecnico del doppio gameplay È proprio Però credo che lo sia In parte Perché guardate che ora L'haga anche lui Proviamo a fare così Lo disattiviamo E vediamo se cambia qualcosa Posso mettere questa Sì mettila 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 Allora Cambia Pokémon Continua a lottare Ma no ma non ho messo Non ho messo il cazzo Mi cambia il Pokémon Devo mettere set ragazzi Ma teniamo Gagioghi Teniamo Gagioghi Sì sì Mi ha la stessa faccia Attenzione Guarda lì Gagioghi Mamma mia Il Gagiog Nonostante tutto Nonostante il meno mazio Va forte Andiamo ancora Ancora Sbaglio Bidoof Quando Crepa Gli hanno tagliato una parte del verso Sono tutti diversi I versi Quando muoiono Sono versi diversi Let's go Bella lì Bodo Bodo Chiara è altissimo Ma che cazzo Ma l'ho disattivato L'audio di Chiara Cosa è altissimo L'audio delle mosse È altissimo Ma l'ho tolto Abbassa Ragazzi Non c'è audio di Chiara Cosa cazzo state sentendo È un problema di Twitch Lo sentite ancora Adesso cosa cazzo sentite ragazzi L'audio di Chiara è altissimo Ma non c'è l'audio di Chiara Non c'è Come vuoi Non c'è Adesso come fate a sentirlo Lo sentiamo al massimo Bidu fa urlato Ragazzi Come fate a sentirlo Noi lo sentiamo Secondo me È Twitch che ha sfasato Vai Vabbè In realtà Non è vero E ci stanno solo Prendendo di giro Tanto Chiara È già arrivata L'altra sfida Allora Allora Un gagici di gaggioggi Io farei azione Raga Però mi devo andare a curare Mi piace il rischio Posso farcela Anche con il rischio Ma secondo me Era impazzito Era altissimo Per un attimo Ora non si sente più Ma si sarà buggato ragazzi Se sei forte sali No no ma io sono forte Infatti guarda Guarda gaggioggi Guarda il gaggiog Quanto va Intanto vado in lotta Con Chiara No heal run Tutta così Cazzo Shinx però Mi sa che Mi interita Io ce l'ho D'altro mi intimida Io non l'ho trovato Shinx Io l'ho trovato Come primo Buono Lodovico Allora Intanto qui A Empolio Gli facciamo fare Watergun Che secondo me L'ho bisciotta Non penso abbia Ancora mossa elettro Grande Garille Allora Io qui andrei Di Aksho Eccolo qua Il gaggiog Eh però Treat Farei uno switchello Farei uno switchello Qui Appena pubblico Appena pubblici il video Dimelo Che poi dobbiamo mettere Quel commento pinnato Che c'è il NordVPN Ragazzi oggi nel video A una certa Sì Sì Allora Qui si fa Azione Ancora non è morto Merda C'è tono shock È morto Gagioggi Povero Gagiog In Nazloc Sarebbe morto Ma non siamo in Nazloc Possiamo mettere serenamente Tortisio qui Allora Andiamo pesanti Con azione Ah ma è finito C'è in blu E' l'unico allenatore Che c'è Vado a curarmi intanto Ragazzi Aspettiamo Chiara Non le abbiamo già preparate Ragazzi le avventure Le squadre dell'avventura Stiamo improvvisando E vi chiediamo scusa Se stiamo andando a sigliozzi Per questo primo episodio Ma appena sarà pubblicato il video Non abbiamo altro da fare Ma se YouTube Culo Ci mette un'ora A fare andare al terzo upload Il video Succede questo Sì sì È tutto impostato ancora su meglio Perché mi sa che non ho salvato Le opzioni Perché sono un palle Infatti Veloce Sì Sì No Musica giusta Soprannomi sì E qui Non sostituire Sì Avlogation Let's go No i Pokémon Non prendono esperienza Se sono KO Ovviamente Bebbo Bebbo Let's go Ok Let's go Facciamo il curello Abbiamo un bel trittico Tartwig Bidoof Starly Eh La live Dura fino a stanotte Ragazzi È un bel curello Teniamo davanti il Gajog Teniamo davanti il Gajog Ci sta Let's go Ok Un Gajog No È qui Lo ammazziamo easy Con azione Secondo me No no Nazlock la facciamo con Michele Ragazzi Arriva il Ruggio Il quadro ancora non l'abbiamo trovato Tuccio Appena lo troviamo Lo commentiamo Prima di trovarlo È difficile L'esco azione Purtroppo Non mi ricordo dov'è No non c'è bisogno di B per correre Lo premo io perché sì Volevo trovare Shinks Anche se probabilmente non lo Metterò in squadra Franco Fra Francholdi Lottare è divertente Voglio lottare contro più gente possibile Eccoci qua Arrivati a La città del Giubilio E non ho trovato Ah aspetta no ma c'è un allenatore qua Che non ho fatto mi sa Aspetta 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 Ehi Checco come va con i Pokémon Ne hai già catturato qualcuno? Penso che saresti tranquillo Se ne catturassi qualcuno di più A Giubilopoli c'è una scuola per allenatori Sai cosa penso? Dovresti farci un salto Checco Ti daranno qualche dritta sui Pokémon Barry c'è già stato Allora ragazzi Non penso che Chiara mi senta A un certo punto Alla scuola per allenatori Pokémon Ci sono due Abra un raggio scossa E ti spaccano il culo Non diremo niente Secondo me Chiara straverde Perché ci sono questi due Abra con raggio scossa Che si permapustano Per ora ti saluto Ciao Niente niente Figurati Ma no ma nulla Ma nulla Gagigi gagioggi Ho detto gagigi gagioggi Ah non era un allenatore Era uno strumo Da strumare Ci sono Pokémon che si fanno vedere solo di giorno E altri che escono da lo scoperto di notte Me ne starò qui a aspettare Finché non li avrò visti tutti Dico proprio tutti Gesù bamb E ti passo su Telegram Quella roba Anzi su Facebook Gagigi gagioggi Gagigi gagioggi E aspetta Che va messo il quello pinnato Te lo passo su Facebook L'ho trovato Shinx Ma che starli di merda Ovviamente senza CTA Blablabla Vai su Facebook Che capirai E vado lì Ho l'altro Oh notifica arrivata Sono contento ragazzi Ok Perché sto condividendo Vabbè tanto su Facebook È sempre Ok appena metti Francesco Cicluzzo Lo becchi Sì ma sto condividendo Ci sta ci sta Io sto facendo Multitasking Intanto non ti perdi niente Il primo percorso Io non Shinx lo vorrei però La Chiara ne ha trovato un altro Ma che cazzo L'ho trovato L'ho trovato L'ho trovato adesso Gagi gigi gagioggi Io tiro la ball I'm gonna do the chad move Guarda se devi temperare La matita per gli occhi Qui I dati di Shinx sono stati inseriti Nel post A volte mi chiedo se Sei stato tu A essere un'influenza negativa Entrambi Entrambi Ci auto alimentiamo Cioè stiamo diventando Tutti e due sempre peggio In caso di pericolo In caso di pericolo la sua pelliccia Diventa chad Mi dicono Ma Ok Ok Io sono molto contenta Sganascio chad Shinxonia 9.6 Sì sì Io dato 9.6 Ragazzi Sabaku Chadrei Raikiri Shea North Kiki Monk Ma è uguale un'altra volta No io te l'ho copia incollato Sì sì Ho un altro profilo di facebook Scrivi La recensione online Pubblica Ok La recensione Online La recensione Online Punto esclamativo Pubblicato Ma sì Ma sì Allora Intanto ti prendo l'oggetto Oi oi Ma la smetti Trova qua Non selvatici Attraverso la mia guida Bel roll Puoi anche Non guardarmi No no Ti guido Perché se no Hai Finci il percorso Dopodomani Pog Pog Bravissima Cioè sì Proprio Chiara sta facendo I post Oi oi Perché torno indietro Chiara sta facendo Il post su facebook Per spammare la recensione Però solitamente Li scrivo io Li ho fatto scrivere La recensione online Punto esclamativo E il commento sotto E il commento sotto E il commento sotto è Pog La descrizione La descrizione L'avevo già fatta Ah ok Ma copiata Dall'altro video Quindi era diversa E poi Ecco Una mezz'ora in ufficio Saidonia Ve la facciamo vedere in live E è rimasta L'altra scherda Ok Ok E quindi stavo Per modificare La descrizione Del video analisi Di Archeus Ah ok 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 Era questo il punto Ok Non ti tratto come un imbecille No Non ti tratto come un imbecille Giubilopoli Città gioiosa Grazie Giro Grazie Gioele della sub Salve allenatore Se ti trovi in un vicolo cieco E non sai più cosa fare Parla alle persone Parla a tutti quelli che vedi Vai in posti diversi Viaggia più che puoi In questo modo Si apriranno nuove porte Eccolo Ok va Ma fa caldo Si fa caldissimo Bene Passiamo in modalità full screen Carica Oh che carino Era questo il quadro Che stavi parlando Allora ragazzi Lo sfondo probabilmente È un quadro Che abbiamo già Uno di quelli che abbiamo Googlato prima Ma I pokemon che ci sono sopra No Non ci sono Non capisco cosa siano Non capisco cosa siano Gli alert perfettamente sopra il quadro Da una parte anche a me sono sembrati Mantine Perché hanno Sembrano avere Quei pallini in testa Tipici di Mantine Ma dovremmo trovare Una Sorta di High res model Di questo quadro Per riuscire a capire Se sono effettivamente Mantine o no Controlla su Mega Non ho capito se Marcolino stesse chiedendo Se effettivamente fosse Dice Ferdi Che c'è un quadro simile Anche su Mega Ma dove lo trovo Guarda una cartella Cartella BDSP Live forse Quadro PNG Ok c'è semplicemente Ora non ve lo sto a caricare Perché Bordello anche Gesù Però È un quadro base Non c'è questa immagine È il corrispettivo Esatto C'è un quadro anche qui Ma questo quadro L'hanno fatto apposta Ora provo a Zoomarlo Ragazzi provo a zoomarlo Parecchio Ok Non capisco se siano Dei Mantine o no Perché da una parte La parte qui Dello sfondo Mi fa pensare Che possano essere Dei Mantine Però per come è curvato Questo lo sembra meno Il primo a sinistra È vero Fai una foto Una foto? Sì Che vuol dire una foto? Una screenshot? Sì Ok E poi? Poi apri l'album E zoom Perché si può zoomare? Sì Ok Allora aspetta che torno Potrebbe essere Un po' più Sì Un pochino meno Sgranato Anche a me A volte li guardo Sembrano Mantine E a volte mi sembrano Uccelli Non sono così sicuro Che siano Mantine Ragazzi Cioè non ve lo riesco a dire Con Ah vabbè Sì certo Sono dei Mantine Non è così proprio limpido Vediamo un attimo Se me lo fa fare Torniamo su BDSP In che quadro è? La prima a sinistra In basso Prima a sinistra In basso Ok Non ho screenshot Compromettenti Non so se magari Avevo cose in anteprima Ma non ho Ma questo è il centro Poso Beh è più comodo Sì ma è peggio Secondo me Si vede peggio Mi curo Ma 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 Ok ma Allora Sono Mantine Sai che non riesco a decidermi? Perché il primo in basso a destra Che succede? Ah non ti funziona il Joy-Con di nuovo? Sto Joy-Con sta avendo dei problemi Grossissimi Vuoi attaccare il Pro Controller? No Cosa no? No sono Un po' incazzata Perché Volevo tanto Cioè quando di questo colore Volevo tanto Cioè esattamente il colore che volevo Eh lo so E Il destro è fottuto Cioè io sto premendo home In questo momento Il schifo funziona Ma sto premendo home E Allora guardate che in realtà Mantine Mantine ha anche Ha un ordine vero La posa In alto a sinistra Quella con il La schiena curva E lo vediamo Secondo me in alcuni momenti Su Pokémon Snap In quel modo Quando è curvato Stiamo già zoomando Ragazzi Sono al massimo Dello zoom Eh Sì Mantine Ha entrambe le pose Esatto Mantine dovrebbe avere Entrambe le pose Sia quella Curvata Sia quella Così Insomma Tutta gobba Zoomandoli Se sono Dei Mantine Non ci ricaviamo Un cazzo di niente Da questa informazione Ovviamente Sto cercando Di decidermi Se sono Non sono Dei Mantine Cioè se sono Dei teaser Come erano I teaser Dei quadri Della Gran Bretagna Per Galar Oppure no E' la mia questa? Sì questa è la tua No forse no Non me lo ricordo La OLED Mi sa che sono scambiate No sono scambiate Sì 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 Questa è la tua Perché il quadro è importante ragazzi Forse non eravate collegati Fin dall'inizio Perché il quadro E' un quadro Che si trova Solo in questi giochi E solitamente Con i quadri Ci hanno fatto Dei teaser Dei giochi successivi Questi sembrano Un po' due uccelli All'inizio Quando io non li ho zoomati Li ho guardati Dal gioco Mi sembravano proprio Due uccelli Due uccelli Che volavano al pelo d'acqua Qui invece Sembrano Dei mantaine Cioè Mi sembrano di più Dei mantaine Più che altro Per quei pispolini In capo Che mi Paiono proprio Quelli di mantaine Zoomando No Latios North Solamente ragazzi Non è quella Il Comunque creature a parte Il quadro sembra proprio Notte stellata sul Rodan Un po' croppato Lo è sicuramente Te che mi dici Io sono orientato Verso mantaine A questo punto Non ne sono sicurissimo Ed è difficile Esserne sicuri Non credo che Però quei pispolini In testa Mi fanno pensare Mantaine Allora trovo mantaine Molto probabile Quello che a me non torna È questa parte qua Ok che Il sotto L'ombra Può essere l'ombra Ma È un'ombra Un po' strana Un po' strana Tendenzialmente Cioè È un po' Non lo so Non mi convince molto Come un ombra A meno che non sia un teaser olandese Sì In realtà Mantaine non c'entra nulla Quello che vogliono dirti È Si va in Olanda Potrebbe Potrebbe Potremmo avere Una regione Ambientata in Olanda Visto È considerato Che l'Europa Piace molto Hanno fatto Francia Hanno fatto Inghilterra Potrebbero fare Olanda Tranquilla Pokémon canne Teniamolo d'occhio Il futuro dei Pokémon Sarà nei fiori Intendevano dire Nelle foglie Lol Ma Mantaine Non ha coda Né piedi No Beh la coda Si ce l'ha Mantaine Ce l'ha una protuberanza Dietro Tipo Aquilone Tipo Aquilone Esatto Eh sì sì Bene Continuiamo Ma non li ho curati Ah no perché stavo smadonando Per i Giorgond Ok Ok questo abbiamo già letto Torniamo a noi Torniamo a noi Potrebbe Io Do il mio nichelino Su Sommantine A questo punto Grazie Kyan Della sub Ma Potrebbe per questo Quindi essere Magari un teaser Olandese Perché Il punto è il seguente Hanno fatto dei remake Estremamente fedeli Cioè nonostante Hanno comunque voluto Inserire un quadro Così specifico Al posto di Magari un disegno Del cazzo Potrebbe essere Per questo motivo L'allenatore Interessa soltanto Lottare Bene Io posso dirti che Di una generazione Pokémon in Italia Mi spiegherò No A me piacerebbe Lo sapevi Lottando E diventano Più forti Alcune specie di Pokémon Si evolvono Stavo riuscendo a leggere E quando lo fanno No 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 Ferma lì Ci andiamo insieme E quando lo fanno Possono assumere Un aspetto Completamente diverso Nella prima casa sinistra Appena entri in città Vai giù Aveva le scale Ma è quella di Mentre il quadro L'evoluzione È uno dei misteri Che rendono così Affascinanti i Pokémon L'Olanda come regione È un po' me Tutta pianura Non l'ho mai visitata Quindi non ve lo so dire Siamo solo passati Dall'aeroporto Un po' Sì Pokémon canne Pokémon distretto All'ucinus Boh Comunque niente Di che Cose da conoscere Assolutamente Sto scambiando Pelle e Lapo E Lapo Giusto Sto scambiando Pokémon Con il mio amico Bravo Prima di scambiarlo Ho dato al mio Pokémon Uno strumento Così chi lo riceve Sarà doppiamente felice Ma lui gioca Con la Switch Animal Crossing Assolutamente Ciao allenatore Pensi di sapere molte cose Sui Pokémon? Sì Capisco Sei un allenatore Ben informato Immagino che tu Non abbia intenzione Di andare alla scuola Per allenatori Andiamo alla scuola Però io ti consiglio Di farci un salto Comunque Potresti scoprire Qualcosa di nuovo Sembrava davvero A successo No pensavamo ragazzi Allora Il Rodano dove passa? Noi pensavamo a Van Gogh È di Van Gogh Quel quadro giusto? O no? Sai che non lo so Perché se no Allora abbiamo detto Cazzate finora E dove passa Il Rodano Passa da un botto Di posti secondo me Però Stati Svizzera E Francia Sì Ok ok No secondo me È più l'autore Che il fiume Anche perché Esatto Pokémon in Svizzera Ma controlla Notte stellata Su Frodo Controllo Controllo subito Notte stellata Su Frodo Io sono sincerissima Non ho presente Il quadro Di cui ho parlato Di Van Gogh Ok 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 Magari Discevole e cassate Ok ok Va bene Andiamo alla scuola Come la GWS Non è ready Anche dopo l'aggiornamento Non si può entrare La GTS ragazzi Anche dopo l'aggiornamento Che strano Comunque Vieni alla scuola Io ci sono Perfetto Entriamo Pokémon Massero Sì sì Ho scritto un tema Nel quale ho spiegato Che cos'è un vero allenatore I Pokémon Sono capaci di usare Gli strumenti Che gli vengono dati Però Non sanno usare Da soli Certi strumenti Creati dall'uomo Come pozioni E antidoti Sei allenatore Da poco Vero Approfittane Per dare un'occhiata Agli argomenti Che ancora non conosci Ehi Checco Sei anche tu qui Per imparare Io ho già memorizzato Tutto ciò Che era scritto Sulla lavagna In fondo Il compito Di un allenatore È evitare Che i suoi preziosi Pokémon Si facciano male Durante le lotte E allora Checco Qual buon vento Ti porta qui Hai qualcosa per me Consegni il pacco Già Perché lui se n'è andato Che cos'è Oh wow È una mappa città Ma perché ce ne sono due Averne una è utilissimo Ma due Non mi servono proprio Teni che Ecco una prendi tu Pokémon Masseo Vediamo A giudicare dalla mappa città Il prossimo posto Da visitare Mineropoli C'è una palestra Quindi potrei allenare I Pokémon Che ho appena catturato Sono sulla buona strada Per diventare il miglior Allenatore di tutti i tempi Ci si becca Parliamo un attimo Anche con loro La pratica è meglio Della teoria Ti va di lottare con me? Sì Dai sì sì Vai mio Pokémon Let's go Parte la sfida di Harry Scolaro Abra Ok Gagigigaggi Tempoli Tempoli Cos Cos No eh Stiamo sculando ragazzi Non si sta bustando Con il raggio scosso Ma 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 mi fotte Eccolo Ma tanto io ho la chad move Con tartling Si possono lucidare le medaglie Lui è stronzo Praticamente fa raggio scossa E Quindi se si Se Se va bene si busta Va bene si busta That's a pro player move Ma che faccio Rilascio pin La bulk Però è più due il mio Il tuo è più uno? Purtroppo ragazzi Se ne ho tolto la possibilità di vedere A quanti buste statistiche sono God knows why Era con la x No y Ah forse con la x Insomma comunque Mi pare che fosse con la x God knows why Non si possono più vedere i buste Oh ma basta Ragazzi Maverick E' davvero la battaglia più difficile Il main game Ho quasi rischiato di perdere io Temata? Temata? La par Quindi ora non dovrebbe più essere Non dovrebbe più essere No Sì più veloce tu Oh brava Shino Verama Bravissimo Shabaku impara tu No shock Cosa? Eh Shinks E' il mio Shabaku Shabaku no mai Invece la mia si chiama Shino Perché è il nuovo abitante che voglio Ah ok Meraviglioso Non è facile vincere Se non si hanno molti pokemon Fra cui scegliere Brava Shino Allora ragazzi Qui abbiamo perso però un pokemon Andiamo subito a curarlo Bidofra Bidofra Sono molto ridere Aspetta prima di Sei già all'altro Vabbè vai comincia Comincia intanto Cosa? Niente niente Mi sto curando Ma te comincia la fight Ma se stava finendo la sua Cosa vuoi? Eh perché c'era un'altra Ma hai parlato come se io l'avessi già iniziata Ma dico ti devi curare O riesci a fare anche l'altra Certo che mi devo curare Ah ok Ti è morto uno? No Ma c'ho Piplap Tipo Boh 4 PS Io quando ho fatto la partita di recensione Ho quasi perso da loro Ed è l'unico momento in mainline Che ho quasi perso Oltre che Camilla Non so se abbiano qualche speranza I miei pokemon Ma mi piacerebbe lottare con te Ti va? Si Devo mettere in pratica Ma ci perdessi come lui ha perso malamente E la batto Ieri si Devo mettere in pratica Le cose che ho imparato Altrimenti me le dimentico Martedì si Con sabato Brunella Martedì? Martedì Sì sì martedì Perché lui torna martedì Intanto la settimana prossima Avrò una programmazione stramba ragazzi Quindi preparateli Prima o poi torna Animal Crossing No Si fa Animal Crossing Ma io farei azione E poi Gajigi Ma c'è pure l'Amos Anche secondo me ragazzi Ha sempre raggio scossa Ma davvero? Si 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 Ma però se in blind Non te lo posso dire Devi scoprire Si gusta? Era questo quello che stavi dicendo prima? Si Stavo dicendo che ti trebbiavano Questi tizi Già più uno eh ragazzo Vabbè però lo bisciotti In realtà puoi tenere secondo me Eh ma perché ho fatto prima quello più difficile È più due Cioè? Ho fatto prima il fratello No ma secondo me la più difficile è lei Lei si busta sempre Anche qui si sta bustando sempre Anche nella mia partita normale Si bustava sempre Non c'è la calabra l'altro? No era sempre la calabra Ragazzi Ma si busta sempre Non conosco il pokemon È una cittona Confitta in due Alla sei bravo Sì tu riesco a mettere Speravo in realtà che ti trebbiasse Purtroppo non è così Oh mi dai le macchie Individiamo quale mossa è Se non sbaglio non è raggio scossa Ma davvero? Mi pare di no Vediamo Non me lo ricordo in realtà Con tutto quello che ho studiato Eh Work up Eh work up È core di leone È più un attacco Più un attacco speciale Ma work up è tipo sempre la prima Emet che ti danno No Non è detto Però te la danno sempre spesso all'inizio È vero che è core di leone Con tutto quello che ho studiato Pensavo di avere delle buone chance Io me la metto core di leone Però vediamo chi la impara Speravo di fare meglio di così Ma la tua abilità mi ha impressionato Se vuoi puoi parlare al mio amico a fianco E farti dare qualche macchina tecnica Che secondo Chiara è il fratello Perché fa teorie Wow sei veramente in gamba Eh Niente Noi studiamo diligentemente ogni giorno Ma io non ci sto capendo Comunque a darci una bella lezione Sento che saprai usare al massimo queste mt Tiè Perché te ne stai profettando? Sto scherzando Sto scherzando Per curarmi i pipi Se usi la mt 10 Potrai insegnare la mossa core di leone A uno dei tuoi pokemon Quando un pokemon usa questa mossa Il suo attacco e l'attacco speciale salgono Ricordatevi ragazzi Che le mt qui sono monoso Quindi si rompono Però ce ne danno in più quantità Credo di averne tre qui Ragazzi Goober core di leone Però ci vorrebbe Amparo anche tortisio Che cazzo vuoi ogni gaggioghe È gaggioghi Però In a fancy way Allora Sì sì E fallo fallo Ragazzi abbiamo core di leone Goober Abbiamo finito il gioco Goober che si tappa È finita Non ce n'è più per nessuno Allora Quindi qui c'è il gts Ma franca ci ferma Che cosa vuoi? Sì Mi dispiace Ma al momento Non è possibile Utilizzare la spurge C'è ancora un po' di bidouf Sì sì Metti No Bidouf Guarda se è simple bidouf Che va più 2 È vero Che vuol dire simple? È disinvoltura Mi pare che si chiama Sì È riassunto delle live Che era È un po' di snob Ragazzi va più 2 Più 2 Ma è fortissimo No però c'è una natura di merda Cosa vuol dire disinvoltura? Guarda raddoppia C'è scritto lì C'è scritto Basta le Cosa vuol dire va più 2 più 2 Che cazzo di italiano è? Va più 2 più 2 Allora Raddoppia le modifiche alle statistiche Questo significa che invece Se una Mossa di status Ti fa andare a più 1 Normalmente Con lui ti va a più 2 Ok Quindi Boostarsi è più comodo con lui Cioè praticamente fai cuor di leone E vai a più 2 Però veramente è una natura di merda Ma perché due volte più 2? Perché cuor di leone Tira su attacco e attacco speciale Quindi fai più 2 più 2 Oh sei un pokemon trainer? Ma non hai ancora il pokecron? Lo sai cos'è vero? Incredibile Sei un caso raro Io sono quello che ha inventato i pokecron E ora li produco anche Non solo Al momento sto portando avanti Una campagna promotional Grazie Traxxos Non devi fare altro che trovare 3 clown a Jubilopoli Se li trovi Avrai E un regalo con pokecron Allora Intanto facciamo il parlo Jubilopoli è stata costruita sul terreno Scavato da una montagna Ragazzi Io vi ricordo che il villaggio Giubilo Vi ricordo che il villaggio Giubilo È Questa cosa è importante È un po' spostato rispetto a Jubilopoli È un po' spostato rispetto a Jubilopoli Esattamente Quindi da questa frase Potremmo quasi arrivare a dire Che a un certo punto il villaggio Giubilo Si espanderà anche traforando le montagne Spostandosi praticamente Tanks sulla parte A est Della mappa Di Isui Perché Giubilopoli non è esattamente Dove è la Giubilopoli attuale È più in basso a sinistra Ve lo ricordate Il villaggio Giubilo Sembra essere a metà Una fusione tra Canalipoli e Due Foglie E sabbia fine Le città che abbiamo visitato prima Jubilopoli è già più in là Hanno contribuito Guardate Hanno contribuito all'impresa Anche i Pokémon E la gente di Mineropoli Ah ma perché te parlavo con quello Perdonami Hanno contribuito all'impresa Anche i Pokémon E la gente di Mineropoli Quindi Sicuramente abbiamo ragione Giubilopoli non è anche Il villaggio Giubilo È anche il villaggio Giubilo Perché I Pokémon hanno contribuito All'impresa Ma è chiaro Che in realtà Il villaggio Giubilo Venga costruito Da uomini Che almeno al momento Non si fanno Aiutare dai Pokémon Per fare alcunché Quindi Il villaggio Giubilo Probabilmente copriva Anche Giubilopoli Ma non era Esattamente Giubilopoli Perché da qui scopriamo Che Appunto Giubilopoli Città È stata costruita Anche dai Pokémon E dalla gente Di Mineropoli Io ho studiato In questa scuola Per allenatori Credo che con lo studio Anche tu potresti diventare Un po' più forte Spero di non prenderti Alla sprovvista Ma non vorresti Entrare in un gruppo Facendone parte Potrai competere O cooperare Con gli altri membri È divertente Ti va di provare? Sì Crea un gruppo Fantastico Che nome vuoi dare Al tuo gruppo? Beh ovviamente Team Saido Grazie Traxos Dell'esami in regalo Non c'entra Saido Team Saido Team Saido È bellissimo È il capogruppo Sei tu Checco Spero che aderiranno Nuovi membri Ok ma come si fa? Fai parte del gruppo Team Saido Che ha come Capogruppo Checco Vero? Ti andrebbe di lasciare Il gruppo Inirti in altro? Ok Ragazzi Se volete entrare Nel team Saidonia Fate entra In un gruppo Team Saidonia Ok Team Saido Se volete entrare Nel team Chiara Team Chiara Ciao io sono un clown Della campagna promozionale Per il Pokécron È possibile dare Degli strumenti Ai Pokémon Rispondi Sì o no? Certo Risposta esatta Un Pokémon Può avere con sé Solo uno strumento In alcuni casi Basta dare uno strumento Al Pokémon Perché abbia effetto Nel caso delle bacche Invece è il Pokémon A mangiarle Quando ne ha bisogno Durante la lotta Ecco il coupon Coupon numero 3 Lei che ci dice? Mi hai vista in TV? Mi hanno intervistata Questo è un teaser Al fatto che Ti possono intervistare Effettivamente E mandarti in TV Ho l'impressione Che i Pokémon Che porti in giro Con te Pian piano Si affezionino Sempre di più Ciao io sono Un clown Della campagna Promozionale Del Pokécron Anche le mosse Dei Pokémon Hanno un tipo Come i Pokémon No Purtroppo no Risposta esatta Volevo vedere Quanto Chiara Ci avrebbe messo A confondersi Sì Ovviamente Sì Certo che hanno Se la mossa È dello stesso tipo Del Pokémon La sua potenza Aumenta Eccoti il coupon Ma perché Ti stavo ascoltando In background E di nuovo Mi stavo aspettando Che quello Che tu stavi Dicendo Fosse 40 Con quello Che stavo Leggendo Io Ho cercato Ho sempre chiesto Ma perché Perché questa Dice niente Di eccezionale Ok Non che lei Anche in inglese Dice We're not very impressive Vabbè Beh però È un po' più sensato Cioè In realtà Noi siamo Un'azienda A conduzione familiare Quindi non siamo Un'azienda Molto Cioè Molto enorme Però intende dire Sì esatto Cioè Che non sono Una big azienda Per l'appunto Esatto Sì sì Ci sta Ci sta Ci sta Non c'è nient'altro qua? No C'è piano di sopra? Eh sto andando Nel senso In quel piano Non c'era niente Quando sviluppiamo Delle nuove applicazioni Per il Poké Chrome Cerchiamo di metterci Nei panni Degli allenatori Ciò che conta Per noi È che gli utenti Siano soddisfatti Tansia o una Poké Chrome Non è un nome interessante Ora che ci penso Cosa significa esattamente? Non ne ho idea Comunque io sono Il padre del presidente Della Poké Chrome SPA Bravo Bravo ragazzi No È molto più bello Così Guarda Pokémon Watch Or Poké for short Ah ok Quindi sta per Poké Chrome Sta per Crono Quindi Però guarda Lo puoi dire tutto quanto intero E aspetta ma Cosa vuol dire Poké Ah beh sì certo Eh mio marito è il presidente È tutto cominciato in un piccolo laboratorio Dove fabbricava tutto ciò che voleva E ora produciamo qualcosa che ci rende felici le persone di tutto il mondo Pensa che è bello Hai un Poké Chrome? Esistono due modelli di colori diversi Tra poco Tantissime persone creano applicazioni per il Poké Chrome Ne riceverai alcune da fonti inaspettate In questi PC troverai delle guide alle diverse applicazioni Se non sbaglio usando i PC però senza il Poké Chrome Ci dovrebbe essere l'uncazzo E infatti esci Abbiamo un altro quadro Che però non c'è nulla C'è un altro quadro ma non dice niente È una screenshot di un film È un albero È una screenshot di un film Sembra una cosa molto basic come il desktop Sì sì Ma questo è il tubo di Super Mario Il tubo catodico Proprio lui Niente Ma c'era un gioco in cui c'era effettivamente qualcosa dei cestini O è una decina assurda Sì 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 O l'argento c'era la roba dei cestini Ma allora perché io ho la fissa di controllare i cestini Ah non lo so io Allora Finiamo prima il Poké Chrome Sono uguali ai cipressi in vaso e lo so nemmo a cipressi Finiamo il Poké Chrome Abbiamo anche poi questo condominio da controllare Ma prima finiamola questa Il Poké Chrome L'ultimo clown dovrebbe essere qua Sono un clown della campagna promozionale per il Poké Chrome Ecco la mia domanda Un Pokémon guadagna punti esperienze e diventa più forte Se sconfigge altri Pokémon Sarebbe bello vedere questa aggiunta in ottava Gen Enzi in Nona Non ho capito Alcuni Pokémon addirittura cambiano completamente Questo fenomeno è detto evoluzione Eccoti il coupon Sto ascoltando Peccato perché ho fatto un'altra supercazzola devastante Andiamo al condominio E poi torniamo da Giulio per prenderci il Poké Chrome Perché c'è il condominio? Eh perché c'è un condominio Ma tanto esplora liberamente Non preoccuparti Tanto esploreremo le stesse cose a un certo punto Non è che dobbiamo andare per forza sincronizzati È quello È quello il condominio Guarda abbiamo collaudato questa cosa con Michele Non andare sincronizzata Cioè fai il tuo Tanto ci metteremo più o meno lo stesso tempo Non è bellissimo il mio Poké Chrome Senza un allenatore si sentirebbe perso Oh quanto sono adorabili i tuoi Pokémon Prendi questo Cioè prendi Dagli questi rapidartigli Ok Io lo do Cosa fa il rapidartigli? Permette al Pokémon di agire più velocemente Anche se è più lento magari dell'avversario Cosa che noi daremo a Goober Così che viene Goober Setupper Grazie Gas della Sub Allora Ascino Contento di fare i 16 mesi oggi che esce questo nuovo remake Purtroppo non mi convince molto E sono più propenso ad attendere gennaio Ma vi auguro buon game Ma grazie mille Allora Hai mai comprato delle Curable al Pokémon Market? La Curable fa recuperare tutti i PS al Pokémon che cattura In questo modo il Pokémon catturato è già pronto per la lotta Che proprietà medicosamente avrà Medicamentose perdonatemi Avrà mai lo spazio interno di una Curable? Me lo chiedo anch'io Credo sia tipo Sì come fa a funzionare Sì probabilmente è un medicinale Che viene inalato dal Pokémon Esatto avrà lo stesso principio attivo del revitalizzante Del come si chiama? La pozione, la ricarica totale Ecco la ricarica totale Probabilmente viene inalato Sono delle polveri dentro la Curable Che tra l'altro sono Usaget Che una volta catturato il Pokémon E che poi continuamente il Pokémon viene curato Sì quando ritorna nella Pokéball certo Cioè hanno un rilascio singolo Una singola carica di Esatto di ricarica totale in polvere a gogo Mi piace quando i miei Pokémon usano le loro mosse E a volte quando diventano più forti Ne imparano di nuove In questo modo la lotta è più varia E io mi diverto di più La Curable è inutile perché si sblocca troppo tardi nel gioco Change my mind Ma in realtà la Curable è inutile punto Ancora vuole farino Sì esatto Mai usata Io sì Allora abbiamo preso il Pokéchron No dobbiamo andare da Gian Giorgio Cazzabolgiz Che è lui Quello che ci ha fatto partire la quest dei clown L'hai preso l'ultimo clown? Sì Ok Oh fammi vedere quanti coupon hai 1, 2, 3 Fantastico, meraviglioso Tieni allora in cambio dei coupon Ti consegno questo Pokéchron Ragazzi il Pokéchron Bellissima citazione Volendo fare un po' di valutazioni Appunto di Pokémon Molto bello La citazione è sicuramente apprezzata Non lo userete mai Nooo Io non l'ho usato Mai Tranne che per il ricerca strumenti In alcuni momenti In cui è obbligatorio Ma tra l'altro Ricerca strumenti molto più utili col touchscreen Che in Dockhead mode Il Pokéchron Non l'ho usato Mai In Diamante e Perla originale Aveva senso Perché era all'interno dello schermo touchscreen del DS Non ti occupava spazio Potevi abbassare lo sguardo per dargli un'occhiata Guardare l'ora, lo stato dei Pokémon eccetera eccetera Ma perché c'è una calcolatrice? Che tra l'altro Ferdy aveva visto che era buggata nella 1.1 Prova Sembrerebbe di sì E dicevo comunque Adesso siccome occupa una parte di schermo abbastanza importante Io l'ho sempre tolto Comunque puoi rendere il tuo Pokéchron uno strumento ancora più versatile Aggiungendo delle app Dai premi il pulsante R E prova a usare il tuo Pokéchron Così è contapassi? Sì io metto il contapassi adesso così Ogni tanto lo guardiamo Io l'ho appena zerato Con la levetta Cambi applicazione Il Pokémon Ok Mettiamo il contapassi Sì sì puoi Ed è anche il touchscreen Io l'ho appena zerato il contapassi Però ragazzi Io lo tolgo Perché Tenendo premuto R Poi lo togli Ma ci sono altre app? Posso andare a vedere Ah ma sotto non si schiaccia Però guarda come li ho rifatti giusti in grafica Sì bravissima Bravissima Allora A questo punto dovremmo aver visitato tutto Perché ci manca Jubilio TV Ma non è aperta adesso Cos'è che devi andare a prendere? Le app Ma non so se ci sono già delle app qua sai Niente tweaking No non c'è il vuoto ragazzi No vuoto Vediamo se lui forse ci dà una nuova Salve Sono il presidente della Pokéchron Sto lavorando una nuova applicazione Ma non è ancora completa Credo sarà pronta Per quando avrai ottenuto una medaglia Ah ok Torniamo qua dopo Petro Direi che ci siamo Ma se sei d'accordo Prima farei un'escursione Verso questo percorso non obbligatorio Che tanto non ha un cazzo Tranne un amo L'amo vecchio è ottimo Non lo pensi anche tu? Sì La pensiamo allo stesso modo Prendi questo amo vecchio Fai una pescatina? Pescatina dai ragazzi Una pescatina Poi così tanto magica Sì Sì Per potenza Geridos Quando trovi uno specchio d'acqua Metti alla prova la tua fortuna pescando O a proposito Hai bisogno di aiuto? No Nella pesca prima di tutto Devi far abboccare un Pokémon E dopo averlo tirato su Devi lottare contro di lui La sfida è doppia Ma anche il divertimento Il percorso 218 È un luogo fantastico per la pesca Ma in pochi lo sanno Bella l'acqua ragazzi Cazzo è bella questa acqua A tutti piace Avevo appuntamento con il mio ragazzo Sul percorso 218 Ma lui non c'è Pog Allora apri un attimo la borsa Vai in borsa Vai negli strumenti chiavo E metti assegna Io li metto Metto l'amo qua Strumenti chiave E Lui assorto Assegna Ah no Favourite No 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 Non è Favourite Premi A Register Ok Io l'ho messo a sinistra Ma tanto per ora Ne è solo uno Quindi non Ho tirato troppo presto No Se premi più Adesso funziona Ah ma ti puoi muovere Con i direzionali Non lo potevo Vai Non sto riuscendo a pescare Ragazzi Più Trovo un cazzo Ok Quando è che si pesca? È quando esce il punto esclamativo Ah c'è proprio il punto esclamativo Ok Sì sì devi premere A Ok Ragazza sono triste Sido Pog Eccolo Sarà magica Raga Shiny Ecco le shiny Ragazzi È uno shiny Dove hai trovato femmina? Hai trovato femmina? Tu l'hai trovato femmina Io l'ho trovato femmina Perché? Perché hai baffi bianchi Intelligent This Mica morirà con un'azione Mica è così forte Goober Empoli Ti fa sempre Ti fa ridere No ok Goober fa particolarmente cacare Empoli Cioè non ho Un'ora più artigli Pog Ok Ok Boing Boing Perché il fondale di Chiara è diverso? Che vuol dire? È vero I colori? Ma non solo Proprio la profondità dell'acqua Tu sei su un'acqua molto più profonda Molto più Molto meno profonda La mia è molto più profonda Credo che sia Differenza di versione? Il punto Ah no ok No penso sia il punto del molo da cui stiamo pescando Tu sei proprio in pizzo? Sono in fondo io Ora vi faccio vedere dove Per chi ha la gonna Eh potrebbe essere Ma davvero? Potrebbe essere la censura per la gonna Cioè quindi se giochi col personaggio femminile Non hai la superficie riflettente Ma che puttanata è? Io sto pescando qua No no mi sa che hanno ragione loro È la censura per la gonna Ma quindi Nerfato Se mi metto Graficamente è bello se giochi Però tu sei sull'erba Tu sei sull'erba Dove sei? Dove siete adesso? Nell'angolino Qua? Sì In questo angolino qua? Perché è viola? Non lo so Vabbè Vediamo No panzo Ok Ah ma io non glielo dato il nickname Non glielo posso più dare adesso? Glielo chiamato censor No glielo puoi dare quando vai dal E sta cominciando di nuovo a laggare l'audio Mannaggia le palle Eh C'ha vedere ragione raga Sì è l'alone di censura Vedi che poi dopo Magikarp è lo stesso mio Wow È l'alone di censura che emana la tua gonna Wow Wow Vabbè Vabbè Ma sarebbe bastato Non lo so Metterle dei pantaloncini sotto la gonna Ma poi guarda che brutto Che l'hanno fatto sta l'alone È una macchia opaca Che non ha nessun tipo di Senso Eh no Secondo me non è una Soluscio particolarmente elegante Sì esatto Il nero dell'ha visto sotto la gonna Più che altro Cioè non serviva così grosso Fallo sotto di lei Capito Cioè non è che anche Pipla Palagon Guarda guarda che roba Sì 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 Emana proprio un'aura È gigantesco Di no sex È gigantesco È gigantesco Vabbè vabbè Ah non gli ho dato il nome a Magikarp Mi dispiace Ma fuggirò Non gli ho preso Allora dove possiamo andare adesso Anche a destra Non ricordo Ehi Sì proprio tu Con quella bella sciarpa Avresti dovuto vedere Quel ragazzo che è passato di qua Correndo prima Andava talmente veloce Che non ho potuto nemmeno salutarlo Andiamo prima su a nord Si dovrebbe bloccare il percorso Ma quindi se mi metti i pantaloni Faccio le cose normali In teoria sì In teoria se ti metti poi i pantaloni Legato al gender Oh mi sembri un po' debolusso Lottiamo dai ci andrò piano Sì Cosa cazzo vuoi? Tra l'altro l'avevo schippata maghissima Ragazzi Cor di leone Gubera più due Budeo Grazie Cavanox della sub Let's go ragazzi Vediamo chi è il Guber Più forte Intanto il mio è il Guber Più veloce Oh no 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 Cosa? Di nuovo? Vai di Resincronizzo Esatto Sono molto Ok Sono più due ragazzi Forse più uno Perché non ho visto che mi è arrivato Fa niente Guber È bustato È morto È morto il Joy-Con No È veloce per produrre più video Ragazzi Nonostante sia più mille Questo Guber Non fa danno Perché Ora sono più due ragazzi Anche le diminuzioni raddoppiano Nooo Non sapevo che funzionasse su entrambi i sensi Ok 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 allora aspetta Faccio un altro più due Ora vado più quattro Perché ho fatto più due Più zero Più due Più zero Più due Più quattro Ma lui ha più uno Di difesa Eh scusate Non avevo letto Non me lo ricordavo Ok Ora facciamo male però E siamo anche morti Ma vaffanculo Ma mi stanno crittando tutto Vai Guber Incredibile tattica di Empoli Fa cacare Guber Ragazzi Nonostante vada più quattro Fa schifo Non cambia niente Assurda O magari anche lui ha Simpoli Fa sentire Asserta la Dominance Fra le altre stazioni Va bene Va bene Metto Turtisio Più sei Per la Ma muore Prima di andare Più sei ragazzi Grazie Simon Johnny Fogliame Tiriamo su Potere del foglio Budeo Guber ma non è Uber Guarda va Turtisio Let's go Lupo Fosco ha ragione Saidonia non dimenticare Che 0 per 4 Fa sempre 0 Che fa talmente schifo Oh Turtisio si busta Basta Uber dimenticato Nella cantina Lo boxiamo Il prima possibile Perché abbiamo Il più Uno di Turtisio Oh no Avrei dovuto Starmene zitta Ecco 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 Usiamo un po' Di sciabaco E beh ci credo Non hai dormito Stanotte per fare video Ah qui bisogna Zurfarsela Per avere lo strumento Snow Snow A proposito Ma un caffè Due tre Un caffè ci sta Però aspetta Finiamo prima la Un po' finiamo i chicchi I chicchi munch Perché mi sono fatta i caffè Ragazzi Drip lune è oggi Venerdì Mi sono fatta i caffè Due alla volta In teoria Due alla volta Quanti caffè Mi sono fatto Non so Allora Non ne ho idea Eh la prepotta Che coglioni Però Lo ammazziamo Ma lo ammazziamo Con Tortisio Perché se no Facciamo notte Venerdriftblim Sì Oggi è venerdriftblim Ragazzi Ok Ecco il Turtos Ragazzi Beh è super Bulk Non si trova oggi Gente Ah no Allora Quando è Che trono Che tira Ok Let's go Pog Cosa Giocatore medio Di pokemon Be like Anche io E' uguale Quando gioco Per i ragazzi miei Sono lì Puro Anche in altro modo Puoi giocare Non dite cazzate Anche voi Siete in casa Da soli Tini Nini 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 Beh Eh ma allora C'è un bambino Ah ma la poche vuole Era di qua Ho una stick Eh più o meno Dai Una stick perché è piccolo Vedi Una piccola C'è una piccola C'è una piccola C'è un bimbin Mannaggia Che cosa bruttissima Ok Let's go Sì assolutamente Sì Oh Sono contento Bagiggi Baggioggi Lo sto facendo In questo momento Bravi ragazzi Bravi Sempre in gamba Sembra bellissimo Questo scimbo Che succede se pesco qua dentro Muori Vincerò con i pokémon Che mi ha dato mio papà E io invece te li ammazzo Hai dato un pokémon Sarà un magico Ma tu guarda Fuggirò Ma tu hai la luna di darkness Intorno Guarda Ma dov'è Eccolo Eccolo Alla fine Del loro Della gonna Hai tutto quanto nero E quindi hai semplicemente le gambe che sembrano piantate dentro questa pedana nera Sì sì E fa un culo così non si vede niente Però così che brutto Che scelta poverissima Peccato Allora Adesso l'alone è tra il grigio e il marroncino Prima era tipo Di blu petrolio Perché penso che prenda il colore principale Del Della base Non riflettente Quindi in questo caso Le rocce che sono sotto l'acqua In realtà secondo me qui è quasi elegante Era quella di prima Era la troce No ma anche per me No No perdona Ma che panoramica è questa Dai Sembra un gioco incompleto Sembra che non gli hanno messo lo sfondo È vero Ed è un peccato perché in realtà gli sfondi sono belli È un peccato perché chi non sa Magari non analizza Fino in fondo Dice ma perché ci hanno messo questa cosa Ve lo diciamo ragazzi Se notate questa roba Questo alone bianco Non è voluto Cioè è voluto Ma perché Se hai il personaggio femminile C'è la gonna Ma guarda che roba Ma poi tutto sotto il tuo pokemon Eh oh Ma riesco a trovarlo un Fibas Secondo te Voglio Fibas Voglio Minotic Dove si trova Fibas? Non penso adesso Però dico Fibas non me lo ricordo mai nella vita Però lo vorrai tanto Mi piace il nero Gagigi gagioggi Fibas Comunque ti vuole male tuo padre Perché ti ha dato uno Starly Ma soprattutto un Magikarp È capito Alex Moon Il resto è bellissimo Nel senso l'acqua è veramente stupenda È bello il riflesso Quindi è un peccato rovinarla Con quella patacca Che insomma Era evitabile Grande gagioggi Che impara Attacco d'ala Al Monte Corona In quella caverna Ci sono dei massi Che bloccano la strada Forse un MN Del pokechel Non potrebbe riuscire a romperli Ma c'è qualche pokemon Una parte magica? No Con la mon merda L'amo merda Ah l'amo merda Ho capito Con la merda Io un incontrino Qui me lo faccio Però Magari un Baeghigo Baeghigo È Geodude No Questo è Baroghido No È questo è Bari Baroghido Giusto Zubazzipiglia ragazzi Zubazzipiglia Che altro c'è di verino qua? Ce la faccio secondo me A tiragli un'altra Ah salvi non l'ho preso Causa alone Voto 3 No Non è vero Io non l'avevo mai visto Quella alone Perché ho giocato Col personaggio maschile Ovviamente Ma il mio non ha intimidate Ragazzi Sciabaco è da buttar via Ho visto male Lo regge un tackle Un'azione Dai si la regge Ok che c'ho 4 livelli Ok L'antagonismo Ma che merda Ma chi Sbuxiamo Sabaco subito Io tra l'altro Questo è il primo Pokemon Servatico Che ho trovato E catturato Senza Prepotta Fa schifo Grazie De Lord Seba Della sub Ok Ok Come lo chiamiamo Starly Come lo chiamiamo Starly Chiamiamolo Non l'hai mai preso Starly No Non ha occhi Ma avverte gli ostacoli Con le onde ultrasoniche Che mette dalla bocca Come chiamiamo Zubat Ti ho chiesto prima io Starly Joe Starly Surry Starlong Io Zubat Lo chiamerò Starqui Zuber Starlone Starwalker Zano Sbloombiano John Stravolto Zubasa Grazie Roby Della sub Stay lì Ciao Roby Goober Stardodo Zonzo Zubat Un'altra pupa Zullivan Un'altra ama Zubu Kobat Bat 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 Mi fa molto ridere Vabbè È come moon moon Esatto Bat bat Ciao ama Lo chiamiamo Zubatevi Ok Sì sì Ragazzi L'intelligenza artificiale E i moveset Sono incredibili Purtroppo Piano piano Li comincerete a asfaltare Per puro over leveling Per via dell'amicizia Ehi Checco Non dirmi che ora Sei più forte Io? C'è bisogno di chiedere Certo che sono il più forte Dai mettiamoci alla prova Va bene Lo chiamiamo Starlong Barry In realtà Se è maschio Con antagonismo Gli facciamo stramale Perché? È perché Antagonismo Ti fa fare più male Se attacchi Pokémon Dello stesso sesso E invece Sei nerfato Se attacchi Pokémon Del sesso opposto All the implications Non mi ha detto niente Non mi ha detto niente Mangi una fetta di pizza Ma perché c'è un solo cartone Lato? Un qua accanto a me Perché era un po' scomodo Per me avere la mia pizza Lì in culo Ho trovato un magic herb Io sto condizionando a pescare In ogni puzza che vedo Ma ti muovi Che dobbiamo andare a fare Ma ammetti che c'è qualcosa Di diverso da magica Però poi fugo Capito? Poi fugo Non ho potuto fuggire? Sì sì Ma non avevo già detto Di fuggire? Ho pensato di dire Di fuggire Non ho fatto inghiotto Ragazzi Sì ragazzi Le MT si rompono Ma Ve ne danno multiple Non mi veniva il singhiozzo Da dieci anni Ragazzi Boodyoo Tipo L'odio Allora Sai come devi fare? Ah Per me funziona Deglutire Tante volte In rapida successione Però siccome è difficile Deglutire a vuoto Ti serve dell'acqua Però il punto Non è bere tanta acqua Mi è che riesco No 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 Devi andare molto più veloce Di così Ah Il punto Devo fare la birra Dai Il punto Non è La quantità Di liquido Che bevi Ok Quindi te devi Concentrarti Su mandare giù Appena 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 Un pochino Quel tanto Che ti basta Per deglutire Ma continuare A deglutire Di continuo Ok Per ora Comunque è andato via Ok Per ora è andato via Che cazzo è Lear? Lear è Full misguardo Di viola Fidati funziona Viola Viola Mi ha avvelenato Ma che succede? Sono franco Mi ha avvelenato Wow Vuoi dire che ho perso? Beh le cose cambieranno Questa è l'ultima volta che perdo Diventerò l'allenatore più in gamba del mondo Lo sai che ce la farò Prima di tutto dovrò mettermi alla prova Nella palestra di Mineropoli Mi allenerò duramente Per questa sfida Cosa? Ah è partito da Fertigli Ah figo Allora Chi mettiamo davanti? Ma io metterei davanti Turtisio Però curiamoli prima Ma povera scena Ultimo turno Poi ti ritiro Facciamo Centro Pucimans Lo regge? Lo assorbo con un poison No Lo regge Lo assorbo con un poison Non ho capito Ok Allora Buon pomeriggio A chiunque sia arrivato adesso Benvenuti Let's go No con Bidufra Vai con Bidufra Io invece vado avanti Piro Popo And become a duck Let's go Ma mi è passato ragazzi Ah ma lei non vuole fare il lucha? O l'ha già fatta? Lo sapevi? Il primo po' come lo scendere in campo è quello In cima alla lista Sì lo sapevo Wow Che informazione difficile da capire Io ci riprovo ragazzi A velena se lo tocchi Si con vela in tocco Abilità Noi marmocchi lottiamo con pokemon vivace Per questo che siamo sempre pieni di energia In teoria secondo me Stai raro Ah vado a curarmi Possiamo L'hai finito il percorso? Boh Penso di sì se sei arrivata in cima C'è la tipa Non c'è più niente Cioè lì c'è la grotta Se vuoi provare a trovare un pokemon Vado a curarmi Ma non c'è altro Oscino avvelenata Non posso Velen punto Ecco giusto Perché velentocco è quello Che funziona se tu attacchi Ok Che è tipo bitorsolemo No bitorsolemo è come Quello di budio Se ti attaccano Esatto esattamente Eh ma vedrai che anche questo Magari c'ha simple Quindi non riusciamo a testare Se fa male o no Il nostro amico Per ora siamo tre livelli sopra Dai Ti serve il giudice onomastico Per dare un inclema Ma la guber fai schifo Ti serve il giudice onomastico Sì Mi da troppo fastidio Non averlo rinominato Ma mi sono distratta prima E io gli ho detto no Che schifo che fa guber ragazzi Ma poi fa Fa lo stesso danno Con o senza boost Ah il giudice è Evopoli Allora ci arriviamo relativamente presto Oh buio Sì la natura di guber È sfavorevole all'attacco E potrebbe averlo Velentocco Allora ti dico che budio È un pokemon della madonna Perché poi ti diventa Roselia E io ci ho fatto C'è Roserade E io ci ho fatto Ma potrebbe averlo Velentocco Sì potrebbe Lo scopro se adesso L'attacco mi avvelena Eh no Perché è A percentuale Potrebbe farcela come no Ok lo catturo full vita Non credo abbia Unaware ragazzi Bidoof Ce la fai secondo me A catturarlo full vita Perché i pokemon bassi C'è di livello 4 livelli di differenza Sì Il 4 e l'8 Ok figo Come la chiamiamo Budiu Budiu Turtisio all'11 raga Ah c'è anche Zubat E allora lo vediamo subito Dai qui con Zubat Mi pare abbiamo ricevuto un ruggito Provo a fare di nuovo il quordi Perché dovremmo essere Alza più 0 Più 2 Vediamo quanto male gli facciamo Budiu maschio Ah si è visto prima dal bidoof di Chiara Quindi Conno Cosa cosa Non lo sapevo ragazzi Chi È un discorso che stiamo facendo Bidoof A unaware Quindi è per questo che potrebbe Non avere effetto Il mio salire Di statistiche Praticamente Ok 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 ora ha già più senso ragazzi Ricordatevi che Cioè Aspetta Roselia è una diva Sasha Cazzo si C'ha anche i fiori Non sono sicura però Non credo si possano Cambiare Mano a mano Che si evolvono No Cioè puoi farlo Ma andando di nuovo dal giudice Non hanno il lock Come i giochi vecchi Funzionano come gli nuovi Che li puoi ricambiare Quante volte vuoi Perché le vecchie Abbiamo il lock Si si puoi cambiare Quante volte vuoi Ok 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 Però effettivamente si Jesus Cazzo 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 C'è i fiori Assolutamente si E dai guber Porca la pu**na Non ho letto chi l'ha proposto Ma chiunque abbia proposto Sasha ha vinto Guber Ma io tendenzialmente Penso di aver trovato La squadra Cioè mi porto loro Guber Tranne magica Perché non mi sto affezionando Non ha un nome Che madonna Mi sono nuora Guber ha ammazzato Pokémon al 5 Lui è all'8 Lavora Naturalmente Sasha per chi non sapesse È una citazione alla mia drag queen preferita Che è Sasha Velour Che è un artista davvero Incredibile Grande Gianlu Ok Allora Qui mettiamo Perché senti già che queste urla contro Cooper Saranno nel suo prossimo video Le sto facendo anche per lui Grande Non tratti male perché è un bidufo o perché si chiama Cooper Entrambe le cose Però ha rotto il cazzo E mettiamo davanti Tortisio Abbiamo trovato Zubat Inner focus Ah Hai capito Io ho fatto intimide Ma lui c'ha inner focus Ragazzi voglio una squadra solo di femmine E Sasha Mimo vuole lottare ma nel campo cric e tot E però è È quella l'evoluzione Dai Tortisio Eh ma non voglio Bracino Vabbè se in realtà usiamo Tortisio Come la chiamiamo questa Zubat Molto convinta di sé No il blocco entomico Ah Il blocco entomico Ma perché crit Ragazzi ma prendo solo crit Non l'ho visto Drag Race Italia Ma mi ha fatto molto ridere il fatto che non abbiamo ancora tolto la La sottoscrizione L'abbonamento a Wow Ok Che è il network dove Trasmettono legalmente Tutta la roba legata a RuPaul Ok Cioè al di là di Netflix Che ha singolarmente alcune serie Tutte quante le cose che fa RuPaul Sono su Wow Present E noi una volta abbiamo fatto l'abbonamento Per guardare Il All Star 6 Credo E non l'abbiamo mai più disdetto E Mi è arrivata la La E-mail di notifica Sì Insomma Della newsletter Che è iniziato Drag Race Italia Certo E c'era scritto Guarda Drag Race Italia Disponibile dappertutto In tutto il mondo Tranne che in Italia Che figata Che intelligente Come mossa Ma letteralmente Nella mail c'è proprio scritto Disponibile ovunque Tranne che in Italia Ma le salse non ce l'hanno messe No perché Beh se non le compri Non le metti Le avevo comprate Ben due Allora non le hanno messe Hanno completamente cannato l'ordine Ma infatti Credo l'abbiano mischiato L'ordine di qualcun altro Allora La chiamiamo Dragula come nome per Zubat No E per questo c'è Nord VPN Esatto ragazzi Bravissimi Avete imparato Oracle Cabbagello Non conosco In Italia c'è su Discovery Plus In esclusiva Sì ma ovviamente Non è disponibile in Italia Perché qualcun altro Ha l'esclusiva E che mi faceva ridere Il fatto che il titolo Della mail fosse Drag Race Italia Disponibile ovunque Tranne che in Italia Dalla piattaforma Che appunto Si occupa Delle cose Forse non sono stata abbastanza chiara Quando l'ho raccontato Non le importa Allora La chiamiamo Carmilla Cerca la sua internet Chi è Carmilla? Io ho finito il gioco Contanto ragazzi Ma Io sono C'è nel senso Carmilla Cillissima proprio Non so chi sia Mi asco un sacco di robe diverse No raga Non mi convince Roberta in onore a Cicchibe Mina con la Tanto io mi poi mi fermo a teorizzare Carmilla Carmilla è bellissimo Ma che cos'è Carmilla ragazzi? Non so C'è chi è? Non lo conosco Non so Bestama Vampira Lella Ok mi hai convinto Ok Starly Kajiki Gagioggi Carmilla E qui facciamo serenamente azione Boom No Oddio Ma c'è Oh no l'ha mandato al boss Ho una squadra terribile Fa uno schifo Nessuno riesce a shottare Pokémon 10 livelli sotto Ho trovato un antinoto Ma tanto cresceranno Dei folti baffi A questo tortisio Ma non c'è più niente Udeo Vero? Eh no no puoi scendere Puoi scendere Devi andare a destra Fare gli allenatori C'è No aspetta Prima vado a prendere Carmilla E lascio Magikar Dicevo Facciamo Scegliamo quando aggiornare Le squadre Sì Tra un po' Dopo la prima medaglia Vediamo chi ci sta dentro Chi sta fuori Anche perché poi andiamo Alle grandi sotterranie ragazzi Dai Pokémon Sì sì Però non ancora Dobbiamo trovare Bebe Prima Non l'abbiamo ancora trovata Ok Allora ho fatto bene Anche il centro Noo Ero pronto al tutto Sorry Eh ma abbiamo già finito Eh sì Eh sì Franca Andata così Dove andare così Fra delle Lottiamo così che Mi piaceva Sono pronti Eh Sono quello di strumenti Credo Ah no ti valgo Dal Pokédex Comunque niente Diceva di lottare Giulio manda in campo Meechips Voglio prendere Carmilla E voglio metterla Al posto di Magikarp Allora Io invece faccio Foliame Mi dispiace Magikarp Ma finché non hai un nome Non ti porto dietro No io Magikarp Invece lo porto avanti Anzi forse me lo lascio In squadra qui No io voglio Che abbia un nome Ci sta Un bell'acqua Eh Ah no ci devo fare Bisogna andare di qua No Destra Ah A est Goober sale al 9 Quindi più o meno Adesso i Pokémon Livello 2 Se li può Rollout Diventa il Pokémon Più forte di tutti Via Ruggito Non metti Rollout Eh Eridos è bello Rottino in early Eh Infatti lo voglio portare Voglio provarla Una run con Eridos Bene Mi sa che non sono ancora pronto Per sfidare una palestra Tu non sei pronto a vivere Franchido Tu Verri l'hai già fatto? Verri? Sì Verri l'ho già fatto Sto facendo il percorso Dopo berri Ok Ho ottenuto una medaglia stupenda Dai Capop di Mineropoli Ha detto davvero Capop? Dal Capop No Dal Capopalestro di Mineropoli Ma secondo te dice Capop? Perché c'è Capop? Eh sì E il prossimo fa Ho catturato un bel Baggigigaggionghi E poi Ahahah Ahahah Allora Eh Crescipugno non ce l'ha Tartwig Non è un Pokémon così Unchad Da usare Crescipugno Ok E poi Capito Don't get cocky Mi dice Sì? Non essere cazzico Don't get cocky Vuol dire questo Il Capop Il Capop Vado al Capop Prendo un medagl E vado E ci siamo Ok posso fare Che bello che ho Sascha in squadra Sono contentissima Tra l'altro credimi Roserain ci ho fatto Allora L'avventura della recensione Me l'ha portata in mano Roserain Sascha e Shino Non sono assolutamente titolare in squadra Quindi Sorry E Non potrei mai Non potrei mai lasciare Sascha indietro Mai Azione Questa Ha solo una possibilità Di paralizzare Non so La difesa Ti abbassa la difesa Magari ti abbassa la difesa Bene Oh no Ho perso La 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 Ok Bene Io proverai a trovare un No Sperto Un Budeo Ma in realtà non No ovviamente Sascha e Roserain Shinx con Con Prepot Cosa? Io sto controllando No Niente Non esistono in Pokemon Diamante gli Shinx Con Prepotenza Ragazzi Impossibile Impossibile Averli Ah però qua mi fa male Servirebbe una ossa Volantitino Allora Scendiamo qua Prendiamo Un Repallo Ci sta Però almeno è normale Ed è stab Budeau Budeau E Questo c'è Prepotenza Questo c'è Prepotenza Ragazzi Io lo prendo O forse no Ormai me ne fa È al 4 Ma si ma Oddio No no Me ne fa di una sega Lo ammazzo Sì sì ormai Ormai abbiamo scelto La nostra strada Ok però Non l'ho ammazzato Lo prendo Shinx anche con Prepot Fa cacare Oddio non sono d'accordo Ragazzi Nel senso È un Pokemon buono Per l'avventura Dai lo piglio Lo piglio Può essere Shabaku Secondo Oh no Che altro Tu la dici No Con Geridos E Staraptor Eh ma così Andiamo a facca Milla con 70 Prepot Capito Eh Procotenza Procotenza E tutti quelli che entrano Shabaku Secondo Lui Shabaku Secondo Let's go Eh ha fatto Due volte Tre volte Oh ma cos'è Ti sta arando Con Tartwig No Sta continuando a sarsi Di difeso Pezzo di cazzo No siamo questi arrivati A Mineropoli Ragazzi Non mi sta arando Però ha usato Quattro volte Ritirata Mi sta solo Milla Oh ma guarda È un po' Che cron Non hai molta esperienza Come allenatore Però vero Non fa niente L'importante è che tu ami Pokemon Ti voglio fare un regalo Eccoti delle belle MT MT 98 Cosa che dà? Spaccaroccia Pog Le MT ti permettono Di insegnare una mossa A un Pokemon In un attimo Dopo averle usate Però si rompono Quindi pensa bene Su che Pokemon Le vuoi usare E visto che sei ancora Un allenatore alle prime armi Ti ho anche aggiunto Una nuova funzione Al Pokecron È l'applicazione Mosse MN Stavo giusto per chiederti Ti basta ottenere Almeno una volta La MT Sì per avere Per sbloccarla Nel Pokemon Però non puoi Sempre usarla Finché non hai La medaglia XY Che te la sblocca Ti ricordi? Cioè Devi avere la medaglia Taldecazzi Per riuscire a usare La MN Pisello Palle Nell'Overworld In questo caso Penso lo dirà Grazie ad essa Puoi servirti di spaccaroccia Per sbarazzarti Dei piccoli massi Che ti intralciano Il cammino Tuttavia Per poterla usare Dovrai prima ottenere La medaglia Della palestra Di Mineropoli Quindi anche qui Quello che vi dicevo Prima torna Siamo stati di sopra Nel percorso Che hai fatto prima C'è una grotta Che viene bloccata Dai massi spaccaroccia Quindi Presa la medaglia Backtracking E andiamo a vedere Che tipo di location Sblocca Molto feco Questo level design Hai un futuro brillante Davanti a te Non vedo l'ora Di vedere Quanto bravo diventerai Pog Qui non si può andare Da nessuna parte Che dicono E poi B01 Scrive E poi a Milotic Con competitive E piangi A te che dicevi Che ci vai Con mille prepotenze Ma A me ha fatto ridere Stormone A Milotic Con snap Mi bandano di nuovo Noi allenatori di pokemon Siamo sempre pronti Alla lotta Dovunque ci troviamo Io vado a curermi pokemon Ok Parte la sfida Di eric Tu beh Quell'arte dopo Barry Vabbè ma tanto fanno cagare Gli allenatori lì dentro Però A me piace Verli fuso Ma fai bene Ma fai bene Ok Ciao Eh qui la prepotta Rompe un po' il casus Qua sotto Ci vuole niente Mi fate Aspettate Voglio capire una cosa Però non posso Prendere Milotic Sì sì È OBS In realtà Che scazza l'audio Non è legato Non posso Prendere Milotic In che senso Che dovrei lasciare lo starter Può prendere Milotic Devi lasciare lo starter Ah in senso Due acqua Vabbè Anch'io avevo delle ripetizioni Di tipi sti cazzi Ma questo tipo? Non combattere Ti dice semplicemente Che sei simpatica Ok Comunque ragazzi Cerchiamo di arrivare Presto Alle grandi sotterranei Che lì ci si butta via Ecco Grandi sotterranei Cominciamo a decollare A che livello hai i pokemon? Credo che dovremo allenarci di più Al 12 Credo il più alto Che è Jimmy Jolg Si tortisi al 12 11 11 9 8 L' divertente è che hai un Pokemon che quasi si chiama Jimmy Jolg Si che è Gagioggi Il gaggioggone nazionale Ho finalmente attraversato la grotta Per festeggiare questo momento Ti farò Dello sfido I sotterranei I sotterranei si sbloccano poco dopo la prima medaglia Prima della seconda Quindi manca poco Mi fa ridere che quando stavo facendo la grafica Parlavo con Ferdi Ferdi mi ha detto Non serve avere i medaglieri da una parte e dall'altra Tanto le medaglie le fate insieme Vabbè ma ora mi raggiungi È che prima sei stata sulla schermata di Zubat tantissimo Zubat? Si che stavi scegliendo il nickname Ma no Si Ma no Si Non ho sicuro No Ok andiamo Ciao a Budeu Con una bella azione tattica chirurgica col bisturi Col bisturi Zubat Ciao Zubat Tandeshock può essere la risposta Ah Psyduck lo ariamo Beh c'era scritto super efficace ma lo spievo anche io Think Chiara Think In compenso non mi ricordavo che erba resiste a elettricità È una delle resistenze che ricordo meglio io ma non so perché Non ne ho idea ma Cioè l'erba non mi sa di isolante Quindi non Invece a me si Penso è il tuono sull'erba che fa È erba Beh si brucia l'erba Sì Però è vero Però non lo so Mi torno Beh se è con una sconfitta che devo festeggiare così sia Ok quindi io salgo di qua Qui cosa c'è Trainer chips Ah vabbè bla 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 Posso pescare Ma in realtà rimaniamo davanti con Turtisio Io rimarrei davanti col Turt E si gode Ho trovato uno scinto No fratellino Allora noi abbiamo quindi Turtisio Gagioghi Shabaku Si sono fatti Intimidità vicenda Goober Censor E bat bat Però I'm so sorry Ehi allenatore Non hai neppure una medaglia Gli altri allenatori ti guarderanno dall'alto in basso come se fossi alle prime armi Grazie a Slakster della sub Vieni ti faccio vedere dov'è la palestra Io ora esploro Ma ti dico solo le case fighe da vedere così recuperi Ma c'è qualcuno lì? Perché va sempre a finire così quando giochiamo? Non lo so Però va sempre a finire Considerando che i Pokémon possono avere nature diverse Non mi stutuisce che esistano anche Pokémon dal colore diverso dal solito Hai mai sentito parlare dei Pokémon cromatici? Ti faccio un esempio Un Pikachu di solito è giallo no? Beh un esemplare di Pikachu cromatico invece non è proprio giallo Ma è più sull'arancione Ti ringrazio Gentilissimo No non voglio andare da Barry Voglio prima esplorare tutta la città Noi intanto facciamo l'esploro E poi indichiamo a Chiara dove andare per prendere le cose spicy Ancora il quadro Cosa vuoi tu? Un capo palestra non è un allenatore qualunque Se fossi in te porterei più Pokémon possibile Ma fofunk Ma la pendenza di questi gradini è tipo Sì strana Quasi a 90 gradi Pedro ci lascia allenare i Pokémon nella cava Dei terreni Nella regione di Sinnoh ci sono 8 capi palestra Ben 8 L'obiettivo di ogni allenatore è ottenere da loro le medaglie di tutte 8 le palestre Sono 8 come le palestre Come il capo palestre Ma è quella che stavi facendo tu prima Ci sono quasi Sì sì Devi fare due allenatori nella cava ci sei E allora li catturi i Pokémon Tieni prendi questa Masterball reschinnata ragazzi Masterball reschinnata La scuroball è una masterball reschinnata Funziona meglio come una masterball reschinnata È bello dare dei soprannomi ai Pokémon sono d'accordo È come se fossero proprio tuoi dopo Ha chiamato il nostro Psyduck semplicemente giallo per via del colore Mi sembra una cosa senza senso Il prossimo Pokémon che catturiamo lo chiamiamo con il colore principale Non ho capito Una tipa commenta il fatto che Gianni qui presente abbia chiamato giallo Psyduck solo perché è giallo e si lamenta di questa cosa Prossimo lo chiamiamo blu rosso Ok Allora Ok hai ragione Laurentius Lo chiamiamo ma con un colore completamente diverso va bene Dimmi un po' Hai per caso un Pokémon che si chiama Meechips? Me lo daresti in cambio del mio Abra? No perché non ho Meechips Ok non posso certo costringerti a fare uno scambio Però se cambi idea sarò qui a aspettarti Un Pokémon ottenuto con uno scambio sale di livello più velocemente Se un Pokémon diventa troppo forte però potrebbe ignorare il suo Torenna Chiaramente il discorso cambia se hai molte medaglie Tutti i Pokémon hanno un potere speciale chiamato abilità Correto La vista è fantastica da qui ma non mi va di uscire Ti dispiacerebbe farmi vedere uno Zubat? Oh quel Pokémon è uno Zubat! Wow è fantastico è così carino Ho deciso Uscirò e catturerò Pokémon anch'io Ti ringrazio infinitamente Ecco un segno della mia gratitudine Una Cura Ball Ricordiamo quel pulviscolo di palle Esistono così tante specie di Pokémon al mondo Ho proprio voglia di vederle tutte Per certi versi io e il mio Pokémon ci assomigliamo Ma non è una cosa facile da spiegare in poche parole Non ho visto se il budico che ho preso io ha effettivamente Un bel intocco Puoi guardare ma non so Tanto poi cambia l'abilità in realtà Se non sbaglio evolvendosi non rimane più quella Ah beh ok io giuro Quindi non è così importante ecco Ok Le ragazze del Pokémon Market sono così carine Che mi lasciano senza parole Ok Le medaglie ottenute nelle palestre Indicano il grado di abilità raggiunto da un allenatore Inoltre più medaglie hai Più strumenti puoi acquistare nel Pokémon Market Cosa posso a fare? Che cosa posso comprare? Rete, ball, cazzo, ball No ok voglio solo delle pozioni Ah no ma così sciardo tutti i soldi No un diecino, un diecino Un diecino basta ragazzi Un diecino basta Il capopalestra è andato a lavorare nella cava E mo ci andiamo pure noi Hai visto i condotti da reazione? Da lì esce il vapore proveniente dal sottosuolo Ho scoperto che fossero condotti da reazione in questo gioco Non me lo ricordavo Questi qui Sono dei condotti da reazione che permettono il ricambio dell'aria nei grandi sotterranei Vabbè ma prima non c'erano i sotterranei No 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 ma c'erano anche prima C'erano i sotterranei e secondo me c'erano anche questi condotti ma non me li ricordavo io Grazie a questi condotti là sotto può entrare un po' di aria fresca Quando li guardo mi viene voglia di urlarci dentro qualcosa Oh girls Sarebbe piuttosto incredibile Oh sei tu Checco ce l'hai fatta ad arrivare qui finalmente Lento come al solito Ci hai messo così tanto che il capopalestra se n'è già andato Praticamente lui è più veloce di me Io sono più veloce di Chiara È una gara Ci hai messo così tanto che il capopalestra se n'è già andato Ha detto che doveva andare alla cava di Mineropoli Io ho già preso una medaglia quindi a me non importa Ma tu Vado Non mi fa l'esploro Anche io pensavo fossero dei lampioni ragazzi Pedro è il capopalestra della nostra città È giovane ma dirige i lavori alla cava in modo sicuro ed efficiente Pedro è esperto di Pokémon di tipo Rocha Non ti sembrano carini i Pokémon di tipo Rocha? Sono bitorsoluti Non li definirei carini Sembrano molto child Quando indosso le scarpe da corsa mi sento sempre al centro dell'attenzione Che fa mi sposta Mi stava spostando Guarda 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 Come osa Non tu che ti metti in mezzo a rompere i coglioni Come osa lui spostarti Oserei dire pezzo di cazzo Certo Là in fondo c'è un'enorme montagna che svetta su tutto il territorio circostante Divide la regione di Sinno in due parti ben distinte Ragazzi qui facciamo Che cosa la ganna? Vole vero Qui facciamo Recuperare Chiara Perché ci mettiamo A fare I nostri discorsini Il Monte Corona divide La regione In due parti ben distinte Credo che E non ci avevo pensato La divisione religiosa Di Dialga Mante Perla Esatto E Palchia In leggende Pokémon Archeus Sia Dettata Da una divisione in primis Geografica Beh effettivamente sono Sono Quelli di Dialga Tutti a est E tutti Palchia E tutti di Palchia Sono tutti a sinistra Quindi Vi ricordate nel video teoria abbiamo detto Non sappiamo esattamente Cosa sia Forse una questione di ideali No Potrebbe banalmente essere È geografica perché non si incontrano Perché non scavalcano dal monte Esatto E io ci sono arrivato Durante la rande La recensione Ho senso Credo che Sia proprio Ovviamente ora si sono incontrati Perché Il Com'è che si chiama Liam Come si chiama Liam Il È il capitano nuovo Che sta Che sta Da Cleavor Pare si chiami Liam E no Maverick Aspetta Ci stavo arrivando Liam Ora è lì Perché ovviamente I capitani Nel mondo in cui Viviamo Cioè nel modo in cui Viviamo Isui In leggende Pokémon Archeus Ormai Si è già unito Probabilmente Ma originariamente L'antenato di Raffan Esatto È vero Raffan Raffan si chiama Mi pareva si chiamare Forse Liam in inglese Credo che Liam E tu ce l'abbia Sto per confidenza Sì ma mi pare che si chiami Liam in qualche lingua Comunque Vabbè Il punto è Probabilmente In origine Queste due Scuole di pensiero Queste due Correnti teologiche Si sono create Perché Sinno Era geograficamente divisa E forse gli uomini Non avevano ancora Trovato i Pokémon Mount Capaci di scalare Il monte E portarli Dall'altra parte Quindi all'inizio Erano proprio bloccati Conoscevano solamente Il loro mondo Al di là Del Monte Corona E quindi c'è La corrente Che si è Legata a Paltia E quella legata Di Alga Sono molto Convinto del fatto Che in leggende Pokémon Arceus Scopriremo che Originariamente Il popolo di Isui Autotono Era diviso Torna pure Con i colori di Gastrodon Esatto Che è di quarta Sì sì Secondo me Sì che è di quarta Esattamente Liam in inglese Ecco ricordavo bene A Liam E allora Le scritture di Memoride A cosa ti riferisci? Tom 7 Non ho capito Non ho capito Proprio cosa vuoi dire A Memoride Non ci sono i bassorili Dove sono configurati Tutti i due Vabbè Ma quella è successiva Ragazzi Memoride Non esiste Almeno Penso che fosse Quello a cui si riferiva Noi non sappiamo Penso che fosse L'obiezione Che stava facendo Ora ho capito Ho capito Tom 7 Allora Se Memoride Esiste oggi Non sappiamo Se esistesse ieri E non sappiamo Se Memoride È stata creata Oppure quelle pitture rupesti Sono state fatte Dopo l'incontro Delle due metà di Sinnoh Quello che voglio dire E se è per questo Allora anche gli Stendardi Davanti a Cleaver Che hanno le teste Di entrambi Hanno sia di Alga Che Palkia Cioè noi Andando a visitare Isui Nel presente di Leggende Pokémon Archeus Effettivamente Vediamo che ormai C'è stata una commistione Tra la corrente Palkia E quella di Alga Ma Isui Non si è fondata L'altro ieri Non è nata così Al contrario È probabilmente Cioè ha una storia Molto antica E secondo me Quella storia Parte da La regione Era divisa E gli uomini Inizialmente Non avevano gli strumenti Per scavalcare Il Monte Corona Motivo per il quale Si sono create Due correnti religiose Sì sì ci sei Ma non volevo Eh non lo so Che stai facendo Eh ma Volevo catturarlo Però non so Per quale motivo Cliccato fuga Comunque Avete capito Il concetto è Le correnti Palkia E di Alga Si sono create Perché queste due Parti della società Di Isui Sono cresciute Senza scambi Interculturali Accendi il PC Presso un qualsiasi Centro Pokémon E selezioni il PC Di 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 Leonardo Oggi Per depositare O ritirare un Pokémon Non c'è bisogno di altro Ah puoi accedere Ai box del PC Anche dal menu Principo Se vai al bancone Che si trova al piano superiore E parli con la detta sinistra Potrai cambiare Aspetto Nella sala Contatto Non lo faremo E vai Ho fatto uno scambio Di Pokémon Al club globale Del piano di sotto Mi dispiace Ma non puoi scendere Ai piani inferiori Per ora Ci sono dei lavori in corso Riprova più tardi Ma si potrà Prima o poi Sig sob Sì devo scambiare I due sabacu Il caffè Il caffè Ah dopo la prima medaglia Ok Ci sono tanti tipi di MT Non è facile decidere Quale mossa far imparare A quale Pokémon Grazie Henry della sub Riesco a risubarmi solo ora Dopo due mesi Un po' pesanti e difficili In cui sono stato lasciato E ho avuto problemi Con la mia Persona e la mia mente Vi ringrazio per i momenti Di spensieratezza Anche noi Guarda ti posso dire che Byte Per Shinks Per ora c'è Buono buono Byte Beh gli tolgo lì È presente il condivido di esperienza E non è disattivabile ragazzi Mod Spam Di link In chat Se Volete acquistare Diamante lucente Per la splendente Potete farlo Qui Su Amazon Vengono spammati adesso I link Oppure in digitale Sul Nintendo E shop Se volete Aggiungervi a noi A breve arriviamo Alla Ai grandi sotterranei Cosa? La cava di Mineropoli Si estende fin sotto il mare? Incredibile Non facevo il saperlo Ciao ti do il ben Anzi è arrivata? Guarda ti sto esplorando Tutta la città Per ora non c'è un cazzo Quindi almeno arrivi E andiamo subito Nel punto di interesse Ti do il benvenuto Al museo minerario di Mineropoli Non ho capito c'è? Le bolle Vuoi comprare le bolle? Hai trovato le bolle Ah vabbè sì Una cura bolle Salve tutto bene Io studio i fossili Dei Pokémon Esatto proprio qui Ci sono quasi Manca così poco Per portare a termine Il processo di rigenerazione Dei fossili Qui per esempio Ci aiuteremo Perché io trovo solo Il fossile cranio Nei sotterranei E tu solo il fossile palle Quello mi ricordo Come si chiama? E' quello di Bastion Non ce li scambiamo Ma non ci sono ancora riuscito Cosa? La cava di Mineropoli Si estende fin sotto il mare? Incredibile Non lo sapevo Qui ho sempre trovato carino Il fatto che ci fosse Effettivamente scritta La formazione del carbone Cioè il processo Di formazione del carbone In tempi antichissimi Grandi quantità Di residui vegetali Vennero trasportate Da piogge e fiumi E si depositarono Nel sottosuolo Impressate Questi materiali organici Sprofondarono sempre più Nel terreno A causa delle scosse E delle faglie Provocate dagli spostamenti Delle zole terrestri No scusa Che abilità ha? Upside E' antimeteo Si chiama Cloud 9 Cloud 9 in inglese Molto più bello Bellissimo Con l'enorme pressione E il calore del magma I residui vegetali Intrappolati nel sottosuolo Si trasformarono Poco a poco In carbone In carbonio? In tonio carbone Qui sono esposti Diversi tipi di lampadei Pare che venissero Fissate al capo Per illuminare la via Durante gli spostamenti Sotto terra Gli spostomè? Si Qui sono esposti Degli attrezzi di legno Piuttosto rovinati In passato Venivano usati Per estrarre il carbone Qui sono esposti Campioni di carbone Provenienti da regioni diverse In questa teca Ci sono campioni di carbone Classificati secondo il loro tipo Purtroppo qui non c'è loro Ragazzi ve lo dico Qui ci sono oggetti Che venivano usati Dai minatori Nella loro vita quotidiana Wow E' così E' così questo è carbone Non mi aspettavo Una cosa del genere La città del carbone È vero Wow Deve averlo trasportato Un pokemon fortissimo Questo è un cabone Gigante Si mancano anche a me Cose del genere Negli ultimi giochi È vero Ultima Ultimo edificio da esplorare Si vediamo se Chiara Deve fare qualcosa No Tu fatti pure la chiacchierata Con Barry Guardandoti Rivedo me Ai tempi In cui ho ottenuto Il mio primo pokemon Non riesco mai A decidere Quali mosse Voglio far imparare Ai miei pokemon Hai davvero Un'ottima squadra Se la alleni come si deve Potrebbe divenire fortissima Se io fossi in voi Andrei ad allenarmi Nella cava di Mino Rubberley Ci andiamo Ci andiamo Ah non stavo continuando A parlare Lo all Pensavo che dovesse dire altro E intanto c'era Ok nella casa destra C'è una megaball Il mio pigica Comincia a stiracchiarsi Sai i pokemon Passano un sacco di tempo Nelle loro pokeball Io cerco sempre di capire Quale sia la pokeball più adatta Quando ne catturo uno Canon Canon È canon I lavori della cava di Mineropoli Vengono condotti Con la massima cautela E per evitare di causare danni All'habitat naturale Dei pokemon Dov'è che posso trovare Le case dove sei tu? Vai avanti E poi a destra Il sistema di trasporto Del cabbone È completamente automatizzato Nessuno deve rompersi Da schiena Proprio qui E vai solo al piano di sopra No al piano di sopra Sì c'è un bambino Con la megaball È un fra Un fra Sì è un fra anche lui Che fra Non la scuro boll è vero Scuro boll non matcha con niente Praticamente E poi scendi Ti aspetto La scuro boll Verde rosso La scuro boll Sì lo so Di che colori ha la scuro boll La scuro boll Vieni prima di sopra Vieni prima di sopra Più sopra Così Passo il fenicottero E vai Quella pista è troppo scivolosa Ti ci vorrà una bicicletta Per salire in cima Non hai una bicicletta Fottiti in culo Ok No ne vado a polizia Un negozio Prendiamo quell'oggetto Che bello Eterna city Eeeh No Che bel nome O Eeeh No È vero Non ho trovato nessuno Cosa? Non hai trovato niente? Niente Io ho trovato un O Eeeh Io ho trovato ora Mi chips Se vuoi fare uno scambio Giù ti danno Abra per mi chips Se ti interessa Abra No Eh no Anche perché non può diventare la Kazama A meno che non me lo scambio Ma io non lo odio Ma lo devi ridare No 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 In questo me lo tengo No no Mmm Forever Finito il pollo E' C'è la pizza al male Ma non la voglio più anche io voglio un caffè ma non voglio alzarvi voglio continuare a giocare shabakun sana livello 5 shabakun secondo oh eeeh no molti vivono sui sentieri montane e rimangono parzialmente sepolti nel terreno a osservare gli scalatori come quel chad che abbiamo trovato nelle carte quanto era chad questo lo chiamo oh eeeh no io ragazzi oh eeeh no oh eeeh no ho trovato una pokeball mamma mia che godurio ci sono le bacche sui ah no lo dovevo chiamare con il colore il prossimo scusatemi ecco lui il miships che ho appena trovato miships lo chiamiamo grazie obscure link volevo solo sfruttare questo messaggio per ringraziarvi del tempo che usate tutti i giorni per intrattenerci buon proseguimento di live e anche se sono team platino stavolta sono obbligato a dirlo forza team diamante si poga ragazzi la mossa chad la mossa chad si abuso della parola chad fermi la mossa chad la mossa chad no come la chiamiamo oh eeeh dai di nuovo mossa chad non ha funzionato la prima volta ma la seconda funziona sempre ma se è divino da rimo chad da rimo chad maccio da rimo chad penso potrebbe entrare nelle mie cosa? varianti preferite da rimo chad no mo chad da rimo chad è bellissimo è come chad andrea muia gray angela cioppino match up maccio capa tomba lazzarin dico vince niente non lo chiamerò qui siamo tutti orgogliosi della cava mentre noi siamo qui a chiacchierare lì cercano il carbone sotto il mare è incredibile come riescano a farlo incredibile raga è proprio assurdo wow wow we're no computer match up e forzuto e ben allenato basta un chop chop e il masso è spaccato perché si può andare qua? non lo so cioè che cosa c'è un leggendario lì nei ricavi di poter andare qua stai visitando la nostra cava? fantastico fai proprio bene è importante imparare nuove cose e allargare i propri orizzonti mi staccato ha detto che sono in no no devi venire giù dov'è giù? è giù qui siamo tutti orgogliosi della cava si si qua qua eh andiamo giù ancora più giù destra portiamolo su 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 qui c'è un secreto portiamolo su 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 no non c'è nessun secreto? non c'è nessun obgetto secreto? vabbè parliamo con lui non c'è dubbio è un lavoro molto molto duro però sono assieme ai pokemon e questo basta per darmi la carica tieni prendi grazie ad ego villa grazie per questi momenti insieme vi seguo dal video teoria su volcanion hai ottenuto la super pozza hai messo la super pozza nella tasca rimedi quando sono pieno di energie sorrido e quando sorrido sono felicio sono felicio eh merda tutto mi aspettavo tranne che tu dicessi eh yeah che dovevo dire much obliged ma ho fatto il curo di epicuro oppure no non ho fatto il curo di epicuro ragazzi no he'll run tutti quelli che lavorano nella cava hanno con sé dei pokemon e può capitare che ti sfidino ahah c'erano dei pokemon che sembravano delle rocce che strani che bizzarri che buffi e paffuti questi pokemon che carini è vero allora guarda aspetta no hai ragione facciamolo vedere un attimo perché io ne ho goduto in realtà nella mia blind guardate anche quando il bokeh è usato così quanto è bello nel senso vediamo leggermente sfocato perché non è a fuoco a fuoco l'allenatore no a me piaceva un'altra cosa il fatto che il nastro ti blocca la strada qua perché effettivamente è troppo basso e quindi devi prendere la scala per poterci passare sotto perché se no di qua non ci puoi passare è figo e poi man mano che tu continui a scendere in realtà il nastro è praticamente dritto e quindi si allontana sempre di più ragazzi io ribadisco è molto carino io ribadisco quanto detto in recensione graficamente top non mi piacciono alcune cose dell'art style però graficamente quasi come vi dicevo nei trailer mi viene da dire che pokemon dovrebbe tornare alla visuale top down perché nella visuale top down è quantomeno pulito poi ti può piacere l'art style e nel mio caso non mi piace ma ti può piacere o no però capito è possibile comunque notare che il gioco è pulito il gioco è pulito si si il nastro che blocca c'era anche nell'originale però l'effetto bokeh no chiara però il gioco originale non l'ha giocato è blind ho fatto una fune di fuga anche a me vulpa danno fastidio gli zoom sui cibi l'ho messo anche in recensione ora quando la guarderete lo vedrete gli zoom sui cibi secondo me non sono eleganti ed è un peccato perché invece sopra così è bello pulitino il gioco ho incontrato questi Meechips sul percorso 207 e ora sono diventati i miei più fedeli compagni Meechips aiuto sapevo che ti avrebbe fatto paura ti svelerò un segreto ho portato il mio pokemon a lavoro di nascosto tu sei già contro Mario Maria Mario guarda acqua va bene acqua contro Jaws no che fai perché ragazzi poi con Michele non posso fare queste cose devo essere tutto lì serio no Michele fermo Geo devi usare l'acqua con Chiara fatemi trollare un pochino trollare perché mi piace usare le r non lo so mi fa ridere ma quando mi hai imparato charm Empoli Empoli ma tu tu contro chi sei non lo so perché Giorgione Panfili è incazzato nero secondo me no Empoli è colpito dalla secondo me il problema sono anche i cibi vulpa nel senso che i testoni sono veramente tanto grossi mi piacevano di più le proporzioni di oen di oras dove su ad oen erano meno grandi le teste ma io non ah no io ho preso le pozioni sono stato intelligente tortisio vuole imparare le lame che fogliano le foglie che lamano via azione allerta meteo scuole chiuse perché c'è la tempesta e guarda Marcolino probabilmente ovviamente essendo qui a moderare non hai visto il video ma dico esattamente questo che in diamante e perla questi esseri viventi non sono cibi non hanno il testone hanno la testa grande solamente perché è il modo in cui si rende in pixel art un essere antropomorfo è come dire che in omori l'autrice si è immaginata gli uomini col testone non è così quindi vederli convertiti con questa testa particolarmente grande fa strano eh no tanto Pedro non vuole far la luce ora però se qualcuno vuole far la luce muoio comunque ragazzi per darvi un attimo un'idea del leveling chiaramente qui arriviamo con Pedro che ha il più forte pokemon al 14 e noi che siamo intorno al 14 con il nostro pokemon più forte ma è la prima medaglia e ancora i pokemon non sono molto amici nostri quindi pensate quanto si arriverà a livellare nel corso del tempo no buono buono Mario 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 ok spostati e stai a guardare usando la MN spaccaroccia anche un masso che ti blocca il cammino Franco per liberarsi dai massi che bloccano il cammino bisogna spaccarli se riesci a ottenere la medaglia della palestra che c'è qui in città riuscirai a farlo anche tu chiaramente per vincere la medaglia devi battere il capo cioè me lo dice d'accordo allora approfitterò di questa lotta per fare una piccola per fare una piccola pausa da lavoro che falle non vuole switchare lo vorrà catturare boengo allora oh è andato andato? come la chiamiamo? geoduda geoduda è una femmina? è una femmina geoduda è una diuda un po' basic ok shabaku fa l'8 shabaku impara a sottocarica bat bat sale al 9 un po' basic onyx c'avrà vigore quest'onyx arriva il rafforzato ma ma davvero? secondo te da quante ore siamo in live non guardate? da 4 ore si ragazzi sono già 4 ore io pensavo fosse un'ora no si ragazzi siamo già in live da 4 ore sasso geoa georgia bello georgia perché georgia della geo quindi è della terra anche femmina bella georgia mi piace un sacco fune di fuga fune di fuga come non ho imparato foglie lama? e che ho fatto? ma come cazzo ho fatto? abbiamo fatto il giro al contrario ma che ho pigiato? ragazzi non ho imparato foglie lama vabbè sti cazzi dai la imparerò perché non ho imparato foglie lama? eh si abbiamo selezionato la lingua dopo un'ora perché stavamo finendo il video eh si tu rudo perché continuate a rescino davanti? quanto quanto ha foglie lama in più di fogliame? ma come ho fatto? ho premuto B? a spammare B per correre ho fallito 15 BP in più vabbè sti cazzi si farà senza 15 BP in più eh si vabbè easy si sopravviverà senza quei 15 BP rendiamo la run più difficile il fatto è che è critta è quello il fatto anche fogliame ah però 95 di precisione dai dai va bene foglie lama è fisica però lui è fisico eh come fogliame speciale davvero speciale fogliame no è fisica ok 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 allora qua oh no Empoli Empoli usa pistola non so che cosa ho pigiato per fare in modo di non impararla ragazzi mi spiace ma se sono entrambi fisiche sti cazzi eh lo so che critta i crit reti o è goloso però tanto finché non arriviamo la ricorda mosse non gliela possiamo insegnare quindi rip chica chica e anche chaccia non impara qualcosa di migliore tipo frustata certa no imparo solo mosse d'erba speciali d'ora in poi mamma mia tartuid mamma mia tartuid mi ha tornato intanto le scuole cuore si trovano di sotto sì sì ma tu stai scappando dagli incanti osservati cioè li stai facendo no li faccio se capitano li faccio madonna foglie lama fino a quando non puoi fargli ricordare voodemmer ma che cazzo vabbè mazzo legno è mossa uovo non lo so no no che resettino che non abbiamo io non ho mai salvato ragazzi vabbè sti cazzi tanto dobbiamo cioè non è che se va via la luce succede qualcosa no switch allora torniamo al centro pucci ok da qua non si passa immagino no no devi andare a casa dove stai qua all'ingresso ah giusto che si trova se mitraglia sì sì abbiamo fatto tornare Pedro adesso andiamo a fargli il culo ma in teoria se io porto la sink box qua cos'è la sink box quelle ue sinkano sì sì eh no però aspetta però devo fare eh no fanculo un burdello adesso la tua squadra è in perfetta forma troppo burdello a rivederti io voglio farò un caffè vuoi farti un caffè facciamo la palestra e caffè sì eh sì io non li ho altissimi comunque a che livello ce li hai 12 tipi io 13 eh sì però aspetta 12 tipi no 13 siamo uguali ah ok 13 13 10 9 11 10 guarda 11 10 siamo lì eh 13 12 ok no in realtà di meglio sono più alto io ma vedrai ma non si può livellare meno di così ragazzi in questo gioco infatti ho visto dei commenti magari in giro su facebook di gente che diceva ma no in tutto sommato si livella poco mi sembra strano ragazzi io ho parlato anche con altre persone che hanno giocato il gioco e tutti hanno avuto l'impressione che si livelasse un fottio a meno che non vai a dare l'erbe marcia ai tuoi pokemon per farli diventare tristi vabbè anch'io saliamo come si salva qua ah c'è un tasto apposta per se perché hai evitato di fare il giro largo perché ti voglio fare il culo voglio prenderti il piscelli ah ma si può schippare il tipo guardiamo ci sono persone che stanno giocando con noi e carpe diem dice lì ho su 12 e 13 bella lì ma si può schippare il tipo si si può schippare ma anche l'altro volendolo schipp si si schippa ma perché no ma non ho detto che voglio schipparli sposta perché perché ci sei all'inizio magari non ce la fai ma che fogliame ti ho tirato in il viso proprio che palestra brutta comunque ebbè la prima palestra questo lo è giustificato cioè nel senso moggi si abbona per l'undicesimo mese finalmente siamo tornati a sinno quanti feels comunque c'è il best starter e buddiu è un vp sto totale ragazzi 3341 sub meno 659 al sub goal dai dai il millino ma qui non c'è l'alone dai il millino no è vero perché what is the sense perché perché c'è il buio intorno quindi non c'è il reflection mi sa no no c'è c'è io non vedo tanto reflex no prima si ho visto il reflection l'ho visto secondo me il reflection guarda è dove è più importante ma l'ho visto l'ho visto prima sì 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 no non mi fido io glieli vedo i calzoncini il raso palle ecco è visibile ok ora c'è il dubbio guarda 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 si vede guarda si vede si vede si vede lì c'è tutto quanto guarda ce l'ha è a posto è giornale c'è tutto l'organo sessile proprio ragazzi ma chi se ne fu lo so ho capito ma io volevo semplicemente dell'acqua normale all'esterno sono coloro che vogliono vincere davvero solo coloro che vogliono vincere davvero possono affrontare un capop grazie che ci mette il millino grazie visioni di palle ora continueremo a chiamarlo capop capop o capop oh eh no anche secondo me è velio se che non riflette bene come l'acqua e quindi hanno detto vabbè lo lasciamo però nell'acqua dove riflette tanto tanto lo togliamo che balle infatti anche nella anche l'arena della capopalestra ghiaccio è censurata critulello 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 ma non si evolve Mario al 14 mi pareva si evolvesse al 14 Cimchar Turtisio o forse non si evolvono al 16 di starter Cimchar al 14 si alcuni al 16 ma Cimchar al 14 mi sa che invece Turtisio al 16 io voto al 16 è proprio è proprio lo starter dei nabbi Cimchar infatti l'ho preso io grazie a Claire della sub no questa è la scelta Chad ragazzi la scelta Chad è per forza Turtisi Turtisi 18 Turtuig al 18 mamma mia Turtuig al 18 Turtuig non si evolve rimane così per sé sono tre starter e lui è questo è finito e P-Flop 16 credo ci siamo? sei all'ultimo? penso di averlo dai let's go salvo aspetto ti salvo metti che perdi contro Mario c'hai P-Flop è super efficace però è una tradizione Turtuig al 18 involve il nuovo diventa briciole al 18 ti si sgretola in mano se volvi prima perché è il più scarso salve benvenuto alla palestra di Mineropoli io sono Pedro il capo palestra sono un allenatore che ha dedicato la propria vita ai pokemon di tipo Rocha Rocha in quanto capo palestra il mio compito è quello di fare del valuto potenziale di allenatore per farlo dovrò mettere alla prova i pokemon che lottano con te ragazzi no no aspetta momento vibing quanto è bella la nuova musica di capo palestra a me piace troppo la ripresa del tema principale che fanno i bassi piccolo discorso che in realtà riprende ciò che Chiara stessa mi ha raccontato qualche giorno fa qualche settimana fa Chiara mi diceva che Marco le diceva che gli uomini sono tra i pochi animali assieme ai pappagalli a conoscere il senso del ritmo riconoscere uomini e pappagalli non a riconoscere a provare piacere nel prevedere perché hanno il senso del ritmo lui ora naturalmente mio amico è un medico me l'hanno conosciuto si è Marco quello delle live horror di Silent Hill me l'ha spiegato in maniera molto semplice e io me lo ricordo il giusto però in soldoni il punto era pappagalli e umani sono in grado di avere grazie al senso del ritmo letteralmente una scarica di endorfine nel momento in cui grazie al loro senso del ritmo sono in grado di prevedere come continuerà la musica del motivo per cui le cose a tempo ci fanno piacere detto questo la musica di sinno a parte questa che è propriamente elettronica la musica di sinno è quasi tutta jazz e quindi ha un sacco di tempi storti questo significa che in realtà l'uomo prova anche un sacco di piacere nell'ascoltare musica che invece non riesce a essere prevedibile prevista è il figo del genere progressive rock progressive metal e appunto del jazz il fatto che tu ascolti la traccia e dici cazzo mi aspettavo che ci fosse il colpo e invece non c'è c'è quel sussulto del doveva esserci una cosa e invece non c'è è storta è imprevedibile matt rock vabbè poi lì abbiamo matt rock il matt core dei Dillinger Escape Plan proprio roba protest the hero grazie il mio nickname deriva dall'album dei protest the hero che però è scritto con la I e la musica di Sinno è quasi tutta jazz perché è la musica di Dio è la musica del luogo nel quale l'uomo si avvicina alla creazione quindi un luogo che non può comprendere un'atmosfera che non può del tutto prevedere quindi secondo me è perfetto il genere musicale scelto per Sinno perché non poteva essere altrimenti laddove secondo me anche su Galar si è fatto un'ottima scelta Galar è la terra degli influencer dello sport dell'essere smart jazz e allora c'è l'elettronica che sono i sintoni la gente che urla qui c'è il jazz perché è tutto strano è tutto eerie perché mi avvicino alla casa di Dio e quindi non la riesco a comprendere al cento per cento blindfold aside io di là ho la LTD che usano i protest the hero in quell'album anche se in Italia che musica ci sarebbe è bella quella rimane proprio dentro un pezzettino del mio cuore in Italia sarebbe bellissimo atmosfere neomelodiche no joke beh se funziona no joke non sto scherzando se funziona Psycho Social Baby perché non dovrebbe funzionare capito un po' di è l'ocrio se non sbaglio il modo delle canzoni napoletane qualcuno può confermarmelo qualche musicista ormai i miei studi sono sono troppo lontani è mandolino uno strumento ragazzi cioè proprio è il genere il punto è il locrio che non è forse non è il locrio è il non so che ti riferisci i modi musicali lirica anche ci potrebbe stare in alcuni punti non so se c'è qualche musicista collegato che questa è una cosa proprio da nerd musicisti dopo scrivo Giacomo no doppio team vabbè si doppio team si tanto che cosa li tolgo ruggito vabbè l'ocrian assolutamente no eh qual è allora mi solidio io non ho proprio capito la categoria eh allora i modi musicali sono immaginateli è lungo da spiegare come delle scale ok ci sono le canzoni neomelodiche che vanno su quei intervalli di note lì ah vabbè ok 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 e la neomelodica ha un nome? non è che ha un nome abusa di una di quelle ok frisio bravo bravo certo certo che è frisio bravo bravo god drago bravo è il frisio ovviamente il frisio bravissimo si 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 ho trovato qualcuno che capiva cosa stessi dicendo frisio bravo bravo assolutamente frisio let's go arrivano le rocce che levitano tu hai finito? penso si hai zergata ha due pokemon non ne tre telepini tre ciao allora manca il terzo franco blog ma che posioni ma cosa posioni che ti tiro le foglie che tagliano e fanno fzzzz e tu ma non gli fai male come non gli faccio male gli fai male? con le foglie per quattro davvero? gli faccio molto male perché erba è forte sui gocci perché taglia le rocce perché cresce il muschio sulle rocce ma quindi lui è debole a due starter su tre yes in realtà tre su tre perché chimchar impara a mosse lotta è debole a tutto lui è un tutorial però almeno colpisce neutro aia tutti io no aspetta oh premi mia le radici anche stiamo tornando al video dei tipi dopo sei anni esatto ragazzi doppio timo nostro malgrado io ho toto ho toto growl nostro malgrado la teoria sul sui nuovi momenti di animazione durante i dialoghi dei capi palestra è sbagliato era sbagliata no ce le hanno ma devi stare fermo per vederle ci sono dei momenti in cui vengono inquadrati i capi palestra e fanno dei gesti ora vediamo se viene fuori ma non semplicemente durante i trailer hanno tolto la caudi non li puoi vedere davvero in quel modo guardate ora vediamo se succede ci sono certi momenti in cui i capi palestra si muovono fanno delle gesture e intanto hanno dei movimenti di camera ma non sono animazioni esclusive dei dialoghi guardate vediamo se viene fuori dai Mario sempre fermo per ora l'ha fatto prima mentre era inquadrato dall'alto ma lo fa solitamente anche quando è inquadrato da altre tipologie di inquadrature li fanno ma solo off screen quando non si vedono durante la recensione ve ne ho anche presi alcuni ora vediamo se lo fa se no si va avanti ma vi assicuro che è così no jokes niente non ha voglia di muoversi ce n'è uno con fanni che ti ho visto a un certo punto usare la tipa con i capelli a palla ecco è quel gesto di merda lì che fa anche quando quando fa attaccare si fa desiderare il ragazzo si va rotto non può essere non posso arrendermi not yet not yet vedi 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 let's go fogliame grazie axember della sub ragazzi meno 48 sub alle 3400 intanto e i poggeroli sono importanti in questo momento è rimasto in pietretto sicuramente impossibile i pokemon che avevo allenato con tanta cura sono diventati dei pezzi di palle è imbarassanti ho perso contro un allenatore che non ha neppure una medaglia che è quello che succede con tutti gli allenatori che ti vengono a sfidare amico le regole della lega pokemon sono chiare chi batte il capopalestra riceve una medaglia tieni ti consiglio ufficialmente la medaglia molto più molto più ufficiale è molto più terra terra colloquiale ma ma neanche cioè tu sei stato forte io sono stato debole molto proprio più sul personale piuttosto che le regole sono chiare io sono la figura del capopalestra hai ragione qua è molto più una cosa tu sei forte io sono debole quindi è così che deve andare hai ragione hai ragione è vero no però aspetta però qui lo dice però a te non l'ha detto non credo non credo no non credo a meno che non lo abbia schippato per sbaglio ma non credo ora che hai la medaglia a carbone puoi usare la mossa MN spaccaroccia al di fuori della lotta tieni sei forte ok allora facciamo caffè e aggiornino si ci sto quindi Ferdi Plox Levito roccia buona ci mettiamo la medaglia io poi mi voglio tenere sicuro in squadra sia Sasha che è attualmente Boodyoo sia Shino che è Shinx e penso anche Starama che è Starly mentre Bidofra e come cazzo si chiama Zubat Carlita Carmelita mi ricordo più Carmilla come me l'aveva il fatto di chiamare non lo so Bidofra e Zubat mi sa che ancora non sono non sono titolari no a me Ferdi metti quello che c'è cioè quello che vedi ah facciamo quello che c'è basta io quello che c'è vai allora facciamo in questo modo è la fotografia la prima medaglia e aggiorniamo dopo ogni medaglia si si sta e vediamo chi c'è visto che non abbiamo deciso ok allora facciamo in questo modo la squadra che abbiamo attualmente post prima medaglia e poi la aggiorniamo di nuovo alla seconda medaglia grazie Shinyweavile fra un po' viene un mio amico a casa e speedrunniamo diamante insieme a voi un abbraccio forte highway to godopoli bravi speedrunnate arrivate dove siamo noi che si va grazie all'astone della sub che con tutti i sub poi si va nei sotterranei tra pochissimo tra l'altro manca veramente poco guarda si ti vado avanti io intanto dobbiamo tornare tornare indietro curato beckro c'è il beckro curato curati no diamo un'occhiata alla mappa città come fai a togliere il pokékron come fai a togliere il pokékron si e tieni premuto r ah premuto ok boom wow checco ti sei preso la medaglia la prossima si può conquistare evopoli giusto per quello sono andato al percorso 207 ma per passare serve una bicicletta comunque ho allenato la mia squadra ora è molto più forte allora io torno alla città del giubilo prossimo obiettivo la medaglia della palestra della città dell'Evox 10 secondi al lancio 9 bah chi ha tempo per un conto alla rovescia ma perché è così di corsa lo spiegano mai no è un pazzo scatenato è un pazzo scatenato è un pazzo scatenato ovuncino